Bene, signori, buonasera a tutti. Chiedo al segretario se c'è il numero legale. C'è il numero legale. Dichiaro aperta la seduta del Consiglio Comunale. Scusate, un po' di silenzio per cortesia. Nomino scrutatori per la seduta e consiglieri. Vito Palmisano, Marco Bonazza, Francesco Ribetti. Riccardo Piccinato, che è una garanzia, che è sempre presente. Risulta assente il consigliere Salvador e il consigliere Loperfido. Arriveranno in ritardo i consigliere Delben, Lopipero e Martino. Comunico che i sensi dell'articolo 30 del regolamento del Consiglio Comunale, verbale della seduta precedente è messo a disposizione dei consiglieri, anche in formato digitale, e che può essere consultato anche con l'ausilio del computer presente in sala consiglieri. Qualora entro la fine della seduta non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione. Comunico al Consiglio l'esito della riunione della conferenza dei Presidenti. Allora, l'ordine dei lavori seguito questa sera verranno dedicati i primi 60 minuti alle interrogazioni, dopodiché si passerà all'esame della deliberazione fino al loro esaurimento. Dopodiché, se rimarrà del tempo, affronteremo le mozioni con chiusura della seduta alle 22.30, salvo che le deliberazioni richiedano più tempo. Chiedo al Signor Sindaco e al Signor Comunicazione, non ci sono comunicazioni. Bene. Allora, sono le 18.40. E iniziamo con le interrogazioni. Allora, proponenti, Consigliere Bonazza c'è, pertanto. Allora, interrogazione numero 49. Scusate. Oggetto, trascrizione nel registro di Stato civile di un atto di matrimonio contratto all'estero tra due persone dello stesso sesso. I sottoscritti consiglieri comunali del Partito Democratico, Gregorio Martino e Marco Bonazza. Premesso che, notizie di stampa dei giorni scorsi riportavano alcune dichiarazioni del Sindaco Pedrotti circa l'intenzione di trascrivere nel registro di Stato civile un atto di matrimonio contratto in Sudafrica in data 2 ottobre 2013 tra due persone dello stesso sesso residenti a Pordenone. La suddetta intenzione si è concretizzata in data 21 ottobre 2014, come dichiarato dallo stesso Sindaco e come riportato dalla stampa locale. L'azione del Sindaco è contraria alla legge, secondo quanto prevista dalla Costituzione, dal Codice civile, dalle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, nonché dalle indicazioni europee, le quali rimettono ai legislatori nazionali le decisioni in materia, tutte norme richiamate nel circolare del Ministro dell'Interno Alfano, datata 7 ottobre 2014, che per pronta visione si allega in coppia. I Sindaci, nell'esplettamento delle funzioni in materia di Stato civile, anagrafe e servizio elettorale di competenza statale, sono degli ufficiali di Governo in quanto delegati dallo Stato nelle suddette materie e, pertanto, agendo in qualità di organo di amministrazione indiretta dello Stato e non quale vertice dell'ente locale, devono solo applicare la legge e non fare delle scelte politiche. L'articolo 29 della Costituzione sancisce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio e, nello specifico, comunione tra persone di sesso diverso, come sancito anche dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 138-2010. I sottoscritti consiglieri comunali ritengono opportuna e necessaria una regolamentazione da parte del Parlamento che colmi il vuoto normativo in materia di diritti civili. Sull'argomento non vi è stato un dibattito all'interno del Consiglio Comunale né tantomeno la questione appartiene all'azione programmatica dell'amministrazione comunale. Tutto ciò premesso i sottoscritti interrogano il Sindaco per sapere 1. Quali siano state le motivazioni che l'hanno spinto ad operare in tal senso, sapendo che la suddetta trascrizione non avrebbe prodotto effetti giuridici, non rispettando inoltre la legge come indicato nella direttiva Alfano. 2. Se ha agito autonomamente per propria convinzione personale sull'argomento oppure se è frutto di un confronto all'interno della Giunta. 3. Se non ritiene che avrebbe potuto utilizzare altre modalità per affrontare la questione. Pordeniamo il 22 ottobre 2014 firmato dai consiglieri comunali del Partito Democratico Gregorio Martino e Marco Bonazza. La parola signor Sindaco, prego. Grazie Presidente, buonasera a tutti voi. Dunque, ritorniamo indietro per un attimo al 20 ottobre del 2014. Comincerei così la mia risposta. Quando, attraverso un ordine di servizio, ho appunto indicato che questa trascrizione doveva essere fatta. L'ordine di servizio, lo leggo per poi avere gli spunti per articolare la risposta, che cosa prevedeva? Cosa dice? Dice che si premette che le norme di diritto internazionale privato attribuiscono ai matrimoni celebrati all'estero tra cittadini italiani e stranieri immediata validità e rilevanza nel nostro ordinamento, sempre che essi risultino celebrati secondo le forme previste dalla legge straniera e quindi spiegano effetti civili nell'ordinamento interno dello Stato straniero. Era il caso in esame, ma andiamo avanti. Quindi, premesso questo, è considerato che con la legge dell'articolo 28 della legge 218-95, che prevede che il matrimonio è valido quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dallo Stato di comune residenza in tale momento. Poi, riferendoci all'articolo 65 della medesima legge, che dispone che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza dei rapporti di famiglia o al diritto di personalità, quando sono stati richiamati dall'autorità dello Stato in cui la legge è richiamata o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, purché non siano contrari all'ordine pubblico. Infine, che il matrimonio è valido quanto a forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione e dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione della legge dello Stato di comune residenza in tale momento, che hanno effetto in Italia provvedimenti stranieri relativa alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, nelle norme del Codice Civile, articoli 84 e 88, non è individuabile alcun riferimento allo sesso in relazione alle condizioni necessarie per contrarre il matrimonio, arriviamo al punto, non è previsto nel nostro ordinamento alcun ulteriore impedimento derivante da disposizione di legge alla trascrizione di un atto di matrimonio celebrato all'estero secondo le forme previste dalla legge straniera e che quindi spieghi gli effetti civili nell'ordinamento dello Stato dove è stato celebrato non avendo tale trascrizione natura costitutiva ma soltanto certificativa e di pubblicità di atto già valido di per sé sulla base del principio tempus regit actum. E queste sono state le motivazioni. C'è un'aggiunta, ovviamente, si dice, auspicando che il Parlamento corrisponda al più presto all'invito rivolto gli dalla Corte Costituzionale approvando subito una disciplina di carattere generale finalizzata a regolare diritti e doveri delle coppie di persone dello stesso sesso riconoscendo un diritto fondamentale. Questa è stata la premessa ma in realtà volevo un po' arricchire il contesto rifacendomi ad alcune informazioni a lato e cioè voi avevate sicuramente seguito prima del 20 ottobre che il cittadino pordenonese Francesco Furlan sposato in Sudafrica con il cittadino sudafricano Derek Wraith è stato riconosciuto, Francesco Furlan, coniunge di Derek dalla Questura di Pordenone. Questa era avvenuta adesso, non ricordo esattamente la data, diciamo un paio di settimane prima e basandosi, diciamo, su questa attestazione, su questa assunzione, la Questura di Pordenone aveva rilasciato la carta di soggiorno permanente al cittadino sudafricano in quanto coniunge di cittadino dell'Unione Europea. Questo era stato il primo tassello delle nostre contraddizioni. Alla fine la Questura di Pordenone basandosi sui documenti presentati aveva riconosciuto questo legame affettivo e aveva quindi deciso di dare per queste motivazioni la carta di soggiorno. Parlando, diciamo, delle contraddizioni e quindi di quello che si veniva a creare, si veniva ad avere una situazione per cui Francesco Furlan risultava celibe da un punto di vista della nostra anagrafe, ma coniugato da un punto di vista della Questura. Una specie di contraddizione, però questi sono di fatto gli atti. Allora, questa potenziale situazione che potrebbe portare ad una vera bigamia, perché nel frattempo nulla avrebbe vietato a Francesco Furlan di quindi presentarsi e di presentare delle pubblicazioni per un matrimonio in Italia, ha portato ad una situazione in cui, anche da un punto di vista pratico, come sindaco, ma soprattutto come viene sottolineato, come ufficiale, il fatto di dare pubblicità allo stato di questa persona, che quindi risultava sposato, pubblicità, abbiamo stabilito prima, l'ho letto chiaramente, non ha delle conseguenze pratiche, è semplicemente un'informazione che veniva ascritta alla nostra anagrafe, mi è sembrato un obbligo, un obbligo proprio pratico. Questo, volendo usare un profilo veramente giuridico e, diciamo, di interpretazione e utilizzo delle norme. È chiaro che la motivazione forte alla base sta nel concetto di dignità, perché io penso che il ritardo, come abbiamo anche detto, nell'auspicare che il nostro Parlamento, in questo senso, si stia da fare, per stabilire una volta per tutto e fare chiarezza su questo fronte, sia il vero motore e la vera motivazione di un'azione di questo tipo, che non è stata certo solo mia, ma di altri sindaci in Italia. Quindi aggiungerò un finale su quanto poi è successo con la Prefettura. Quindi queste sono le motivazioni, molto pratiche, ma di fondo una convinzione profonda che questo è un atto che, pur, sappiamo bene, non ha degli effetti pratici da un punto di vista giuridico, eccetera, costituisce un segnale, un forte segnale relativo ai diritti e alla dignità delle persone. Che cosa, quindi, voglio essere preciso, queste sono le motivazioni. Se ho agito in autonomia, no. Abbiamo discusso all'interno della Giunta più volte di questo tema, perché era giusto, penso, ed era ovvio che questo venisse discusso, e il consenso sul fatto di fare questa trascrizione all'interno della Giunta è stato espresso. Se non ritiene che avrebbe potuto utilizzare altre modalità per affrontare la questione, ma sinceramente no. perché, da un punto di vista pratico, se io voglio dare pubblicità ad un'informazione di questo tipo, questi sono i mezzi che noi abbiamo a disposizione, le informazioni che noi possiamo pubblicare. Però, volevo sottolineare che è evidente che un'azione di questo tipo, che è un'azione appunto simbolica, i suoi effetti li ha prodotti, visto che anche il Presidente di questa Regione, Deborah Serracchiani, nella doppia veste come Vice-Segretaria nazionale del PD, ha espresso la sua solidarietà ai sindaci e si è fatta portavoce e ha dichiarato, ha fatto proprio su una proposta del Movimento 5 Stelle, si è fatto proprio una proposta del Movimento 5 Stelle per impegnarsi a fare tutto quanto in suo potere come Regione Friuli-Venezia-Giulia, affinché il Governo chieda ad Alfano il ritiro della circolare e il Governo stesso si attivi su questo fronte. L'ultimo passaggio riguarda la parte della Prefettura. Voi sapete che adesso con una rapida sequenza alla fine la Prefettura ha mandato un suo incaricato e ha cancellato questo atto. È esattamente quanto è successo a Udine e sicuramente avrete letto sulla stampa che il ricorso che è stato presentato a Udine dalle persone coinvolte da questo annullamento ha portato il PM ad esprimersi contro il quanto fatto in Prefettura perché questo non rientra di fatto in quello che la Prefettura poteva fare su un atto di questo tipo che invece doveva essere io qui non ho diciamo la terminologia legale per probabilmente fare una sintesi e quindi la lascio per vostra consultazione ma in buona sostanza sottolinea che questo atto poteva essere cancellato semplicemente da un giudice non da un prefetto perché non rientra tra i suoi poteri i suoi mandati effettuare una cosa di questo tipo e per questo che con è stata richiesta l'archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Udine di Udine procura procura no 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 per carità di Dio non ho usato il termine Cassazione io ve la riporto comunque penso che possa essere utile fermi tutti io volevo completare completare da un lato la risposta e da un lato anche fornirei gli elementi di quello che era successo visto che non siamo l'unico comune che è stato interessato da questa vicenda per vostra completezza e vostra completezza di informazioni nella mia risposta grazie se volete possiamo anche distribuirla se volete credo che sia pubblica ovviamente ma la distribuiamo volentieri grazie signor signor prego consigliere Bonazza grazie presidente della parola ringrazio anche per le motivazioni espresse dal sindaco che mi permette di esprimere però un punto diverso i diritti non hanno colore politico la vita e la famiglia non è di destra o di sinistra né tantomeno di una sola religione i diritti e i valori etici appartengono ad ogni persona perché ne fanno l'identità e la dignità la presenza nella società degli omosessuali ha sempre fatto discutere e a seconda delle epoche diverse sono state le regole che ne hanno permesso o meno la loro presenza in altri paesi come gli Stati Uniti questi temi hanno portato a scontri e proteste prima di avere delle leggi sull'argomento il dibattito alimentato dalla stampa e anche tutte le varie fasi che appena ha descritto il sindaco porta a tante dichiarazioni e parole che sono state usate anche in modo improprio facile stare agli slogan ma non è onesto pensare che il dibattito si svolga sulle parole civiltà progresso modernità libertà come se pensarla diversamente significa il contrario incivili intolleranti arretrati il dibattito per farsi democratico dovrebbe liberarsi da alcuni giudizi a partito preso dovremmo essere capaci di abbassare i toni del conflitto per trovare le parole che non offendono rispettando l'identità di ciascuno ed evitando coercizioni a chi la pensa diversamente anche le parole di Papa Francesco sono state strumentalizzate anche recentemente ha richiamato il concetto di famiglia come un fatto antropologico né progressista né di retratezza riconosco come anche già sottolineato dalla Corte Costituzionale e dalla Corte Europea che prima aveva citato anche il Sindaco che l'unione omosessuale vada regolamentata dall'organismo competente che è il Parlamento il gesto però compiuto dal Sindaco mi fa trarre delle conclusioni positive e negative prima con gli aspetti positivi si è stimolato il dibattito ne do atto si è sollecitato il Parlamento ha fatto regiferare sembra che ci sia la Commissione che abbia messo in moto di più il proprio agendo lo stesso Presidente del Consiglio Renzi non è stato citato ha annunciato una legge sulle unioni civili ma siamo sicuri che questo era il solo modo per arrivarci? Piuttosto che sensibilizzare l'opinione pubblica forse la si voleva condizionare a quali fini quali interessi ci sono dietro? è stata volutamente adottata la strategia del fatto compiuto che non renderà il dibattito trasparente forse non sarebbe stato meglio creare un affronte comune dei sindaci che condividevano l'argomento forse non sarebbe stato meglio fare rete per far sentire la loro voce di persone che rivestono un ruolo istituzionale che sono a contatto diretto con i cittadini grazie gli aspetti negativi ha fatto l'ha fatto il sindaco queste cose qui le ha fatte e ha giocato in squadra per ottenere queste cose scusa l'azione contraria della legge questa è la cosa grave e scusate mi avete interrotto due volte questa è la cosa grave la trascrizione delle unioni non produce effetti giuridici mi dice il sindaco e invece ha perpetrato nel raggiungere questo obiettivo ma il messaggio che ne è derivato è un messaggio negativo per i cittadini diverse persone mi hanno contattato e mi hanno messo in evidenza questo aspetto è stato un atto di disubbidienza non rispettare la legge perché non la si ritiene giusta o perché in presenza di una carenza normativa si agisce secondo le proprie convinzioni è un criterio pericoloso per la società perché si corre il rischio che ognuno venga legittimato a fare quello che vuole o a rivendicare dei diritti non secondo i modi consentiti dalla legge anche oggi è stato sollecitato il sindaco a esprimersi su alcuni tipi di convivenze dai musulmani si apre una finestra in questo caso ci sono delle norme forse europee forse delle sentenze però anche negli altri casi nelle loro terre ci sono delle leggi delle sentenze emerge un'agenda ben architettata con obiettivi chiari di modificare profondamente la società finestre inesplorate che non sappiamo dove porteranno nelle scuole italiane da più parti si sta cercando di portare avanti l'indifferentismo sensuale come se essere maschi e femmine fosse un male si punta ai bambini senza rispettare i loro tempi di maturazione sessuale esplicite sono le richieste di parificare le unioni omosessuali al matrimonio e così ad accedere alle adozioni alle maternità maternità assistita attraverso donazione di ovuli utero in affitto o altre tecniche che sono vietate in Italia ma che all'estero in alcuni paesi sono consentite magari sfruttando attraverso un contratto povere donne in difficoltà questo ed altro ancora porta la nostra società sempre più individualista alla mercificazione della vita deve concludere consigliere hanno più diritto gli adulti ad avere in qualunque modo dei figli o piuttosto i bambini che sono i soggetti più deboli ad avere una mamma e un papà recentemente questi temi sono stati lanciati consigliere concludere l'ho già dato 50 secondi un minuto in più mi dispiace si capisce che l'argomento è molto vasto e invito a riflettere con dei dibattiti ad esempio ad accogliere le emozioni che sono state presentate per parlare di questo tema grazie grazie consigliere bene passiamo ora all'interrogazione numero 50 i sottoscritti consiglieri a seguito delle seguenti considerazioni i parcheggi a pagamento sono uno strumento urbanistico previsto dalla legge e una necessità per tutte le amministrazioni che intendano regolare i flussi di traffico in prossimità dei centri urbani con lo scopo di poter garantire rotazione ad un maggior numero di veicoli un argomento che suscita periodicamente polemiche e dibattiti in particolare quando vengono riviste le tariffe o allargate le zone a strisce blu uno degli obiettivi degli automobilisti sicuramente è quello di evitare sanzioni per superamento del limite di parcheggio riportato sul titolo di sosta alle richieste di utilizzare uno sportello per pagare la differenza eccedente il ticket l'amministrazione ha sempre risposto che la legge non lo consente non sono rare le occasioni in cui l'utenza si trova nella necessità di prolungare il tempo di fermata e la possibilità di agire in questo senso con l'utilizzo dei messaggi telefonici rimane ancora nelle dichiarazioni e nelle buone intenzioni degli assessori competenti presurato che sono molte le città dove il problema è stato affrontato e risolto nei diversi capoluoghi del vicino Veneto l'amministrazione ha provveduto alla numerazione di tutti gli stali a pagamento minime modifiche al software interno ai parcometri consentono di stampare i numeri di ogni singolo stallo che vengono riportati sul ticket e danno l'opportunità all'utente di prolungare il tempo di fermata sia telefonicamente che da ogni parcometro dislocato in una città con fronte allegato chiedono al sindaco e all'assessore competente se ritengono maturi i tempi per poter operare tali modifiche anche per Pordenone e in caso di risposta affermativa entro quanto tempo si ringrazia per la risposta firmato il consigliere Loris Pasut Francesca Cardin Assessore Zilde prego sì riguardo all'interroganti visto che il problema l'avevamo è stato già posto in questo consiglio già diverse volte in più occasioni anche in passato e tra l'altro poi il problema si fermava sempre sull'aspetto del codice della strada visto che le tecnologie da allora da quando se ne è parlato si sono evolute tra l'altro nelle intenzioni di questa amministrazione era previsto anche in uno dei progetti la possibilità attraverso il telefonino attraverso lo smartphone di poter evitare le sanzioni nel senso la possibilità di prolungare il tempo di fermata soprattutto quando uno magari si trova in un luogo dove non può muoversi credo che come gli interroganti chiedono ritengo che i tempi ci siano anzi devo dire che come amministrazione siamo già una fase avanzata tra noi e GSM per definire quale sarà diciamo lo strumento più idoneo per poter venire incontro a questo l'esperienza di Treviso l'abbiamo anche valutata come è stato suggerito dai consiglieri Loris Pasute e Francesca Cardin però abbiamo valutato che ciò comporta una spesa per ragioni di incompatibilità tra i parcometri però vi assicuro che stiamo lavorando con alcune ditte in questo momento e stiamo stringendo proprio per andare a individuare e quindi i tempi saranno brevi io ci conto che entro primavera massimo l'estate di avere questo strumento in funzione questa è la volontà dell'amministrazione comunale devo dire che però al di là di questo giusto per conoscenza attualmente viene utilizzato l'Europark dove con ricariche da 25 50 euro ed è utilizzato da circa sono circa 350 mediamente le ricariche al mese che vengono fatte proprio per ovviare a questo inconveniente e così anche abbiamo l'altra che è la tessera elettronica prepagata usa e getta e anche lì si vendono circa 200 ricariche al mese quindi diciamo che circa 500 550 singoli utenti hanno già utilizzano questi strumenti per evitare il problema dello sforamento ad ogni buon conto siamo orientati come dicevo entro la primavera di poter inserire questo sistema in modo tale che con telefonino e smartphone si ha la possibilità di prolungare la sosta e quindi evitare quella odiosa multa che spesso ci capita a noi tutti me compreso più volte è capitato grazie assessore prego consigliere Pasuk si grazie assessore ha detto bene che è una cosa che è una cosa un po' datata ricordo che ero consigliere nella Margherita quando feci la prima proposta e lei mi rispose che addirittura non era possibile mentre a Trieste si poteva già fare a Pordenone non si presta poi sono stato assessore col collega Conficconi e il collega Conficconi era lì per lì per mettere in atto con il sistema di sms un metodo dal 2000 e sono passati diversi anni insomma ecco allora io credo che come smart city che noi siamo sia il minimo che in primavera si metta in funzione una roba di questo genere avevo beh l'avete verificato voi l'utilità dei metodi usati in altre città a noi vicine che sono la numerazione dello stallo nel momento in cui uno scade l'orario con il telefonino richiamando il numero di posizione in qualsiasi punto della città uno si trovi è in grado di prolungare a suo piacimento il tempo e quindi evitare come dire il disturbo di dover pagare sanzioni di questo tipo naturalmente l'interrogazione nasce da una serie di richieste che tutti noi riceviamo che insomma che dobbiamo sicuramente tenere in considerazione per cui io mi auguro che sia primavera massimo estate ma saremo qui a verificare insomma ecco va bene grazie grazie consigliere interrogazione numero 51 presentata dal gruppo consigliere Rega Nord interrogazione rischio concreto di terrorismo islamico nel pordenonese considerata la delicata situazione internazionale l'avanzare del cosiddetto stato islamico preso atto dei due attentati recentissimamente verificati in Canada da parte di cellule islamiche fondamentaliste preso atto dalla dimensione del centro culturale islamico a Pordenone e dei trascorsi considerata la gravità delle conseguenze di eventuali attività con finalità terroristiche in ogni campo personale sociale economico religioso sanitario lavorativo eccetera appreso dalla stampa dalle perquisizioni di carabinieri nei territori limitrofi al comune di Pordenone a carico di due islamici sospettati di essere in contatto con i combattenti e vista l'inevitabile apprensione dei cittadini in merito a tale questione il sottoscritto interroga l'amministrazione per sapere se sono stati studiati ulteriori piani strategici per ragginare tale pericolosissimo fenomeno quali eventuali misure sono state previste a tutela dei cittadini nell'ottica di una maggiore sicurezza il sindaco si faccia promotore della stesura di un documento da far sottoscrivere ad ogni immigrato che arrivi nel territorio italiano nello specifico pordenonese e anche provinciale nel caso in cui il sindaco diventi anche presidente della provincia in tale documento deve essere chiaramente specificata la superiorità delle leggi italiane al di sopra di qualsiasi entità divina o culto religioso pur rimanendo fermi nel sancire il diritto alla libertà di culto l'eventuale rifiuto della firma deve comportare l'immediato e forzato allontanamento dal nostro territorio del soggetto vi è l'intenzione di poter garantire aiuto e tutela ad eventuali torsioni nei confronti di tutti gli islamici che sono integrati lavorano rispettano le leggi italiane e nulla hanno a che fare con fondamentalismi islamici ed eventualmente in quali modalità firmato Riccardo Piccinato gruppo Lega Nord signor sindaco prego vedo una certa attesa allora vediamo un po' di articolare la risposta in funzione di come poi gli argomenti anche sono stati presentati c'è una prima una prima parte dell'interrogazione che si riferisce evidentemente a una situazione di tipo lo dice anche internazionale di fortissima tensione leggiamo tutti i giorni hanno scritto tomi su quella parte del mondo e sull'evoluzione di quella parte del mondo e sulle complicità o su chi c'è dentro insomma però proprio per questo la spontanea reazione è che non è che come amministrazione comunale o come giunta possiamo in qualche modo interagire con temi di così alto livello dove il nostro il nostro stato il nostro governo è impegnato in prima linea credo che ci siano state varie espressioni di questo della posizione del nostro governo in questo senso questo non vuol dire quindi accantonato il fatto che noi un ruolo strategico di risposta in questo senso non lo possiamo svolgere questo non vuol dire che noi non collaboriamo in modo stretto ma lo facciamo sempre ma in modo più costante nell'ultimo periodo con le forze di polizia con chi insomma i corpi dello Stato che sono preposti a investigare e a garantire la sicurezza in aree di questo tipo parlo di tutti quelli che sono gli specialisti e che hanno portato appunto per esempio anche le perquisizioni a cui la interrogazione stessa si riferisce la cosa vera è che io non so se era questo anche una delle intenzioni espresse nell'interrogazione ma mi sembra di coglierla questa attività di intelligence per avere nel modo più fresco possibile nel modo più continuo possibile monitorare quello che accade su questo fronte certo deve avere una regia ben precisa e deve essere quindi in capo a chi queste cose le fa istituzionalmente non vedo come un'attività di intelligence di questo tipo possa essere raffazzonata ed inventata in modo in modo obbistico insomma da chi non fa parte in modo organico a chi istituzionalmente è preposto c'è una prima di arrivare alle risposte più puntuali c'è poi nel terzo paragrafo una precisa indicazione e riferimento all'esistenza del nostro centro islamico quindi a parte che questo presata della dimensione cosa vuol dire piccolo grande enorme diffuso non ho capito bene pericoloso cattivo non so quali sono gli elementi che alla fine noi abbiamo registrato nel tempo se non il vantaggio di fatto di avere un centro islamico nella nostra città che ci consente di avere una relazione con la comunità musulmana della nostra della nostra città anzi potremmo proprio dirlo della zona urbana della nostra città per chi si allarga e che ci consente quindi in questo senso di mantenere dei rapporti costanti di informazioni di aiuto che ci hanno anche dato in alcuni momenti e ovviamente diamo anche a loro ma insomma che alla fine costituisce nella nostra città un punto importante nella della convivenza che noi vogliamo perseguire quindi il fatto che si riferisca a questi al centro islamico e tra le righe si capisce che questo sicuramente non dovrebbe esistere probabilmente nella nostra città noi siamo come amministrazione e penso che come maggioranza abbiamo sicuramente una grande trasversalità sulla convinzione che questo sia invece uno dei nodi di convivenza uno dei punti di convivenza assolutamente indispensabile e alla fine vado cerco di accelerare ci si riferisce anche alle indagini effettuate dai carabinieri che poi non hanno portato a nulla di fatto io capisco che l'attenzione e la sensibilità al tema della sicurezza è un tema di grande presa e emotivamente sentito in profondità da tutti ma a mio avviso l'utilizzare il fatto di una indagine di questo tipo per creare su questa un messaggio di jihadisti diffusi in tutta la città che improvvisamente a centinaia possono lasciare il nostro territorio ancora peggio minacciarci io ci andrei piano nell'usare in questo modo le parole questo intendo dire perché con questa tecnica della continua sollecitazione sul fronte della paura eccetera ci siamo un po' abituati a questa tattica che per anni per decenni è stata utilizzata quindi rispondo allora sui punti uno e due ho già detto che la politica internazionale e il livello strategico nell'affrontare questi questi temi non appartengono alla nostra mandato nei nostri doveri certo collaboriamo in modo fattivo con le forze dell'ordine per quanto è possibile con un forte coordinamento richiesto agli specialisti che si occupano di queste cose quindi l'attività di intelligence è compete a chi è chiamato a svolgerla e secondo me la svolge in modo assolutamente greggio nel nostro territorio e noi daremo tutto quello che è necessario è il nostro aiuto costante quando ci verrà chiesto nelle modalità che ci vedranno coinvolti sul punto 3 quindi quella del chiedere il documento di far firmare il documento scusate io penso che io capisco che le interrogazioni vengono spesso utilizzate anche in modo provocatorio per provocare una discussione no ma ci sta non è che credo che sia sano questo ma il fatto di dire che le norme attuali che noi abbiamo hanno bisogno di un documento particolare perché questo venga rafforzato io penso che abbiamo leggi ampiamente sufficienti che in modo ovvio dicono che evidentemente se uno se una persona viene nel nostro paese deve seguire le nostre leggi e non è certo un pezzo di carta firmato basta vedere gli Stati Uniti che alla fine può scongiurare dico scongiurare atti di questo tipo e a mio avviso questo documento sembra quasi voler istituire un concetto di forca caudina a cui chi è chi viene qua come immigrato deve sottoporsi per entrare nel nostro paese devo dire che tra l'altro vedendo la genericità dovrei farlo firmare per esempio al comandante della base di Aviano cioè chi è che ha l'etichetta di extra comunitario qui va bene ok infine infine ritengo che questa quanto ho chiesto non è al momento quello che possa causare la non firma l'allontanamento eccetera eccetera non c'è nessuna norma che sostengano cose di questo tipo allora noi abbiamo costantemente ispirato la nostra azione alla Costituzione i diritti fondamentali dell'Unione Europea non noi è il nostro paese alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e penso che al fondo questi siano i principi ispiratori che ci debbono portare a guardare con grande diffidenza iniziative di questo tipo e finito nel senso che per quanto riguarda l'ultimo punto cioè quello di poter garantire aiuto e tutela eventuali ritorsioni queste sono politiche che non riguardano l'amministrazione comunale quella della protezione in generale io penso che qua si alluda quasi a un regime di di pentiti o robe di questo tipo questo non riguarda la nostra amministrazione riguarda leggi nazionali e quindi come per i punti 1 e 2 cioè le linee strategiche che il nostro paese deve seguire in questo tema io penso che dobbiamo far fede riferirci a quello che il nostro paese fa in questo campo grazie signor sindaco prego consigliere Piccinato grazie presidente allora abbiamo appena sentito il presidente della provincia sindaco di Pordenone parlare dell'importanza di un pezzo di carta che va contro le leggi italiane per quanto riguarda il matrimonio gay fatto all'estero e qui ci dice invece che un pezzo di carta che firmano delle persone che arrivano qua che possono essere per quanto ne sappiamo anche terroristi voglio sperare che non sia così invece in questo caso questo pezzo di carta è ininfluente quindi solito doppio pesismo solita da una parte va bene dall'altra non va bene doppia moralità e questo sinceramente non depone certo a suo favore ma entriamo nel merito delle risposte che ha dato non ha assolutamente convinto la risposta che mi ha dato per tanti motivi perché parto dall'ultimo il non aiuto agli islamici integrati non è che serve dal punto di vista di un'amministrazione fare appunto quella che dice la protezione dei pentiti ma fare anche degli atti simbolici a tutela delle persone che magari dicono apertamente di non seguire la legge islamica dell'ISIS per esempio quindi come ha fatto la cittadinanza simbolica altro pezzo di carta qui poteva fare può fare degli atti a tutela di queste persone nulla di trascendentale ma un messaggio chiaro che il sindaco di Pordenone l'amministrazione tutta la cittadinanza è vicina alle persone che sono integrate con la nostra società e che vogliono rispettare le nostre leggi invece qua non sembra che ci sia questa volontà da parte sua io resto scandalizzato parlare al mio personale che dica determinate cose come quelle che ha detto che il centro culturale sia un vantaggio per l'integrazione semmai è l'opposto ma questa è una mia personale opinione ritengo che le persone islamiche che si vogliono integrare che siano integrate che possono tranquillamente vivere nel nostro territorio senza alcun tipo di problema non abbiano di per sé bisogno di quello ma ci siano invece tutta una serie di condizioni come il lavoro come l'aiuto sociale che possono integrare e non certo solo quello e certo nessuno vieta nessuno pensa che un islamico non possa integrarsi in un territorio che è privo del centro culturale magari che ne so ha provisdomini perché lì non c'è il centro culturale non si può integrare io credo che sia francamente una cosa detta un po' così la sua poi riguardo al fatto di creare eventualmente scalpore per quello che è credo che sia la sana attività che è un che ha dovere un consigliere comunale di fare per chiedere conto di quello che può succedere che va che potrebbe danneggiare gravemente i cittadini lei si immagina se ci fossero davvero atti di terrorismo a Pordenone o nei dintorni che cosa succederebbe non solo alle persone non solo all'economia ma a tutte le fasi della vita sociale perché in questo momento un tipo di atto del genere metterebbe in crisi un'intera società come quello che sta avvenendo anche a Sydney in questo momento dove la città è completamente paralizzata per un atto di terrorismo islamico che quindi Dio vuole che ci salvi ci si possa salvare in tempo da questo tipo di situazioni che può essere anche un qualsiasi cittadino proveniente da qualsiasi parte del mondo che sia americano piuttosto che che canadese piuttosto che indiano indifferente se una persona viene qua è giusto che dica la superiorità della sovranità italiana delle istituzioni italiane della legge italiana al di là di ogni credo personale se vuole rimanere qua non ci vedo niente di male assolutamente non è certo quello che una persona deve avere paura quando viene qua e poi sostanzialmente mi sarei anche preoccupato di altre cose perché dal suo punto di vista perché adesso ci sarà anche il rinnovo delle cariche all'interno proprio del centro culturale islamico ma dal suo punto di vista che è appena propagandato a favore del matrimonio omosessuale io chiederai conto anche a loro se sono a favore del matrimonio omosessuale in quanto rispetto non solo del matrimonio proprio come rispetto dei diritti degli omosessuali che quelli certamente ci vanno non il matrimonio dal mio punto di vista ma il rispetto per gli omosessuali sicuramente sì poi per quanto riguarda anche i diritti delle donne che cosa ne pensano qua c'è il vuoto non ha risposto neanche a questo per quanto riguarda i diritti delle bambine le spose bambine i matrimoni che in Italia si chiamano pedofilia che cosa ne pensano non si sa anche lì un vuoto totale un po' di parole al vento che non hanno dato alcuna garanzia risposta no ma rispetto della legge italiana è andato un po' ovunque quindi io grazie presidente grazie consigliere bene no 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 scusate non potete manifestare nessun modo la vostra opinione su quello che avviene dentro il suo consiglio per cortesia se non vi devo allontanare interrogazione numero 52 numero verde per l'azienda sanitaria numero 6 azienda ospedalera di Pordenone al signor sindaco del comune Pordenone i sottoscritti consiglieri comunali della lista vivo Pordenone visto che spesso i cittadini per motivi di salute devono contattare telefonicamente sia l'azienda sanitaria numero 6 che l'azienda ospedaliera considerato che per parlare con le segreterie di alcuni reparti ospedalieri l'attesa spesso è molto lunga tenuto conto che tale situazione comporta oltre che un notevole tempo di attesa anche e soprattutto un costo della telefonata costo che per alcune persone aggiunto ad altre spese assorbe sempre più velocemente le limitate pensioni sociali con cui bisogna vivere tutto il mese i sottoscritti consiglieri comunali chiedono al signor sindaco di intervenire presso gli organi competenti affinché anche per telefonare all'azienda ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone compreso naturalmente l'ospedale di Sacile San Vito al Tagliamento Maniago e Spilimbergo e all'azienda sanitaria numero 6 venga istituito un numero verde come per il CUP regionale e come quello istituito di recente anche per la casa di cura polispecialistica San Giorgio di Pordenone sicuramente tale servizio oltre che a venire incontro alle persone meno ambienti renderebbe uguale la possibilità di telefonare agli ospedali pubblici del nostro territorio come quelli privati e rientrerebbe nei criteri di qualità dei servizi offerti al cittadino dal servizio sanitario pubblico Pordenone 3 novembre 2014 firmato Vito Palmisano Roberto Freschi gruppo consigliare Vio Pordenone Assessore Romor prego come preannunciato agli interroganti poco tempo fa io mi sono fatto carico di sentire le parti dell'azienda sanitaria 6 e dell'azienda ospedaliera e di fronte a una richiesta interessante come la vostra mi hanno pregato in funzione di una rivisitazione completa della struttura che con il 31 dicembre decade e verrà dal 1 gennaio a costituirsi l'azienda 5 con nuovi direttori con nuovo direttore generale che conosciamo da poco tempo il dottor Bordone ma ancora non sappiamo qual è il direttore sanitario mi hanno pregato di riprendere in mano il discorso ad azienda numero 5 attivata perché dovranno dovranno riprendere loro completamente in mano la faccenda cioè i direttori sanitari uscenti non erano in grado di darmi delle garanzie per cui questa vostra interrogazione la tengo attiva e mi preoccupo io stesso di portarla al nuovo direttore sanitario dell'azienda 5 appena possibile vi saprò dire in merito terminato grazie prego consigliere parpigiano grazie presidente grazie assessore allora attelliamo notizia circa diciamo appena sarà costituita questa nuova azienda di poter avere anche per l'ospedale diciamo e per l'azienda sanitaria il numero verde grazie grazie consigliere interrogazione numero 53 incontro dipendenti di idrogea le sottoscritte consigliere comunali Mara Piccin e Sonia Daniello preso atto da organi di stampa che il sindaco Pedrotti non vorrebbe incontrare i dipendenti della controllata di idrogea interessati dallo spostamento alla sede operativa aggiuntiva di Malnisio nell'immobile ex Enel premesso che sarebbe opportuno che in seguito ad una sollecitazione di incontro da parte dei dipendenti il comune di Pordano non rispondesse chiudendo la porta in faccia ma convocando quanto prima l'incontro in modo tale da poter risolvere le criticità che ci sono create all'interno della società considerato che l'incontro per il sindaco potrebbe avere sicura valenza conoscitiva delle problematicità delle risorse umane della società a cui potrebbe far seguito un incontro con i vertici della partecipata per avere un quadro ancora più completo sulla questione considerato che tale presa di posizione risulterebbe quantomeno discutibile visto che il comune di Pordenone è socio al 98,6% della società che gestisce le risorse idriche attraverso i servizi di acquedotto fognatura e depurazione di benventi comuni tutto ciò premesso è considerato interroga il sindaco del comune di Pordenone per sapere 1. se quanto enunciato in premessa corrisponde al vero 2. quali siano le motivazioni che hanno spinto il sindaco a non concedere un incontro ai dipendenti di idrogea o ad una rappresentanza degli stessi firmato Marapicin sono io Daniello prego signor sindaco grazie presidente sì la vicenda di per sé è abbastanza semplice e si riferisce al fatto che nella lettera dunque io ho ricevuto una sollecitazione anche da parte del consigliere Eleonora Frattolin lo aggiungo come informazione per sollecitare un incontro di questo tipo e quindi a lei come alla parte sindacale la mia risposta è stata semplice io ritengo che un conto sia la politica e un conto sia la gestione industriale di una nostra partecipata e anche se è vero che il comune di Pordenone ha una molto significativa partecipazione all'interno di idrogea questa sano principio di evitare commissioni tra politica e gestione credo che sia fondamentale anche perché diciamo che abbiamo visto che quando questo non succede ne abbiamo prova abbondante questo non è che abbia prodotto dei gran bei risultati due non si tratta certo di una crisi aziendale che avrebbe evidentemente avuto ben altra considerazione visto che in questi casi è evidente che come amministrazione dobbiamo non solo esserci ma avere un momento di affiancamento alle persone che hanno rischio di lavoro molto chiaro molto netto e fare tutto quello che è nelle nostre possibilità per risolvere la cosa e da ultimo ritengo che alla fine i conti si fanno quando poi chi gestisce la società verrà a riportare sia al comitato di controllo che poi in assemblea il vero i veri risultati della società stessa è chiaro che una parte di questa discussione è legata al tema che avevate già credo entrambe sollecitato in una integrazione precedente e cioè la sede di Malnisio e lo spostamento delle persone nella sede di Malnisio che insisto non ha caratteristiche da un punto di vista delle decisioni industriali di idrogea nelle modalità in cui queste sono state effettuate nelle modalità in cui sono state presentate al comitato e all'assemblea non hanno nessuna caratteristica tale da poter essere in qualche modo messe in dubbio e fanno parte di una riorganizzazione della società dell'idrogea che ha anche altri aspetti oltre questa voi sapete benissimo che dovranno essere assorbite altre persone da idrogea da quella società che in una parte del territorio nord della nostra provincia dava servizio idrico una piccola parte quindi visto che questo ha costituito anche in precedenza un motivo di perplessità questa perplessità con le altre persone che fanno parte dell'assemblea del CRC non le abbiamo se da parte vostra ci sono dei dubbi in questo senso voi sapete benissimo gli strumenti che ci sono per denunciare cose di questo tipo alluda la sede ma al momento quindi sia da un punto di vista dell'avvertenza sindacale che mi sembra abbia in questo momento anche uno svolgimento positivo sia dal punto di vista delle osservazioni che sono sottese credo in questa interrogazione sulla sede non abbiamo nessun motivo né di intervenire nell'avvertenza sindacale né tanto meno di mettere in discussione il fatto della sede grazie signor sindaco prego consigliere PC grazie presidente grazie signor sindaco per la risposta si ha detto bene la puntata numero 2 però anche se da questa interrogazione si poteva in qualche modo ricollegare per alcuni elementi il riferimento alla puntata numero 1 questa era da parte mia e della collega una vera curiosità nel senso che comprendiamo bene signor sindaco quello che lei ha detto ovvero l'aspetto del piano industriale e anche il fatto che la divisione netta tra politica e amministrazione è stata messa in atto guardi però signor sindaco che lei è politico ma è amministratore di questa città e idrogea lei tra l'altro è anche assessore alle partecipate se ben ricordo non so se mi sbaglio no ecco allora io credo che se ci sono dei cittadini a questo punto perché molti di questi sono anche residenti del comune di Pordenone che hanno voglia di parlarle lasciando stare la frattolin che non è nemmeno di questa città anche se si è fatta interprete in qualche modo evidentemente perché anche lei è sollecitata da questa questione e appunto si è fatta portavoce di questo io credo che il sindaco così come riceve tutti a maggior ragione avrebbe potuto impiegare dieci minuti del proprio tempo per ascoltare anche le motivazioni di queste persone allora mi viene un dubbio se vogliamo fare il collegamento rispetto alla prima interrogazione probabilmente lei si sarebbe sentito dire da parte di queste persone una posizione una verità non sto dicendo che chi dice altro non sta dicendo la verità sta dicendo un'altra verità una verità diversa rispetto a quella che conosce lei e magari sentirsi dire da parte di cittadini che questo spostamento ha creato tutta una serie di problematiche e magari sentirsi dire che l'economicità o l'efficienza rispetto a questa operazione detta non solo da chi è al vertice ma anche da chi non lo è e lavora all'interno forse non era da mettere sullo stesso piano allora vede come mi suggeriva la collega anche Papa Francesco ascolta tutti detto da Daniello fa ancora più sensazione Sonia allora io credo che questa chiusura totale sia prima di tutto immotivata che se queste persone hanno la necessità o il piacere di parlare con lei dovrebbero averne la possibilità come chiunque altro cittadino a maggior ragione perché sono dipendenti di una controllata del comune mi pare e che quindi questa sia una brutta pagina nei confronti di questa controllata e nei confronti soprattutto di queste persone mi è spiaciuto il riferimento che ha fatto lei signor sindaco alle sedi opportune dove segnalare le sedi opportune secondo me secondo il mio punto di vista di consigliere comunale sono queste il dibattito avviene qui non solo politico se si può se si può anche di chiarificazione evitando il più possibile le altre sedi alle quali lei faceva riferimento per cui non mi ritengo nella maniera più assoluta come dire soddisfatta della risposta che mi ha dato grazie grazie consigliere bene scaduto l'ora in questo momento dedicata alle interrogazioni passiamo alle deliberazioni iniziamo con la deliberazione numero 44 modificazione dello statuto dell'associazione denominata sviluppo e territorio la parola all'assessore Zille per l'illustrazione prego assessore allora questa delibera prima di affrontarla volevo un attimo fare un attimo di promemoria per quanto riguarda l'associazione che il comune di Pordenone ancora nel 2009 aveva dato adesione all'associazione denominata appunto sviluppo e territorio ricordo che già nel 2006 il comune di Pordenone ha partecipato a un bando regionale per la riqualificazione delle attività commerciali e turistiche e una serie di interventi per la realizzazione di studi e progettazione per i centri storici effettuati da fare nei comuni il comune di Pordenone che appunto vi ha aderito e attraverso terziaria nel corso del 2008 ha quindi avviato questa attività di studio e dai risultati dei suddetti studi è emersa la necessità di costituire un soggetto unitario per la gestione delle delle aree soprattutto per quanto riguarda la rivitalizzazione dei centri storici appunto con finalità di sviluppo gestione e promozione non solo commerciale ma di valorizzazione complessiva appunto delle aree dei centri storici questa è la genesi nel come dicevo nel 2009 nel 2009 il comune dà l'adesione e viene costituito questa NUTCO che allora come soci fondatori questa compagine societaria che poi si è formata questa compagine associativa il comune di Pordenone hanno aderito la provincia di Pordenone questi sono i soci fondatori la camera di commercio la conf commercio che peraltro l'ASCOM è stata quella che ha gestito tutta l'operazione per la realizzazione di questa NUTCO conf artigianato per le imprese conf cooperativa unione industriale di Pordenone e quindi pubbliche amministrazioni associazioni di categorie e poi alcuni istituti di credito del territorio ha aderito la Cassa di Risparmio di Udine Pordenone la Friula Adria la BCC Pordenonese e l'attuale Friula Ovest ex BCC di San Giorgio e Meduno questi erano i soci fondatori dell'associazione sviluppo e territorio poi nel tempo sono entrati nell'associazione alcune società di partecipazione pubblica la GSM l'ATAP e Pordenone Fiere e poi si unirono anche altri comuni il comune di San Vito al Tagliamento il comune di Spilimbergo poi il comune di Maniago ed ultimo in termini di il comune di Sacile che vi ha aderito il campo di azione di questa news ripeto non è solo del comune di Pordenone ma è la provincia come area ecco perché sono coinvolte come dicevo diverse realtà provinciali e quindi di altri comuni una delle motivazioni per cui questa sera discutiamo la delibera di modifica dello statuto riguarda anche aspetti che altri comuni più piccoli sono interessati ad entrare so che sono in lista d'attesa il comune di Fiume Veneto di Valvasone Paseano ed altri così hanno dimostrato anche un certo interesse una manifestazione di interesse per entrare anche il polo tecnologico e l'interporto la sede di questa associazione è presso l'ASCOM piazzale di mutilati che ovviamente è il luogo dove si riunisce il consiglio di amministrazione il consiglio di amministrazione è composto da 11 membri che operano a titolo gratuito non ci sono gettoni di cui lo stato attuale del CDA è composto dal presidente nella figura dell'architetto Alberto Marchiori poi ci sono le associazioni di categoria rappresentate da Biscontin per l'ASCOM così pure Maurizio Fioretti Renato Puglietti Marco Bagnariol poi c'è la Camera di Commercio di Pordenone che è uno dei soci fondatori rappresentata dalla direttrice la dottoressa Emanuela Fattorel le banche sono rappresentate da il dottor Giovanni Lessio per la provincia adesso sarà nominato prima c'era l'assessore fino a qualche settimana fa l'assessore Boria e poi sempre per le associazioni di categoria che sono sei rappresentati delle associazioni di categoria c'è Giovanni Blarsing e Walter Furlan di GSM e per il comune di Pordenone è colui che vi parla ecco questa è la composizione vediamo al motivo della allora l'associazione ha chiesto e ha mandato bozza del documento che stasera andiamo a vedere ancora che prevede appunto delle modifiche statutarie che ripeto tragano spunto proprio da quelle motivazioni che dicevo prima l'ingresso di nuovi comuni e soprattutto quei comuni che nel frattempo dopo del comune di Pordenone si sono associati la necessità che essi possano essere rappresentati all'interno del CDA ogni qualvolta si discuta di argomenti preeminenti ogni singolo aspetti di ogni singolo comune le modifiche si sono prevalenti quelle dell'articolo 17 dove è previsto il posticipo della data di approvazione del bilancio consultivo il quarto mese successivo alla chiusura del periodo amministrativo anziché entro 60 giorni come previsto nello statuto originale e poi gli articoli 5 9 10 11 che vanno a definire la differenziazione tra soci istituzionali e le singole imprese associate per soci istituzionali intendiamo tutte le i soci che hanno delle pubbliche amministrazioni tutti quelli che sono rappresentativi sia i fondatori sia quelli che sono entrati in fase successiva mentre i privati sono gli associati e quindi viene anche definita la posizione tra soci istituzionali e le singole imprese quindi gli associati all'articolo 15 viene introdotta anche la differenziazione nelle quote dei comuni partecipanti ricordo che nello statuto di sviluppo e territorio è previsto per i soci fondatori istituzionali l'ingresso con una quota di 2.500 euro in questo caso per permettere anche l'ingresso a comuni più piccoli il consiglio di amministrazione ha proposto di indicare delle cifre proporzionali alla popolazione e quindi anche la possibilità economica dei comuni di partecipare e poi la possibilità di partecipare di volta in volta ai lavori del consiglio di amministrazione quando si discutono tematiche relative al comune o al territorio di riferimento poi c'è tutta una serie di modifiche la rinumerazione degli articoli e poi ovviamente per logica altri articoli vengono di nuovo modificati ma la luce ripeto di questi articoli che ho appena testè enunciato ecco questa è in sintesi la parte di cui questa sera siamo chiamati per deliberare inoltre vedo qua presente in sala Malacar il dottor Malacar che è il direttore il manager chiamiamo così il braccio operativo di sviluppo territorio che visto che è presente lascerei a lui anche per una descrizione un po' più approfondita di quelle che sono le attività che sono state fin qua svolte questo ai fini di avere poter anche venire incontro a quelle che sono le domande e gli interrogativi dei consiglieri relativo all'associazione di sviluppo del territorio e quella che è la ricaduta anche sul territorio sul comune di Pordenone prego un attimo che trovo le slide ecco allora io ho preparato una piccola presentazione giusto per per condividere con voi quale quale sviluppo cosa è sviluppo territorio e cosa fa qual è il suo obiettivo eccoci qua allora sviluppo territorio ha spiegato benissimo l'assessore Zille nasce quindi nel 2009 con l'obiettivo di di fare politiche per la ripualificazione del centro urbano come si fa ecco qua a posto allora scusate che non vedo io però ecco allora quindi sviluppo territorio è un'associazione che ha al suo interno parecchi soci come avete sentito soci fondatori soci istituzionali e soci ordinari tra i soci istituzionali ad oggi contiamo appunto il comune di Pordenone la provincia di Pordenone il comune di Spilimbergo il comune di Sacile il comune di Maniago il comune di San Vito al Tagliamento e la Camera di Commercio poi ci sono quasi tutte le associazioni di categoria quindi Confcommercio Confartigenato Confcooperative Unione Industriali della provincia di Pordenone le banche del territorio sono rappresentate da Friul Ovest Banca BCC Pordenone Friul Adria e Cassa Risparmio Friul Venezia Giulia e poi ci sono gli ultimi stakeholder entrati in ordine di tempo che sono la TAP la GSM e Pordenone Fiere allora cosa ha fatto in questi anni sviluppo e territorio in questi anni sviluppo e territorio diciamo che ha due anime una più istituzionale che è quella di mettere insieme sul tavolo organizzativo tutti gli stakeholder di cui avete visto prima quindi per fare le politiche territoriali di sviluppo e di promozione del territorio poi attraverso il marchio Centro Anch'io si occupa di fare tutto il marketing diretto al comparto del commercio di via quindi rivitalizzare riqualificare quello che è il commercio di via perché il modello vincente oggi è il modello di governance tipico dei centri commerciali dove c'è una direzione e gli altri che comunque stanno alle regole inoltre si voleva mettere a disposizione dei piccoli negozi tutti quegli strumenti che da soli non potrebbero permettersi quali il sito internet quali tutte le politiche commerciali che appunto da soli non potrebbero permettersi soprattutto visto i tempi di fare ecco noi come sviluppo e territorio col marchio Centro Anch'io facciamo tutto con l'operazione di marketing per dare questi strumenti a disposizione di tutti ad oggi le attività associate sviluppo e territorio sono in Pordenone 97 in Maniago 52 e Spilimbergo 39 e stiamo facendo in questi giorni le politiche di adesione su Sacile e su San Vito al Tagliamento quali sono le attività che abbiamo fatto? sicuramente molti di voi le hanno viste e ne hanno partecipato le attività più importanti sono state quelle per cercare appunto di coinvolgere e di creare non solo eventi ma momenti di aggregazione utilizzando e facendo soprattutto sinergia con le associazioni no profit e con le associazioni della città quindi sono state organizzate vabbè l'ultimo in ordine di tempo è stato il Fashion Day che ha coinvolto circa 100 persone fra ragazzi fra partecipanti e commercianti eccetera poi abbiamo ormai da anni abbiamo istituzionalizzato quelle che sono le visite guidate quindi in occasione di grandi eventi abbiamo delle guide professioniste che portano in giro per la città i cittadini e non ai quali viene spiegato la storia le tradizioni e tutto quello che riguarda Pordenone dopodiché va bene nelle slide potete vedere tutti gli altri eventi dedicati sia ai piccoli che agli anziani un ottimo successo l'ha sempre avuto da molto tempo la ludoteca la ludoteca è uno spazio dedicato ai bambini dove i genitori quando vogliono passeggiare in centro possono lasciare gratuitamente i bambini sotto legida di professionisti ma non è un parcheggio per bambini è proprio un progetto che ha che brilla di luce propria perché i bambini in realtà fanno dei laboratori sono laboratori d'inglese laboratori delle tradizioni pordenonesi il riciclo adesso stiamo facendo quello con la musica in collaborazione con il CEM nel laboratorio del CEM quindi è un progetto che serve proprio a creare laboratori per i bambini dopodiché lo saprete tutti da due anni sviluppo territorio in collaborazione con il comune di Pordenone col comune gestiamo le casette quindi tutto il progetto natalizio dalle luminarie alle casette all'albero di Natale tutto quello che è che è Natale ci tengo a precisare con una punta di orgoglio che il progetto delle casette non sono le 22 casette messe piazzate lì ma c'è un progetto di marketing del territorio dove chi ha accettato di prendere in affitto la casetta ha sottoscritto e accettato di fare di rispettare le regole che abbiamo dato quindi orari regole per quanto riguarda la musica ma soprattutto di fare marketing territoriale ad ogni casette abbinata un'azienda vitivinicola della provincia e le casette si impegnano a somministrare nella maggioranza non al 100% quei prodotti locali sia di vino che gastronomici altri progetti ormai è tradizione è tradizione pordenonese è diventata una tradizione pordenonese la salita sul campanile che facciamo in occasione degli incontri amo c'è pordenone poi è stata fatta la mascotte che ha coinvolto dei bambini che attraverso dei concorsi hanno inventato il nome per la mascotte e poi i famosi progetti con l'arte abbiamo avuto il primo anno la cracking art quindi abbiamo riempito la città delle coccinelle del movimento artistico della cracking art il secondo anno le famose sculture di cabrini e questo l'abbiamo fatto in occasione della fiera dell'arte abbiamo altre immagini di altri eventi di Pordenone adesso stiamo cercando piano piano e ci stiamo riuscendo di fare interazioni con tutti i partecipanti al tavolo quindi abbiamo firmato una convenzione con Pordenone e fiere per cui tutte le persone che vanno in fiera e si presentano nei nostri negozi negli negozi aderenti con il biglietto della fiera o con la tessera di espositore hanno delle particolari condizioni sia nei negozi che condizioni per entrare a visitare i musei della città quindi questo è un cercare di avvicinare la città a chi viene dall'esterno praticamente un progetto che sicuramente è un motivo d'orgoglio per noi è quello è il progetto che nasce per l'occupazione dei vani sfitti ad oggi lo stiamo sperimentando a Corte del Bosco dove il proprietario il costruttore di Corte del Bosco ci ha messo a disposizione 5 vani e lì abbiamo creato un bando una specie di bando ma che più che bando è un regolamento dove si chiede la disponibilità ai proprietari dei muri ad agevolare delle start up delle nuove iniziative che magari i primi due anni non si sosterebbero pagando un affitto corrente quindi ad agevolarli nell'affitto per i primi due anni dopodiché cosa succede? se dopo due anni l'attività va avanti parte l'affitto normale altrimenti viene a decadere diciamo il rapporto è ovvio che se la persona chiude l'attività e va da un'altra parte in quel caso lì deve pagare una piccola penalità perché si vuole evitare le speculazioni ma questo è un altro discorso io ho fatto anche un piccolo un piccolo riassunto di tutto quello visto che è uscito anche il tema dei fondi pubblici allora ci tengo a precisare che come ha detto benissimo l'assessore Zille l'associazione sviluppo e territorio da statuto vive in parte dai contributi dai 2500 euro che i soci versano tutti gli anni e che servono per i costi di esercizio che sono ampiamente coperti perché i costi di esercizio in realtà sono molto meno e poi in base all'attività che facciamo internamente e della quale mi occupo in prima persona andiamo a caccia dei finanziamenti pubblici che servono proprio per le iniziative e quindi nel 2010 le attività che abbiamo fatto sono a spasso con gusto quindi tutto quello che riguarda la promozione del marketing territoriale e abbiamo avviato il progetto della City Car e il web marketing per 30.000 euro nel 2011 abbiamo fatto un assaggio d'estate quindi diciamo promozioni con i negozi adesso non sto a leggerle tutte perché ho paura di annoiarvi se volete mi chiedete le leggiamo tutte comunque nel 2011 abbiamo fatto iniziative per 52.000 euro nel 2012 iniziative per 74.000 euro e nel 2013 iniziative per 95.000 euro nel 2014 il bilancio ancora non è chiuso quindi dobbiamo chiudere ancora i conti del Natale quindi non abbiamo ancora un dato definitivo per quanto riguarda i contributi invece ottenuti quelli a cui siamo andati alla ricerca sono sia contributi privati quindi sponsorizzazione di banche e di privati interessati che tutte le leggi regionali o provinciali quindi contributi della Camera di Commercio contributi regionali per i centri in via che il primo anno l'abbiamo vinto portando a casa 62.000 euro a fondo perduto e Pordenone è arrivata prima con il doppio dei punti rispetto alla seconda e poi insomma tutti gli altri contributi io ho fatto una slide riepilogando visto che probabilmente è la cosa che vi interessa il rapporto fra quanto ha speso il Comune e quanto ha portato a casa il Comune da questa iniziativa quindi il Comune nel quinquennio del 2009 al 2013 ha speso 15.000 euro per quote associative e 8.200 euro per diciamo contributi che ha allargito a sviluppo territorio con questi soldi l'effetto leva generato ha generato eventi per il Comune di Pordenone pari a 251.000 euro questi i dati dei costi sopra 23.200 sono all'ordo delle tasse che poi sviluppo territorio ha pagato al Comune per le tasse di occupazione e tutte le tasse relative agli eventi io a questo punto se ci sono domande altrimenti penso che di aver spiegato un po' tutto grazie assessore lei deve concludere passiamo alle richieste e ai chiarimenti mi dica cosa vuole fare sì volevo solo aggiungere ma ormai credo sia abbastanza che per quanto riguarda i finanziamenti al di là delle quote associative alcune come avete visto sono ricavi da progetti che sono stati elaborati da sviluppo del territorio e poi da altri fondi che sono stati dati da enti banche privati e quant'altro ecco volevo aggiungere solo questo come si 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 autofinanzia l'associazione grazie e quindi adesso ci sono richieste di chiarimenti da parte dei consiglieri nessuna richiesta pertanto dichiaro aperta la discussione prego consigliere dalmas prego grazie signor presidente ma io devo esprimere anche l'apprezzamento per la correttezza la schiettezza anche il modo in cui è stata presentata questa attività c'è stata una coda polemica in questi giorni non me ne voglia non era non è il mio costume polemizzare inutilmente semplicemente forse così l'esposizione della delibera inizialmente lasciava spazio una serie di domande alle quali lei ha risposto ha risposto prima attraverso la stampa e oggi venendo qui come consuetudine per determinate delibere ha risposto alla posizione e quindi sì non è che io sia interessato al compenso dei 15 mila euro piuttosto che no 20 mila non mi interessano queste cose qua assolutamente non mi interessa mi interessa semmai svolge una considerazione di altra natura che un po' legata all'andazio di questi tempi di questo periodo che mi piace pochissimo come credo molti di voi la prima considerazione forse l'unica è che mi chiedo faccio un esempio nel momento in cui nella sua associazione entra una società come GSM no e noi sappiamo che lei probabilmente avrà fatto in modo che GSM dentro questa associazione di sviluppo territorio concorra questo era l'obiettivo della Citycar a ridurre il prezzo del parcheggio nel centro cittadino magari associandolo a particolari eventi di Natale piuttosto che altre cose iniziativa ragionevole lodevole l'amministrazione comunale che cosa fa non è che fa offerte turistiche non è che si occupa direttamente di questa cosa mi scusi sindaco chi è l'assessore qui al turismo che non capisco mai o che si occupa di commercio a lei ecco benissimo quindi sviluppo territorio si inserisce in una nicchia ben precisa dove dice mettiamo insieme un po' di risorse e cerchiamo di rilanciare il commercio in città e chi lo fa? Lo fanno praticamente le persone lei avrà tutti i titoli per farlo probabilmente io non so cosa faccia nella sua vita ma evidentemente ha dimostrato di saper operare perché ha portato dei numeri delle cose quindi delle iniziative ci sono state la più la più bella però la trovo qui nel sito voi fatemi io voglio vedere chi è il ramarro qui il 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 Gianelli mi ha portato via la cosa ah sì ecco lei capisce cioè io entro nel sito e vedo questa cosa qui il come si chiama questo il ecco benissimo dove mette insieme un po' il valore della produzione simbolica di questo territorio mi pare che nella descrizione del sito ci sia la giacca tessera ricorda il mosaico il cappello o la tavolozza per il Pordenone perché ecco io vengo da fuori entro nel sito vengo non solo ma vengo a Pordenone e scopro che esiste questa società che si chiama sviluppo territorio fa queste cose mi presenta questo benissimo ma siamo ai siamo al de minimis come in tante altre circostanze allora signor sindaco se vogliamo rilanciare perché lei si incontrerà sicuramente con Marchiori poi si incontrerà e dirà beh come facciamo a rilanciare il commercio dopo che magari sappiamo sappiamo che al di fuori della cinta della struttura cittadina siamo pieni di centri commerciali il quale Marchiori ha subito questa vicenda dei centri commerciali perché lui non li voleva io leggo le dichiarazioni di Marchiori Marchiori è per il commercio cittadino non per i centri commerciali tant'è che fate e costituite questa società che ha come scopo dichiarato come obiettivo dichiarato quello di valorizzare e diversificare il commercio rispetto questo è lo scrivente tra gli scopi dell'associazione rispetto a tutto ciò che si è fatto nel resto non abbiamo costruito i centri commerciali fuori non li abbiamo costruiti dentro quindi magari oggi potremmo ripensare ad alcuni contenitori che in qualche modo visto che lei fa il sindaco il presidente della provincia e probabilmente tornerà ancora a fare il sindaco di questa città perché mi pare che sarà ricandidato visto che avete ricomposto le vicende nel PD in questi giorni leggo i giornali non è che siamo consiglieri comunali facciamo anche politica un po' leggiamo queste notizie quindi giustamente lei si ripropone e si riproporrà per il suo partito il partito democratico va bene allora allora e qui chiudo anche perché diventerebbe una polemica anche facile cioè io in commissione ho chiesto all'assessore dico ma questi signori prendono dei compensi non lo so no no e poi invece scopriamo che c'è un compenso che è poca cosa perché uno che fa bene il suo mestiere deve essere pagato e deve essere pagato bene non certo 15.000 euro all'anno quindi signora assessore Zilla se lei ci crede veramente su questo e su questa iniziativa deve allora investire dei denari non giocare la partita dicendo ma insomma in fine dei conti noi mettiamo solo 2.500 euro ma cos'è 2.500 euro o ci credete o non ci credete o fate queste associazioni o non le fate o gli date o gli date realmente perché se valgono perché evidentemente se voi portate oggi convintamente una modifica statutaria vuol dire che ci credete quindi a sua volta dovete investire dei denari no dovete crederci non è che venite a dirci semplicemente abbiamo messo 2.500 euro non staremo neanche a discutere di 2.500 euro ecco allora quando nel 92 fu spazzata via letteralmente in Italia a torto ragione ma nei fatti è così una certa idea della politica o comunque la prima repubblica ed è nata la seconda repubblica noi siamo ancora dentro la seconda repubblica dove ci lamentiamo molte volte perché temiamo che il rigurgito dell'antipolitica l'ho fatto ieri l'altro ieri il capo dello Stato sia come dire ingiustificato invita ad abbassare i toni a fare tante cose insomma dove scopriamo i discorsi all'apizzinato che è fatto oggi dal suo punto di vista ma insomma per lui evidentemente ha ragione ci crede in quello che dice però esprime un disagio un disagio e una paura che molti hanno e dove sento dire lei signor sindaco sulla vicenda dei matrimoni gay del riconoscimento dei matrimoni tra omosessuali che la procura di Udine avrebbe archiviato e ci fa circolare l'ordinanza la richiesta di archiviazione di Tito sulla quale si pronuncerà il GIP e sostanzialmente non fa circolare la circolare circolare proprio nei banchi la circolare del ministro degli interni che è colui il quale il suo diretto superiore sulla vicenda dell'anagrafe e dello Stato civile fino a prova contraria è il ministro degli interni il comune svolge una funzione delegata ecco allora qui siamo del ministero cioè dello Stato perché l'anagrafe lo Stato civile non può che essere uniforme in tutto il territorio ecco lei fa circolare questo non fa circolare invece ciò che dice il suo diretto superiore bene siamo un po' al travisamento di tutte le cose no c'entra e chiudo siamo al travisamento delle cose perché questo è accaduto l'altro giorno per una banalità in commissione con l'assessore Zille in ordine proprio all'approvazione di questa delibera dove nessuno si sarebbe accorto nemmeno dell'esistenza della società sviluppo e territorio perché io sfido qualsiasi cittadino che si conosce la società sviluppo e territorio è un arminicolo evidentemente di un sistema che è nato dopo la crisi della prima repubblica ed è l'adminicolo proprio plastico di questa società civile che in fin dei conti ampiamente ricorre all'utilizzo ampiamente ricorre all'utilizzo di sostanze pubbliche per fare il loro lavoro e questa è la contraddizione signori perché vedete non sono i 40.000 euro che vengono dalla raccolta pubblica o i 40.000 euro che lei qui indica come ricavi derivanti da contributi e abilmente prima nella slide ha detto sì però questi contributi sono i soldi che noi prendiamo dalla regione sono i soldi che noi prendiamo dall'altra parte se non lo avesse fatto lei chi l'avrebbe fatto questo lavoro nessuno allora lei deve dire e giustifico questo perché lo faccio io perché lo fa l'associazione altrimenti questi contributi andrebbero persi ecco questa è la contraddizione io penso che dal piccolo dalle piccole cose e credo molto utile il suo intervento qui oggi lo dico proprio serenamente non ci sono non c'è un tono polemico da parte mia nei suoi confronti io la conosco tra l'altro come un professionista stimato nel suo lavoro quindi non ho ragione di credere il contrario e ho ragione di sono convinto che ci ha messo del tempo e della passione per fare queste cose però tutto ruota intorno a questo sistema dove il pubblico e il privato sono sempre con confini molto molto labili se adesso il presidente Renzi le dirà che le camere di commercio hanno i soldi andiamo a prenderci i soldi delle camere di commercio perché lo Stato ne ha bisogno di un'operazione che sta facendo in tutta Italia scopriremo che praticamente tutto ciò che pensavamo un tempo come funziona delle camere di commercio non c'è più perché tengono registri per il tribunale per conto del tribunale di fatto non è che promuovono il made in friuli in giro per il mondo ecco questo il mondo un po' cambiato e credo che la funzione dell'amministrazione pubblica non sia quella di ricercare un consenso posticcio che gli deriva soltanto da una posizione amicale che può avere contizio rispetto che con caio oggi la vera amministrazione è fatta da rigore nella gestione dei conti e quindi anche andando a prosciugare quei piccoli rivoli che però sono tanti si moltiplicano in Italia si moltiplicano nella regione di giulia si moltiplicano in Europa questo è il tema sul quale credo che l'organizzazione del consenso e della politica debba essere diverso non più basato sulla proposizione all'infinito di uno scambio e di interessi più o meno evidenti bensì sulla serietà della gestione e dell'uso delle risorse quindi anche non sono caro sessore Zilli 2.500 euro sono molti di più perché poi per ogni singola iniziativa voi le finanziate per ogni singola iniziativa c'è il finanziamento che finisce anche a loro e che comunque produce un risultato volano come ha detto efficace tutto ciò voi non ce l'avete spiegato questo non vale solo per sviluppo territorio vale per molte altre cose grazie grazie consigliere Dalmas non vedo nessun altro iscritto pertanto passiamo al secondo inter prego prego scusate potete togliere il nome dell'assessore Toffolo grazie prego grazie presidente un intervento anche da parte nostra io non ho percepito alla fine dell'intervento del consigliere Dalmas la conclusione forse voleva dire non c'è bisogno che l'amministrazione affianchi poi scelte di questo genere ecco mi aspettavo una conclusione sul più o sul meno ecco in maniera piuttosto chiara ecco quel che un po' da parte nostra invece vogliamo segnalare che naturalmente come amministrazione noi abbiamo il compito di essere vicini a tutte le iniziative che possono valorizzare l'attività commerciale all'interno della città bisogna essere molto attenti il comune lo fa in maniera direi diretta come in questo caso copartecipando alle iniziative lo fa anche in maniera indiretta valorizzando con tutte le iniziative che ritiene utili per il territorio per avvicinare promuovere l'immagine della città essere attento a tutto quello che può essere utile a far diventare una città qualitativamente vivibile per il cittadino ma anche per tutti quelli che la vogliono visitare la vogliono frequentare quindi a me sembra un atteggiamento coerente l'attenzione io chiedo anche che il comune sia attento perché anche in questo va un senso di partecipazione che noi riteniamo opportuna per la città cioè che il comune sia anche attento a seguire poi l'attività dell'associazione di sviluppo e territorio sia attento a che poi l'iniziativa sia ben distribuita sulla città perché una delle questioni importanti è che non si concentri più in alcuni settori piuttosto che in altri perché l'intervento pubblico ha anche questa esigenza quella di cercare di distribuire nel miglior modo possibile gli interventi per la città sia in termini di attività commerciali ma anche in termini territoriali l'attenzione per alcune stiamo vivendo in questa fase di crisi qualche situazione di depauperamento di alcune zone della città ed è bene appunto che pensiamo un po' a tutte queste zone stavo guardandole con tutte le iniziative che sono necessarie con tutto quello che può essere un effetto di rilancio che possiamo ottenere mi riferisco in particolare a Viale Marconi abbiamo parlato tanto in questi giorni si parla anche di Via Roveretto si parla anche di Piazza Costantini insomma tutte queste zone che sappiamo hanno bisogno di un rilancio con molta attenzione con uno stile che può essere nostro stile dell'amministrazione che va anche riconosciuto nella trasparenza ecco quindi tutto quello che noi riusciamo a vedere il consigliere Dalmas giustamente poneva l'accento sull'attenzione per quello che può essere il contributo pubblico privato dato che siamo in una fase difficile anche da questo punto di vista è bene che tutti sappiano che tutti abbiano l'opportunità di conoscere attraverso questo momento i siti internet forniscono molto facilmente informazioni quindi la richiesta è che tutto quello che abbiamo visto poi sia apportato anche del cittadino e noi riteniamo anche che un grande esempio di collaborazione quale sia stato che speriamo che sia poi tra nel prossimo anno diventi veramente attivo il PISUS ecco sia un buon esempio di collaborazione tra la nostra amministrazione e questo sviluppo questa associazione sviluppo territorio ecco e soprattutto ecco noi vogliamo segnalare che in ogni caso la città per nostra scelta per la scelta del consiglio comunale ha voluto essere vicina anche all'ambito commerciale cercando di intervenire nel momento in cui si è parlato di tari dell'incremento di tutto quello che è stato per noi importante per salvaguardare un passaggio difficile per tutte le attività in particolare per tutte le attività commerciali della città quindi è una collaborazione che va avanti e che si manifesta certo adesso deve essere soggetta a un maggiore controllo a far sì che le risorse siano ben investite ecco però noi riteniamo che se fatta in maniera equilibrata attenta trasparente ecco non faccia altro che dare ancora più forza a un'immagine della città che in questo momento ha bisogno ecco di essere valorizzata ha bisogno di guardare in avanti e ha bisogno che tutti lo facciano in maniera condivisa equilibrata ecco quindi un plauso però molta attenzione perché appunto le risorse sono in una fase ecco di grande riduzione e quindi tutti dobbiamo guardare con attenzione a quel che facciamo grazie grazie consigliere Manzoni consigliere Ribetti prego grazie grazie presidente ma farò un intervento molto veloce non volevo neanche intervenire dico la verità però ogni tanto mi prude sento qualcosa che mi pizzica in bocca quindi non riesco a star zitto di fronte di fronte quando noto qualcosa che a mio modo di vedere sia in contraddizione in quest'aula l'abbiamo affrontato parecchie volte almeno nei miei interventi l'ho detto più di una volta io ritengo che questa amministrazione si caratterizzi ancora una volta per un insieme di contraddittorietà vado a spiegare io tempo fa l'avevo fatta anch'io centro anch'io questa tessera un giorno in centro e l'avevo l'avevo fatta perché credevo che fosse qualcosa di veramente utile è giusto il consigliere Manzoni che mi ha preceduto ricordava la spinta data dall'associazione ai commercianti la spinta nel cercare di stimolare il commercio soprattutto in periodi come quello attuale di contrazione dei consumi perché le famiglie hanno difficoltà soldi non ce ne sono quindi è giusto però io mi chiedo questo come si concilia col comportamento poi dell'amministrazione comunale che da una parte spinge associazioni di questo tipo se non sbaglio nel socio fondatore e dall'altra e dall'altra si caratterizza per essere colei che invece va a vessare i nostri commercianti e fa di tutto per metterli in difficoltà più di qualche volta credo in ogni discussione del bilancio del comune io vado a evidenziare sindaco lei ha ereditato questa questa situazione la linea rossa parliamo di una cosa che il comune ogni volta va a rimetterci un sacco di soldi che sono il contributo ordinario per finanziare una linea rossa voluta per portare i nostri cittadini dal centro dove ci sono la maggior parte degli esercizi commerciali a fare la spesa sul Meduna un'amministrazione che si è scapicollata quella che l'ha preceduta però retta sempre dalla maggioranza del centro-sinistra per aprire un centro commerciale l'ennesimo con la viabilità non ancora finita mi sembra sia stato oggetto anche disposto qualche tempo fa un'amministrazione che più di qualche volta è stata richiamata è stata diciamo agli onori della cronaca per i comportamenti nei confronti dei nostri commercianti sulle imposizioni ma anche mi ricordo che io stesso avevo fatto anche un'interrogazione per chiedere i parcheggi gratis sotto Natale qualche anno fa ecco allora se da una parte se da una parte è lodevole a mio modo di vedere essere attenti in periodi soprattutto di crisi a quelli che possono essere dei piccoli aiuti qualcosa di concreto dall'altra però bisognerebbe avere un comportamento che è sempre lineare non si possono prendere in giro i commercianti e i cittadini non si può da una parte andare a finanziare ripeto qualcosa a mio modo di vedere positivo e dall'altra però si tengono tutti un insieme di comportamenti che sono comportamenti che vanno proprio in una direzione opposta ecco io su questo voglio mi sentivo di parlare ripeto non voglio fare un intervento però non posso tacere di fronte all'amministrazione che da una parte fa una cosa e poi con l'altra mano si riprende quei piccoli aiuti che dà ed è questo che invito l'amministrazione veramente con la voce critica che può avere un consigliere di minoranza di opposizione cercate di essere più coerenti perché se è giusto stimolare ripeto in momenti di crisi è altrettanto corretto farlo sempre sarebbe un bel gesto di coraggio ogni volta che faccio questo intervento nel consiglio quando si parla del bilancio sui contributi su quanto ci costa la linea rossa mi rispondevate l'ha voluta anche la provincia retta dal centro-destra beh adesso la provincia è più retta dal centro-destra io come sempre vi ho detto che se qualcuno fa qualcosa che non va che sia di centro-destra che sia di centro-sinistra a me non interessa a me che l'amministrazione debba ogni anno mi sembra 300.000 euro rinunciare per andare a coprire i buchi della linea rossa a me è qualcosa che ha sempre dato fastidio e continua a dar fastidio soprattutto perché si portano i nostri cittadini i nostri concittadini a fare la spesa fuori a fare la spesa dove? per far contenta chi? la coppa che se no se ne va? se ne vada ma forse quegli amici sono gli stessi del colore della linea rossa e a lui forse questo non piace e invece a me piacerebbe un bel po' quindi concludo invitando l'amministrazione a un comportamento molto più coerente e soprattutto molto più attento ai bisogni veramente dei nostri commercianti soprattutto della zona centrale perché in tutte le città non perché bisogna privilegiare quelli del centro ma in tutte le città viene definito spesso saluto buono ma la gente qua viene a fare la spesa quindi è giusto che soprattutto qua si cerchi di dare una mano grazie scusi consigliere Passoni c'era prima il consigliere Bianchini che si è cancellato inavvertitamente mi ha chiesto di poter parlare prego deve schiacciare consigliere grazie presidente mi scusi ma prendo la parola perché questa iniziativa nata nel 2009 ci ha visto come lista civica protagonisti e fautore di questa idea che abbiamo sposato in toto assieme alla maggioranza ovviamente e alla quale ci abbiamo creduto a distanza di alcuni anni sempre come rappresentanti dei cittadini ci sentiamo in dovere comunque di dare suggerimenti dei miglioramenti perché questa realtà possa portare dei frutti che in questo momento sono indispensabili come diceva prima il collega Manzon piccoli consigli che comunque vedono una scelta una nostra considerazione positiva di questo progetto però dalle cose più piccole che secondo noi vanno migliorate cioè il sito internet che in questo momento è un po' parlo senza che nessuno ne voglia insomma da giovane no è un po' antiquato mettiamola così e non è di facile consultazione uno per tutti l'app non è possibile scaricare su un cellulare uno smartphone qualsiasi perché non tutti hanno l'iPhone soprattutto in questo momento no questo è un esempio di miglioramento che sicuramente questa situazione può avere e questo se lei vede lo saprà meglio di me insomma ma i 900 erotti mi piace che ci sono sono dati anche da questo insomma e siccome lei prima sottolineava che il sito è fondamentale anche per le nuove realtà è proprio indispensabile che questo sito sia funzionale e che abbia delle attrazioni abbia un'attrazione importante insomma e anche sul discorso della Citycard anche su questo sicuramente ci sarà un ragionamento per rilanciarla perché ad oggi io ma non solo insomma che vivo il territorio tutti quanti noi sappiamo che in questo momento c'è una difficoltà da parte sia dell'utenza sia anche dei commercianti a usarla e a promuoverla ecco su questo sicuramente visto che è stato speso molto non a caso il sito ha proprio il centro anch'io ha proprio un ragionamento che sulla Citycard ecco su questo che è un'ottima idea che viene fatta da altre parti ma è un'ottima idea deve essere capita meglio forse dal cittadino ma dagli stessi commercianti deve essere poi promossa magari con delle incentivazioni in più che sicuramente lei metterà insomma ecco un'altra cosa che ci preme che lei ha sottolineato è la sinergia la sinergia che tra gli eventi presenti nel territorio ecco questo è un po' la caratteristica del nostro territorio cioè c'è sempre per fortuna un'associazione che nel nostro territorio fa qualcosa una domenica sì dopo passa un mese però non c'è la sinergia non c'è una collaborazione molte volte tra associazioni o perlomeno ci sono giornate in cui ci sono due eventi e in altre nessuna ecco l'idea nostra è quella che ogni sabato e domenica ci deve essere un evento e siamo convinti che ci sia la possibilità perché con tutte le associazioni che abbiamo e non solo nel territorio portonese ma visto che come soci abbiamo altri comuni ogni comune ha un'associazione proloco per tutte ma associazioni anche di singole persone che in qualche modo vogliono farsi conoscere ma ravvivare il territorio e su questo secondo me bisogna fare molta sinergia ancora oggi penso che la mission più importante sia questa su questo bisogna lavorare ancora noi speriamo e chiediamo anche sia all'assessore ma anche a lei ogni tot quindi due volte una volta ogni due anni o una volta all'anno poi deciderete come CDA insomma di avere anche un resoconto di questo perché qui parlo del comune e questo ovviamente perché sono consigliere comunale ma si può parlare provincia piuttosto che in altre realtà cittadine riportare i dati perché vuoi o no passa anche per noi passa per la cittadinanza una conoscenza anche più precisa di questa di questa realtà quindi noi siamo contenti che con pochi soldi spesi perché alla fine 2.500 euro non sono niente vuole solo per le luminarie siamo già posti insomma ha visto degli altri anni ma a parte questo che è una battuta spendiamo poco però l'obiettivo è il rilancio noi siamo qui come consiglieri comunali e come giunta per aiutare il più possibile è chiaro che avessimo più soldi si potrebbe fare molto di più però con una riorganizzazione più precisa più dettagliata si può e secondo noi si deve per il commercio insomma migliorare le attività del nostro territorio grazie grazie consigliere Bianchini consigliere Passoni prego grazie presidente mi pare che i colleghi che mi hanno preceduto hanno già sottolineato l'importanza di aver fatto questa scelta nel 2009 raccomandando però che questo atto formale di stasera possa essere un nuovo stimolo a migliorare perché ovviamente stante anche la crisi è importante che un'associazione di questo tipo sviluppi al massimo le sue iniziative perché mi pare del tutto evidente e questo ovviamente nel tutto il territorio del nostro comune e anche oltre visto che questo dovrà essere la mission nuova e quindi noi la consideriamo di buon auspicio certo si può fare sempre di più giustamente però chiaramente questo è il nostro interesse come consiglieri del comune di Pordenone e credo che le iniziative svolte sono state in questa direzione però come hanno sottolineato alcuni dei miei colleghi l'importante è che vengono accentuate e che comunque non manchi mai anche la trasparenza io posso dire in questo senso e la disponibilità in questo senso posso testimoniare di aver avuto un contatto con il signor Malacart recentemente proprio per cercare di costruire la possibilità delle luminarie anche in via Santa Caterina e nell'ambito di Piazzetta Costantini e via Rovereto che sono stati è un ambito che è stato citato anche dal collega Manzon e devo dire che la cosa è andata positivamente per cui come qualcuno avrà osservato in quell'ambito adesso ci sono ulteriori luminarie per dire e quindi credo che questo è un aspetto positivo perché se quando ci sono queste situazioni c'è un'associazione che contribuisce e questa è nata anche dall'idea del nostro comune mi pare del tutto evidente che questa è una cosa utile al territorio si tratta ovviamente di lavorare in quella direzione e noi consideriamo questa delibera proprio un motivo di nuovo sprone nuovo miglioramento nuove iniziative ovviamente non solo nel centro cittadino ma anche negli ambiti magari proprio che hanno più difficoltà e tra i quali vorrei sottolineare anche quello che citavo prima e che però ha avuto la forza insieme anche ai commercianti al punto cardinale di sviluppare questa iniziativa che penso nei prossimi giorni ne accennavo anche il signor sindaco e poi approfondirò magari direttamente questa 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 ulteriore possibilità che avrà quell'ambito grazie grazie consigliere Passoni consigliere Bevilacqua prego grazie presidente ma io ho sentito un po' gli interventi di tutti io mi domando dove ci può essere dove sta l'amicalità che ha citato il consigliere Dalmas non capisco vedo invece dall'intervento della spiegazione sia dall'assessore Zille che poi da Malacarte credo invece che ci sia una sinergia tra i diversi partners principalmente l'istituzione che sono comuni peraltro con colore di politico diverso inoltre i numeri del bilancio parlano da soli quindi non vedo nessun tipo di rapporto amicale detto questo sempre a suffragare il discorso della non amicalità perché veramente mi infastidisce sentire questo questo termine che è ridondante ormai in consiglio comunale mi sembrava ci fosse mi sembrava così mi sembrava di aver capito questo se non è così chiedo scusa ma mi sembrava vabbè no mi sembrava di aver capito forse ho sentito male detto questo vado avanti ribadisco comunque che dall'illustrazione che ha fatto il malacarte i finanziamenti sono regionali ma anche europa è se non erro assessore zille quindi è significativo questo dopodiché sì come giustamente ha rilevato e sottolineato il nostro capogruppo del fiume Bianchini Bianchini scusami no è perché oggi ho avuto a che fare con l'avvocato Bianchini è tutto il giorno che mi detto questo come ha rilevato il nostro consigliere Bianchini forse qualcosa di più incisivo si può fare forse il piano del commercio deve essere un po' più incisivo rilanciando ancora di più quello che era in origine proprio il discorso il concetto la mission della diversificazione del commercio quindi centro storico e centri commerciali che era la cosa più importante se mi ricordo detto questo vero è come ha peraltro ben sottolineato il consigliere Manzon vero è che vi deve essere come vi è comunque una grande attenzione per valorizzare il territorio cercando di rilanciare tutto il settore del commercio quindi ribadisco Viale Marconi sicuramente però anche il centro storico alla città purtroppo inizia a essere vuota a una certa ora è vuota detto questo auspicando quindi anche grande attenzione alla questione di genere che va oltre il fashion day e come abbiamo la stessa commissione pari opportunità ha avuto modo di confortarsi in questo ringrazio Malacard confrontarsi in maniera positiva proprio recentemente quindi ringrazio ancora grazie consigliere bevi l'acqua consigliere freschi prego grazie presidente aggiungo soltanto alcune brevissime riflessioni a quanto detto già dai consiglieri che mi hanno preceduto in particolar modo mi riaggancio a quanto detto dal consigliere Manzon mi pare ovvio e scontato che ci debba essere un accompagnamento da parte delle istituzioni a quelle che sono le attività associative e commerciali del territorio e della città questo penso sia la mission con cui è nata questa associazione e la cosa che ci permette questa sera di trattare l'argomento è che stiamo parlando di una rivisitazione di alcuni articoli dello statuto ecco io penso che su questo non ci sia non ci sia niente da dire in quanto mi pare che siano stati ampiamente dettagliatamente illustrati per cui non c'è nessun tipo di osservazione da fare se c'è un'osservazione che mi permetto così e sommessamente di portare l'attenzione è quella forse di dire all'associazione di avere un po' più di coraggio nel senso che anch'io come diceva prima il consigliere Ribetti appena è uscita la city card vi ho aderito con entusiasmo ma poi girando per i negozi del centro non ho visto altrettanto entusiasmo anzi ho visto forse una non conoscenza del prodotto allora se i numeri non li ho letti male Pordenone 97 Magnago 52 temo che Pordenone sia un po' deficitaria da questo punto di vista per cui forse un'iniezione di fiducia uno stimolo un qualcosa un po' di vitamine insomma ci vogliono nel senso che forse la città che è il punto di riferimento maggiore del territorio anche dal punto di vista commerciale dovrebbe un po' credere di più in questa in questa iniziativa e dovrebbe in qualche modo anche promuoverla a me è capitato di entrare in alcuni negozi e esibire la carta ma non trovare non trovare la risposta non trovare neanche la conoscenza e questo mi dispiace perché diventa uno strumento che potrebbe avere delle potenzialità molto forti ma che in qualche modo si riducono a ben poca cosa allora l'invito che faccio a lei direttore visto che questa sera ha avuto anche la sensibilità e diciamo anche la cortezza di descriverci e di presentarci quello che è il percorso che sta facendo l'associazione ecco di avere un attimo di non so neanche io non voglio dare suggerimenti tecnici li saprà meglio di me però un attimo di iniziativa in più anche dal punto di vista della pubblicizzazione del prodotto della pubblicizzazione dell'immagine perché se io vado a leggere il logo con cui avete ideato questo è un logo che nei suoi contenuti ha dei contenuti dei valori estremamente significativi che in qualche modo si rifanno anche il discorso della relazione cioè del mettere in rete le associazioni di mettere in rete il commercio di creare un centro nel quale si relaziona nel quale ci si trova e trovandosi si crea anche comunità e creando comunità si va anche oltre a quelle che possono essere oltre a quelle che possono essere le tristezze del periodo che stiamo che stiamo vivendo ecco allora io non vado oltre penso di aver detto già abbastanza per cui continuate su questa strada che le istituzioni vi siano vicine però nello stesso tempo da parte vostra che ci sia un ulteriore stimolo propositivo al fatto che questa associazione che appunto dovrebbe essere la sintesi tra quella che è la produzione cioè intendo commercio da un lato e quello che è il volontariato dall'altro l'associazione diventa veramente il punto di sintesi di incontro ma che si sappia che c'è perché nel momento in cui non sappiamo che c'è c'è il rischio di avere una potenzialità ma che rimane in qualche modo sotto traccia ecco grazie e auguri per il lavoro grazie grazie consigliere Freschi consigliere Piccinato prego grazie presidente mi dispiace arrivare anche qui in ritardo in opposizione sentire un discorso di opposizione fatto alla maggioranza per la seconda volta di fila questa sera però devo appunto anche io dire alcune cose quello che appena è stato detto che ci vuole più coraggio è in dubbio se i risultati sono quelli per esempio faccio l'esempio così di 900 mi piace su facebook ci vuole una sferzata sicuramente perché non è che poi questi mi piace si traducano effettivamente in riscontro reale bisogna fare subito un'altra specifica perché non è che i fondi europei i fondi regionali non siano soldi nostri mettiamolo ben in chiaro sono soldi nostri sono soldi nostri anzi il il no perché c'è qualcuno che sembra che pensa che i fondi europei non siano soldi nostri i fondi regionali non siano soldi nostri invece sono soldi nostri allora tant'è che addirittura in Europa paghiamo il doppio di quello che riceviamo quindi perché preferiscono dirottare quei soldi in altre parti perché magari siamo meno capaci a recuperarli ma tant'è secondo il mio punto di vista la funzione proposta è sicuramente utile va valorizzata però bisogna anche vedere i risultati concreti che sono stati ottenuti quella della city card è un'operazione intelligentissima che va sicuramente supportata e quindi dopo cinque anni si ha già un tratto di quello che è stato fatto sicuramente ci sono state iniziative altamente interessanti e siamo riusciti anche ad attrarre investimenti privati questo sicuramente è un elogio che va riportato basta no non basta bisogna partire da qua da qui e continuare il proseguo l'amministrazione come è già stato detto sta facendo morire il centro cittadino ma non solo la periferia anche è in condizioni cadaveriche questo tipo di attività è sicuramente di supporto è necessario che continui in maniera ancora più forte quindi però l'amministrazione non deve remare contro anzi deve dare il massimo supporto un'idea su tutte abbassi il costo dei parcheggi in centro è già stato detto ridetto ampiamente però è necessario farlo perché non si può continuare a far morire la zona centrale ma anche quella periferica perché ci sono altre zone che effettivamente ormai sono diventate dei dormitori e quindi uno più l'altra Pordenone dal punto di vista commerciale sta sicuramente male questo non serviva la bolla la sfera di cristallo lo dicevo già anni fa è stata presa sempre più sotto gamba ma evidentemente questi sono i risultati faccio ancora i migliori auguri per l'attività grazie grazie consigliere piccini coscienza not prego parere circoscrizione ecco grazie a tutti 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 Grazie. 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 Inizialmente. Grazie. Grazie, Consigliere Zanotto. Prego. Buonasera, Presidente, colleghi. io sono stato assente cinque anni da questo consiglio comunale dal 2006 al 2011 ma prima del 2006 ci sono state già le prime avvisaglie perché questa città stava andando verso la sua disgregazione centrale questa città godeva di progetti molto grandi, molto vasti molto importanti già anni prima oggi cominciamo a pagare questo costo quando la città si sta svuotando ci stiamo accorgendo giorno dopo giorno che questa città si sta svuotando basta fare un giro e si vede proprio in centro negozi chiusi, abbandonati e sempre ogni giorno di più non vedo negozi nuovi crescere, nascere assolutamente tutto quello che fa la situazione può anche essere giusto per quello che fa ma questo problema non risolve la difficoltà polteronese sotto l'aspetto commerciale sotto l'aspetto attrattivo perché io l'altro ieri ero a Gorizia costa Italia e il parcheggio costa 0,50 centesimi stamattina ero in via Sabatini in regione sono arrivato con la mia autovettura davanti al palazzo regionale ho pagato 0,60 all'ora sono andato all'ufficio regionale ho fatto documenti e sono venuto giù se io vengo qua in centro 0 qua se vengo qua in centro non pago 0,60 tutta la cintura centrale è 1,60 è 1,60 è 1,60 i parcheggi a Pordenone sono 1,60 euro sono 1,60 euro i parcheggi a Pordenone non trovo altre città che abbiano 1,60 euro va bene? chiaro su questo tranne l'ospedale che è 0,80 di fronte all'ospedale anche lì con un'aiuola che basterebbe rimuovere quella di accente alle caserme per poter parcheggiare decentemente ma si lascia lì perché serve in modo che si gratta tutte le macchine quando si entrano e qualcuno ha centrato anche l'edicola ma va bene così non toccate nulla che va bene così evidentemente va bene così ora io dico abbiamo questa città si permette un'area strategica come quella dell'Olcese che è abbandonata sembra quasi che sia nei Magredi quella parte importante della città sentivo anni passati si parlava del recupero archeologico industriale grande importanza a Pordenone non so se è ancora in piedi quel reperto archeologico industriale di Pordenone che ha identificato questa città tanti anni per me è quasi tutto quanto distrutto ma lo teniamo lì quell'area perché se quell'area diventava il vero centro commerciale collettore di Corso Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi dava fastidio a grandi interessi commerciali che dovevano nascere nella cintura pordenonese come sono nati perché qua qualche anno fa qualcuno ha scelto di portare nella cintura pordenonese tutto il commercio oggi ci accorgiamo che guardate che nella cintura pordenonese non si paga parcheggio tu arrivi davanti ai negozi senza pagare nessun parcheggio parcheggi vai dentro trovi bar negozi tutta la mercilologia del mondo e non paghi nulla e vai lì e ti servi di questo evidentemente allora come si può pensare che uno venga a Pordenone cosa deve venire in centro a Pordenone per quella bellissima e splendida viabilità che abbiamo del ring adesso ci va messo anche un semaforo così siamo a posto perché noi riusciamo a fare questa cintura non cresce quando uno arriva a Pordenone a Pordenone e scende in stazione e deve pensare che c'è un semaforo per attraversare tutti fanno i sottopassi come abbiamo fatto noi con via Candiani perché in passato stazione a Pordenone abbiamo fatto via Candiani in sottopasso per raggiungere un parcheggio oggi chi arriva a Pordenone con il trasporto pubblico deve aspettare un semaforo per andare in città evidentemente perché quella volta come si è fatto sotto la stazione delle Corriere non si poteva prolungarlo e farlo uscire sotto terra sulla città no adesso bisogna aspettare un semaforo per entrare fino adesso c'è il semaforo perché se no prima arrivava un treno e tu facevi il giro del ring domani mattina su questo ma è una città che non cresce è rimasto un paese questo è il fatto come abbiamo una zona così strategica vuota abbiamo una stazione che ha fatto grandi lavori autobus taxi e treno dove tutto si ferma se c'è un semaforo rosso dobbiamo aspettare addirittura c'è un tragitto con due strade che i primi giorni si fermavano in mezzo alla strada cioè in mezzo ci sono due strade con il semaforo si fermavano in mezzo perché la gente non capiva da fermarsi prima ma va bene così va bene allora per dirvi cosa questo che quella volta quando il signor Sindaco gli dissi per quanto riguardava l'IMU si ricorda dovevamo dare agevolazioni per quelli che si insediavano nella città di Pordenone se volevamo essere attrattivi una volta si facevano queste cose quando la grande Zanussi è venuta a Pordenone poi c'era Portuaro in ballo e quant'altro ci furono proposte serie perché uno faccia un capannone a Pordenone crea posti di lavoro e poi residenzialità evidentemente non siamo più capaci di fare questo e di fatti poi il collega dice uno va a Vittorio Veneto va a Conegliano va nella piccola Sacile a vedere quanto attrattiva è va chissà come mai va nella piccola Sacile però a Pordenone si leva la musica alle 11 si spengono le luci alle 5 cioè si fanno tutte quelle cose che servono per il commercio proprio servono per non pensare poi io anche a Sacile ho trovato i mendicanti che sono a Pordenone cioè possiamo girare un po' le città e vedere noi viviamo anche di nostre vedute quando andiamo in giro non ci sono a parte il fatto che se appena andiamo oltre i confine non esiste nessuno nessuna cosa che esiste in nostro paese nessuna non sentiamo la media di furti che vediamo qui che ormai la gente deve andare via lasciando una persona a casa perché altrimenti quando torna è bello che è pulito e ormai anche le forze dell'ora dicono hanno risposto a cittadini di Pordenone che hanno denunciato ma non terrà mica loro i soldi in cassaforte è la prima che vanno a sfruttare ma dove devo mettere i soldi sotto il materascio insomma cioè non si devono tenere i soldi in cassaforte perché è la prima cosa che vanno a cercare per distruggere e rubare allora che continua avanti pure la vostra situazione su questa strada però se dal 2009 che opera e oggi abbiamo una Pordenone è detto da colleghi una Pordenone e basta perché ha detto andiamo a Conegliano troviamo pieno andiamo in questi posti città anche più piccole non mi pare che siano che siano così come Pordenone ecco Pordenone ha delle inutile che stiamo a compensare gli errori che abbiamo fatto dieci anni a questa parte dieci anni come sull'edilizia quanti appartamenti abbiamo invenduti cioè quanta roba abbiamo invenduta in questa città nuova nuova lasciamo perdere nuova invenduta di serie A serie B di sparmio energetico di A eppure invenduta evidentemente è stato fatto un errore di cubatura di concedere grandi grandi strutture dove poi non trovano collocazione io mi ricordo mi battei qua dentro dicendo abbiamo fatto quella magnifica struttura qui nella rotonda che collega via Capucini con via del Bellunello no? cioè come si chiama quella quella dei commercioli che ha dovuto fare un palazzetto siccome Pordenone non aveva volumi non ci poteva dire guarda hai dei soldi compra ciò che è invenduto ce n'è di libero Pordenone quanto ne vuoi abbiamo dovuto concedere su un piccolo strettino così strettino così che avete visto le casette attorno con sto bel pirolotto tanto qui ogni sindaco ha fatto suo pirolotto no? Pazzini l'ha fatto via Selvatico ve lo ricordate quella contestazione? ma no abbiamo delle casette lì attorno di un piano due piani e poi c'è questa magnifica struttura su un lembo di terra incredibile perché doveva andarci un'associazione del confidi perché il confidi che stava in piazza del cristallo non poteva trovare un piano qua che poteva acquistare e avere questo no bisogna fare un palazzetto nuovo perché Pordenone ha bisogno di queste cose e questo è lo stesso per il commercio io non so come riempirete questi negozi questi volumi che abbiamo vuoti io vi auguro che le riempiate io sono convinto che se ne svuoteranno ancora e purtroppo è una brutta convenzione per la mia città questa però è evidente che sarà così perché se non diamo un colpo radicale di cambiamento ma chi è che apre un negozio a Pordenone scusate venirci è cara abbiamo i vigili che fanno loro dovere giustamente e marcano le multe su questo è evidente perché bisogna anche rispettare è una viabilità che per attraversare Pordenone è un disastro è un disastro perché basta che venire qua guardate io farò un'interrogazione per capire a cosa è servita quella rampa di lancio che c'è lì per coppia io ogni volta che arrivo francamente non riesco a capire quella strada che è costata miliardi non milioni miliardi di lire milioni di euro che ancora non concepisco questa strada che è stata fatta nell'era Sonego tra l'altro che è molto attento a tutte le problematiche questa strada che si alza e poi scende d'altra parte quando si poteva fare una grande rotonda a raso una grande rotonda a raso che poteva fare la stessa funzione di quella rampa lì qualcuno dovrà spiegarmi un giorno questa rampa di lancio che quando arrivi proprio te la trovi davanti no? su questo fatto qua come d'altra parte io penso che se non abbiamo qui le idee giuste per il commercio non vedo avete fatto il rinno di costruzione di categoria cioè che non sono l'ASCOM cioè i commercianti puri quelli che devono mettere il vano sul portafoglio e aprire un negozio pagando anche con le grandi problematiche della tassazione oggi perché oggi ma voi siete veramente convinti che ci sono dei margini con la tassazione che applichiamo ai nostri commercianti ai nostri artigiani non ci sono margini non siamo più attrattivi come paese nessuno più viene a investire nel nostro paese e poi chi viene qua a fare paga le tasse in Olanda e alla direzione a Londra e quando ci sono i costi sociali li paghiamo noi abbiamo visto no? cioè quando qui uno mette un capannone mette in integrazione e paga il Stato Italiano però poi è la sede in Olanda e paga le tasse a Londra questo è il sistema Italia che si sta verificando si sposta alla Ferrari ma non c'è mica un problema Madden Italy ma Madden Italy dove? cosa è rimasto di Madden Italy qui? ma quali sono abbiamo tutte le aziende qua attorno che sono tutte straniere se domani mattina se domani mattina stiamo parlando di commercio non so se so che se le macchine non riesce più a vendere qua Tomasello sto che da fastidio ho visto che prima non hanno neanche apprezzato l'intervento di Buonazza che è andato dai giornalisti a raguardare un posto quello che devono scrivere domani capogruppo ha rispetti un po' almeno ecco non so ma l'ho vista prima molto schizzato molto schizzato quando Buonazza parlava era molto schizzato Tomasello lei fa parte del periodo democratico il periodo democratico non ha niente lei su quella parte questa lì ve lo dico io che il democratico non ha niente Tomasello non ha niente democratico lei perché prima ha stitito il Buonazza ma si ha detto lei perché mi ha interrotto lei nella mia funzione nella mia funzione ma per cortesia non se ne può più non può anche alzare e andare via non è mica un problema Tomasello per cortesia sa quante volte ho supportato lei comunque se lei considera questo io volevo solamente dire che questa città sta morendo e sono ancora più convinto che morirà anche nel futuro grazie grazie consigliere De Bortoli silenzio consigliere Del Ben prego grazie diciamo che questo consiglio comunale è molto interessato a discutere quando si parla di problemi che riguardano la città nei suoi vari aspetti commercio compreso dagli interventi che ho scritto finora siccome questo è un regolamento del 2009 va approvato perché è una scelta di quell'amministrazione quindi è inutile fare tante osservazioni eccetera perché passerà nell'approvazione così come scritto io mi permetto però di fare due osservazioni sul come è formulato quello che adesso si andrà a approvare che ricordo è atto del consiglio comunale io vorrei così soffermare l'attenzione solitamente opportuno di quello che dovete fare sull'articolo 4 quando è scritto che compito di questa associazione della quale fanno parte anche enti istituzionali di fare accordi con la proprietà immobiliare su progetti di diversificazione merceologica di locali insediati nei centri urbani a Valenza commerciale io direi che il compito del comune qui sarebbe più precipuo quello di dare degli indirizzi sulla pianificazione commerciale e verificare se gli insediamenti sono coerenti con questa scelta politica di orientare l'insediamento commerciale per cui sono molto preoccupato per dire perplesso che un'associazione del quale il comune fa parte vada a fare direttamente accordi con la proprietà immobiliare un altro aspetto che è proprio così a spot su questo regolamento sul quale mi pare utile è che a un certo punto considerato che in forma aggiungo benemerita abbiamo avuto soci fondatori che poi hanno avuto anche altri soci istituzionali ed altri soci abbiano quasi specialmente i fondatori un certo impegno di poter essere dentro nervo sostanza struttura di questa associazione perché diciamo che trovo almeno di brutto gusto l'ipotesi che vi possa essere esclusione dall'associazione di soci fondatori un altro elemento importante è questo allora questa associazione della quale il comune fa parte stabilisce di come deve essere fatto il consiglio direttivo non fa questione di maggioranza minoranza peso altezza ma indica 11 membri ma forse visto che il comune ci partecipa e che il comune il consiglio comunale è abituato alle regole ogni volta che si dice membro almeno dovremmo mettere alcuni elementi su questo membro domanda sarà un appartenente o no all'assemblea avrà o non avrà dei requisiti particolari quando il comune va a far parte di un'associazione io direi che la definizione di alcuni requisiti di membri che andranno a fare il direttivo sarebbe opportuno di delinearla inoltre c'è sempre il punto F che un membro è indicato dal sindaco di Pordenone o lo stesso sindaco quindi questo mi pare un elemento importante perché se un'associazione deve essere rappresentativa la figura del sindaco con il percorso che ha fatto attraverso le nomine sicuramente è di peso dopodiché è il comune di Pordenone che fa parte di questa associazione e noi ci siamo dati delle regole con le quali il comune indica delle persone da mettere in un posto diciamo che qua del possesso dei requisiti per cui mi pare mi pare per dire da approfondire quando è scritto sempre il punto F che lo stesso sindaco mi va bene ho una persona di sua fiducia io direi di una persona magari che appartiene al consiglio comunale magari che ha alcuni requisiti magari che ha dato una disponibilità non perché il sindaco possa essere persona che non ha fiducia ma non la ritengo una proprietà transitiva in una istituzione quando si dà delle regole di rappresentanza se non ricordo male nel febbraio 2012 ci siamo dati delle regole e a quelle regole mi consta che il sindaco sia sempre attenuto per dare pubblicità e indicazione e chiedere curricula a quelli che vogliono indicare a rappresentare chi che va a rappresentare comunque Pordenone in quel luogo allora visto che siamo ancora in tempo questo potrebbe essere un approfondimento da fare allo stesso modo io non so se gli altri sindaci abbiano già approvato in questo momento questo testo perché se è il sindaco di Pordenone o di sua fiducia che rappresenta anche gli altri Bonton vorrebbe che potrebbe essere magari d'intesa perché questo sarebbe un elemento importante per dare una rappresentanza anche più coerente a quelli che sono i soci istituzionali a questa valenza allora io ho solamente per dire dato due punti di riflessione che metto a disposizione del sindaco e del consiglio comunale sperando che queste non siano solamente per dire delle osservazioni di minoranza è il mio ruolo ma che possono anche essere osservazioni di interesse per tutto il comune e il consiglio comunale che lo rappresenta grazie consigliere del ben consigliere Piccini prego grazie presidente poche parole per sostanzialmente non tanto criticare la questione della modifica o no del dello statuto qui di sviluppo e territorio ma innanzitutto per chiedere come mai rispetto ai tempi del 12 dicembre 2013 siamo arrivati alla modifica oggi ho chiesto agli atti e agli atti c'è una nota del 18 luglio per la verità ma che però fa riferimento ad una necessità di modificare lo statuto emersa già nell'assemblea del 12 novembre allora siccome come dire i tempi sono importanti è altrettanto vero che questa modifica dello statuto non sarà derimente o comunque non sarà come dire risolutiva di tutta una serie di criticità e di problematiche che questa sera qui sono state evidenziate ma sicuramente se viene richiesta ha come abbiamo avuto modo di vedere in commissione la sua importanza mi era caduta come dire mi era caduto l'occhio e aveva attirato la mia attenzione questo aspetto qui al di là di queste formalità quello che è stato detto qui questa sera credo sia tutto vero nel senso che è vero che un'associazione che lavora per fare sinergie come ha detto qualcuno è importante è altrettanto vero che si può fare di più meglio diversamente non lo so ma c'è un punto di fondo e credo sia quello strutturale che anche se il dottor Malacart che qui è presente questa sera facesse i salti mortali tripli e carpiatti con la sua competenza e se dico di più ci aggiungesse anche quella di altre persone brave come lui e di impegno da parte di associazioni di associazioni ma di categoria ma di amministrazioni locali e così via purtroppo io non sono pessimista di mio ma non risolverebbe una situazione che è come dire strutturale e che si è sistematicamente che sistematicamente è peggiorata in questi anni lo dico lo dicevo qualche anno fa ma non sto dando colpe a chi non so alcune questioni probabilmente come è stato detto qui possono in qualche modo influire e si potrebbe la partita quella dei parcheggi è una partita marginale ma importante anche quella del costo dei parcheggi ricordo ancora l'ho detto l'ho ridetto questa riunione che era stata fatta agli inizi di settembre dell'anno scorso quando c'era una sala rossa gremita di commercianti e che hanno fatto sentire la loro voce in modo importante l'amministrazione ha risposto e ha detto non intendiamo recedere di mezzo millimetro lo ricordo molto bene allora non sarà per questo che la città si spopola non sarà per questo non sarà nemmeno per una politica che si costruisce nel tempo e che poco ha a che fare con questo sindaco ma ha a che fare con i dieci anni di amministrazione precedente per quanto riguarda la volontà di spostare una parte del commercio importante fuori dalla città insomma non sarà per tutta una serie di cose che noi sommessamente alcune volte in modo più acceso abbiamo più volte evidenziato sarà per questa crisi che come dire dura e persiste e che non molla la presa sta di fatto che la situazione è questa e allora cosa fare benissimo i fondi Pisus i fondi che arrivano dalla regione dall'Europa i centri in via sono d'accordo che alla fine i soldi sono sempre nostri perché questo va detto e va riconosciuto ma allora se non si possono fare le grandi cose bisogna rifugiarsi nelle piccole cose e allora quello che è stato citato prima dall'intervento di Zanut mi sembra una cosa sensata ovvero la diversificazione merceologica l'imprenditoria giovanile e lì dico ci sono già dei fondi regionali aggiungerei anche quella per quegli imprenditori oppure per quelle persone che a 50 anni ancora giovani sono rimaste senza lavoro e si possono in qualche modo reinventare una attività la formazione i mercati dei quartieri però guardate io non sono qua da tanti anni però di queste questioni qua ne sento parlare dal 2007 da quando io sono arrivata qua 2006 credo dal 2007 ed ho l'impressione che sia un po' il gatto che si morde la coda ci parliamo addosso ce lo diciamo ma quando è il momento di stringere di concludere non ci arriviamo non lo so perché non ci arriviamo non come dire non sono mai stata seduta dall'altra parte quindi non conosco fino in fondo quali sono le motivazioni ma ciò appare allora che cosa dire anticipo già presidente a lucro di tempo la dichiarazione di voto e dico che in linea per quanto mi riguarda con ciò che votai nel 2009 cioè un voto di astensione allora con un entusiasmo maggiore rispetto ad oggi perché nasceva un qualche cosa di nuovo e che avrebbe dovuto dare tutta una serie di frutti che per la verità sicuramente ha fatto alcune cose ripeto ribadisco non è una critica però insomma rispetto a oggi lo confermerò quel voto di astensione per quanto mi riguarda credo anche di interpretare il pensiero del mio collega di gruppo allora un po' di energia in più probabilmente ci vuole credo che però non sarà sufficiente nemmeno quella perché l'impostazione che noi abbiamo dato alla nostra città dal punto di vista del commercio non è quella che va in questa direzione perché lo abbiamo visto a questo siamo sfortunati perché c'è questo periodo così buio e così grigio e una chiusa finale la faccio indirizzata a lei nel senso che le attività produttive e commerciali che sono appena fuori rispetto al centro lo sa bene la come si chiama qui l'ASCOM no commercio l'ASCOM non vengono interpellati sulle attività non vengono coinvolti e di questo si lamentano e parlo di quelle che sono appena fuori ovvero appena oltre il ring per citare quelle che si trovano al di là del vecchio grattacielo così conosciuto ai pordenonesi ecco quindi anche da questo punto di vista se dobbiamo includere come va tanto di moda dire oggi cerchiamo di includere tante più persone possiamo e tante più attività possiamo perché abbiamo visto che i numeri ancora sono un pochino bassi grazie grazie consiglio il pc bene nessun altro iscritto perciò passiamo adesso al secondo intervento nessuno nessuno iscritto bene do la parola all'amministrazione per eventuali repliche o chiarimenti prego ossessore sì grazie devo innanzitutto ringraziare il consiglio e tutti coloro che sono intervenuti siamo arrivati a quest'ora significa che il tema è di estremo interesse e soprattutto sono stati utili i vari interventi per anche in termini di contributi credo che comunque se questo interesse dimostra certo è che non solo come consiglio comunale per l'interesse della città ma anche per quello che finora ha svolto sviluppo e territorio che è stato nonostante chi è intervenuto e giustamente ha detto vada soprattutto deve essere più visibile e vada comunicato è un aspetto importante del tutto sicuramente interessa perché ha svolto delle attività certamente queste possono essere implementate poi vedremo un po' meglio io però adesso non mi dilungo vorrei dare la parola a Malacar perché alcuni di questi interventi e alcune domande riguardano proprio aspetti specifici mi riferisco alla city card e quant'altro so che Malacar si è preso già nota per cui preferisco che lei dia delle risposte e poi riprendo io la parola per la conclusione grazie ho preso nota di tutto e ho preso ho preso nota e spunto di tutti gli interventi veramente interessanti e spero e mi auguro per la città di poterne farne tesoro per migliorare e ci sono stati dei consigli veramente dei consigli che accetto ben volentieri e anche delle critiche accetto ben volentieri perché quando l'ho scritto anche sui giornali quando la critica è costruttiva è sempre un fattore positivo per quanto riguarda la city card sulla city card ci tengo ci tengo a tornare anche se è stata è stata citata e e lì sono il primo a fare autocritica nel senso che effettivamente la city card non ha avuto il successo che pensavamo avesse quali siano le cause io voglio parlare di cause e non sto cercando giustificazioni perché è lungi da meglio cerco di analizzare e lavorare per migliorare allora la city card anzi voglio cogliere questa occasione che ho una grande occasione per parlare a tutti voi per precisare alcuni spetti la city card probabilmente beh probabilmente nel centro non ha attecchito molto perché innanzitutto nel centro di Pordenone abbiamo tanti negozi in franchising che hanno già la loro city card ma questo non è comunque l'unica causa è uno strumento e ha ragione il signor Zanout è una carta che nasce per essere la carta della città ma è anche una fidelity card come ho detto prima era un sistema per dare anche al negozio di via al commerciante che ha un negozio solo potergli dare la possibilità di avere la sua city card inoltre siccome io sono una persona di economia e non di politica e sono abituato a lavorare sui risultati era anche uno strumento per misurare i risultati delle politiche che faceva sviluppo territorio in quanto ad ogni acquisto viene registrato l'acquitto quindi per poter misurare i benefici o i non benefici ottenuti da qualche attività perché qui ve lo dico io prima ho elencato le attività sarei sciocco e sarei bugiardo a dirvi che tutte le attività hanno avuto un enorme successo ci sono state attività che hanno avuto un bel successo ci sono state attività che non abbiamo più ripetuto perché sono stati dei buchi dell'acqua quindi si va per analisi si va non dico per tentativi perché sarebbe discriminante nei miei confronti e nei confronti di chi lavora con me la city card oggi potrebbe e sono il primo a dirlo uno strumento superato perché continuiamo a io in prima persona continuo a intestardirmi sulla city card perché innanzitutto abbiamo bisogno di un supporto magnetico seppure oggi si possa fare benissimo col telefono perché proprio in virtù della collaborazione con GSM questa non nasce per essere una carta sconti anche perché voi mi insegnate che uno sconto del 2,5% non è uno sconto e neanche piccola beneficenza in realtà qui dovevano essere caricati i punti per pagare il parcheggio nelle colonine della GSM perché in accordo con GSM dovevamo fare dei sistemi diversi abbiamo deciso di fare la carta a lettura a lettura di prossimità proprio perché la tecnologia delle colonine doveva leggere questa card quindi vogliano oggi siamo non dico obbligati però vogliamo portare avanti questa strategia poi sono d'accordo con chi ha fatto l'intervento che deve essere maggiormente utilizzata anche in altre strutture assolutamente sì dobbiamo cercare con questa card di utilizzarla anche in fiera anche nei musei e in tutte le attività della città che altro dire sul fatto della app del sito pienamente d'accordo il sito è datato il sito ha bisogno di essere infrescato l'app è stata un'app che abbiamo ottenuto lo dico tranquillamente chi ci ha sviluppato il sito ci ha regalato l'app e questa è la dimostrazione che le cose gratis poi hanno il valore che hanno ci stiamo attrezzando e sto lavorando per cercare di intercettare altri fondi possibilmente proprio per rinnovare il sito e per rinnovare l'app sulla trasparenza e la disponibilità assolutamente d'accordo e soprattutto sul fatto di non lavorare per alcune vie ma di cercare di lavorare per tutte le vie allora qui sì assolutamente d'accordo e anzi sono il primo a dire che vorrei non i commercianti oltre il grattacielo vorrei tutti i commercianti iscritti a sviluppo territorio quindi è tutto il mio interesse avere più commercianti possibili e per quanto riguarda il lavoro delle varie città io devo dire anche e qui lo dico non con una nota polemica ma con una critica spero costruttiva che laddove io la città può contare in un gruppo di commercianti coesi che fanno le politiche insieme che ci interpellano perché hanno un progetto e noi grazie agli stakeholder che abbiamo grazie anche ai finanziamenti che riusciamo a intercettare e riusciamo a portare avanti i progetti i progetti si fanno dove invece c'è scusatemi io uso una metafora se siamo in due persone che abbiamo come obiettivo quello di attraversare il fiume io posso scegliere la canoa o posso scegliere il motoscafo comunque è uno strumento la card è uno strumento se però la persona che deve venire con me invece di aiutarmi a remare sta lì ferma e mi critica lui non va da nessuna parte e io faccio il doppio della fatica quindi la mancanza di una politica comune fa anche parlo commerciale fa anche provoca anche delle difficoltà l'altra l'altra difficoltà è meramente è meramente naturale che voi sapete meglio di me nel mercato le persone ci sono i pionieri ci sono quelli che non sono pionieri non è tanto la paura nei nuovi strumenti ma la paura nel cambiamento io sono convinto che se io proponessi al mio consiglio di amministrazione di cambiare cambiare investimento dopo aver fatto degli investimenti sarei un amministratore un cattivo amministratore invece siccome sono convinto che lo strumento può essere lo strumento giusto è giusto perseverare e forse da parte mia lavorare meglio nella comunicazione e nel migliorare e nell'approccio al cambiamento da parte di chi deve utilizzare degli strumenti grazie prego sessore grazie nei vari interventi vorrei così fare alcune riflessioni di carattere generale sicuramente all'interno dell'associazione sviluppo territorio e l'apporto che può fare il comune di Pordenone è importante soprattutto di stimolo in relazione anche a quanto è stato raccomandato dai vari interventi ci sono però alcune riflessioni sui quali la città deve interrogarsi ci sono state molte iniziative molte se ne possono ancora fare ma credo che il ruolo dell'associazione ed è quello che come amministrazione comunale anche mio più volte ho portato in questo momento di difficoltà abbiamo parlato più volte di risorse bisogna dare più soldi ma i soldi non ci sono bisogna crederci di più bisogna ma bisogna fare sistema perché chiaramente le risorse sono quelle che sono io credo fermamente che quelle che sono tutte le risorse esistenti in città abbiamo la fiera di Pordenone abbiamo il teatro abbiamo l'amministrazione comunale che fa tutta una serie di iniziative di carattere culturale di carattere turistico abbiamo il sistema della sosta di parcheggi abbiamo tutti queste strutture che devono essere messe in sinergia la capacità e l'attrattività della città c'è e si può implementare ho citato più volte noi abbiamo una fiera che dista 300 metri dal centro cittadino ma che possiamo fare sinergia perché lì in quella fiera arrivano oltre 350 360 mila persone nell'arco dell'anno su iniziative che possono essere concomitanti con altre iniziative che il commercio può fare in città la stessa cosa vale per iniziative del teatro quando abbiamo ospiti tipo la la fiera la fiera del SICAM dove vengono da tutto il mondo dove possiamo far vedere i nostri musei le nostre realtà possiamo creare un sistema dove alcune di queste manifestazioni possono essere comunicate già come pacchetto vediamo che in alcuni periodi dell'anno tipo ad esempio il settembre abbiamo una serie di iniziative che se le mettiamo assieme oltre all'iniziativa madre che Pordenone legge ma che può mettere insieme dei pacchetti importanti anche sotto il profilo turistico ed organizzativo per non parlare poi delle varie associazioni la Proloco la Pro Pordenone tutte le iniziative e qua si diceva se meglio si articoli le iniziative riusciamo anche a farne una ogni fine settimana volendo per cui credo che il ruolo dell'associazione sia proprio quello di fare sistema di creare sinergie però bisogna dire un'altra cosa che queste passano attraverso la volontà dei soci perché se ci sono dei soci che continuano o vogliono lavorare perché questa qua è la stanza mia e non voglio contaminare o c'è il pericolo no ed è chiaro che non si riesce ad andare oltre fare sistema significa che chi detiene determinate iniziative le deve anche cedere o le deve organizzare le proprie all'interno di un sistema più ampio questo significa che bisogna fare dei vari interventi bisogna fare comunità è uno dei concetti sinergie comunità fin quando abbiamo anche all'interno dei commercianti che abbiamo tutti pro e contro bisogna che abbassiamo il tenore qua in città delle critiche continue fine a se stessi da una parte all'altra significa tutti devono fare un passo avanti questo è il discorso tutti 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 e quindi secondo me in quella direzione è quella la mission la mission che in qualche modo bisogna perseguire so che non è facile significa dover intervenire in un determinato modo cercando ovviamente tutte quelle alleanze quelle sinergie necessarie per raggiungere questi obiettivi c'è una grande opportunità si è parlato dal punto di vista economico finanziario noi abbiamo questo bando Pisus che siamo qua a giorni che stiamo attendendo e quindi anche vi aggiorno che permetterebbe ampi spazi per quanto riguarda il respiro che possiamo dare alle nostre al nostro commercio alle nostre imprese c'è in paglio 1.200.000 euro abbiamo già predisposto anche già la bozza del bando e questa bozza va proprio incontro ad alcune di queste cose che avevamo detto ad esempio di cercare la diversificazione merceologica soprattutto nei corsi questo perché ci sia più attrattività creare spazio per l'imprenditoria giovanile l'innovazione ecco questi sono aspetti che secondo me e lì con sviluppo del territorio stiamo lavorando che ci permettono chiaramente di dare un certo impulso non sono propriamente d'accordo con chi dice che il comune sta lavorando sta remando contro il commercio bisogna che specifichiamo alcune cose ci sono stati momenti in cui e anche questo consiglio che ricorderete bene abbiamo dato dei contributi soprattutto quando abbiamo introdotto per quanto riguarda il nuovo sistema dei costi della raccolta dei rifiuti e quindi siamo intervenuti verso certe tipologie e se voglio elencare soldi l'amministrazione ne ha messi in questo senso così pure anche per quanto riguarda i parcheggi credo che la qualità della vita e la qualità di una città penso Viale Marconi tanto per citarne non passa attraverso portare più autoli si tratta di creare delle condizioni che ci siano i parcheggi in zona per potersi avvicinare ma che la gente possa anche camminare possa andare anche in bicicletta questo è il sistema di andare a ricucire certi brani della città non certo perché si arriva con l'auto lì davanti e andiamo a riqualificare il termine riqualificazione porta in sé tutta una serie di iniziative ben precise e credo che in questo senso l'amministrazione il fatto che abbia incentivato l'uso dei parcheggi in struttura e ricordo che proprio per il commercio è stato predisposto il sabato pomeriggio è gratuito il parcheggio in struttura sono investimenti enormi che ha fatto l'amministrazione soldi pubblici soldi di tutti e credo che sia in dovere che queste strutture che a suo tempo questa amministrazione più volte ha dibattuto per poterle avere per poter venire incontro al problema dei parcheggi e oggi spesso non sono completamente sottoutilizzate credo che sia una politica sensata in questa direzione ecco questo tanto per citare alcuni aspetti poi parlando con De Bortoli voglio dire che le strutture qua a Pordenone sono a 0 e a 0,40 di centesimo ecco tanto per per intenderci per quanto riguarda gli aspetti che citava il consigliere Dalmas io credo che il comune abbia tutta l'intenzione di ovviamente incentivare questa associazione ovviamente con le disponibilità economiche che ha ricordo che questa è una società pubblica e privata il problema è far funzionare far diciamo avvicinare il più possibile il privato perché possa sostenerla e che ci sia anche questa come posso dire questa sinergia nel fare le cose che spesso invece si vede che ci sono posizioni diverse è altrettanto vero che alcune di queste iniziative sono fatte per implementare il centro storico l'area ma che comunque devono avere anche dei riflessi nelle aree più periferiche questo è stato segnalato e credo che anche il commercio debba respirare anche quello che sta nelle aree più periferiche e quindi delle iniziative che possano essere coinvolgenti e sinergici tra l'esterno la parte centrale del centro ecco io credo che queste iniziative possano ridare slancio è chiaro che qua sono venuti diversi suggerimenti si può fare di più e si può fare meglio però credo che la strada per fare di più sia quella di mettere insieme come dicevo tutte le forze ecco proprio perché anche l'aspetto finanziario non c'è per rispondere ad il ben che è entrato più credo sia l'unico consigliere entrato in quello che è l'argomento della serata che appunto è la modifica di alcuni elementi dello statuto io adesso non lo so perché credo che altri membri e altri comuni abbiano già votato questa bozza adesso non so chiederò come siamo le sono già votate le stanno portando in giro ecco per cui compatibilmente soprattutto per quanto riguarda il membro di sua fiducia che così è scritto proveremo a vedere se è possibile in sede di modificarlo e scrivere designato o nominato e mi pare che è in linea con quello che lei chiedeva e anche coerentemente con quello che è il nostro statuto poi per quanto riguarda l'espulsione è un termine forte però ovviamente se uno dei soci non paga e questo continua una norma bisognerà dirla in questo senso che non può per quanto riguarda l'articolo 4 che è ancora in essere non è oggetto del cambiamento accordi con le proprietà immobiliari su progetti di diversificazione merceologica credo che siano aspetti più di competenza ovviamente di un soggetto tipo sviluppo e territorio più che del comune perché le merceologie riguardano iniziative che possono avvenire quello che ad esempio è stato testè elencato per quanto riguarda le iniziative su corte del bosco è fatto appunto tra un privato che ha le proprietà immobiliari con la possibilità di entrata per certe attività e quindi la possibilità da un lato di far entrare imprese e giovani imprese a un fitto per i primi due anni mi pare gratuito pagano solo le spese condominali e dall'altro c'è l'interesse di chi ha l'immobile di vederlo valorizzato perché solo con un'attività quindi creare queste sinergie questa quest'azione è perseguibile anche in altre realtà vediamo Piazza Costantini vediamo la stessa realtà di Viale Marconi e altre che su questo fronte bisognerà che cerchiamo di dare un'ulteriore accelerazione ed un'implementazione in questo ecco io ovviamente potremmo dire ancora cose ma visto che il dibattito è stato lungo e ricco di spunti io mi fermerei qua e ringrazio tutti quelli che sono intervenuti va bene grazie Assessore bene signori si passa adesso alle dichiarazioni di voto il consigliere Dalmas prego astensione del gruppo di Forza Italia ma non tanto per quanto ha detto il buon dottor Malacar che spero non vada via rimanga quanto per ciò che ha detto lei Assessore un ultimo adesso insomma qui il privato in questa società c'è il privato dentro questa società francamente come se dicessi che io sono come Calamandrei stessa cosa cioè il privato qui non c'è non si vede è un pubblico mascherato da privato non c'è assolutamente niente il bilancio se lo legga bene veda il ragionamento che lei fa su un commercio è deprimente assolutamente un ragionamento deprimente parla di spostare le persone dalla fiera al centro cittadino ma scusi uno che viene qui in fiera e finisce la manifestazione in fiera alle 6, 7, 8 di sera dove va a mangiare andrà in centro dove si sposta se vuol vedere qualcuno andrà nel centro città ecco c'è un livello proprio bassissimo di immaginazione non avete immaginazione mi scusi non ha immaginazione eppure lei è una brava persona ma non avete immaginazione siete qui a fare i compitini il dottor Malacarte è stato qui tre ore per spiegarci che cosa come ho detto prima il pupazzetto che avete fatto il ramarro no copiate almeno Kermit del Mappasho che è meglio insomma date un altro nome ma proprio siete copiate le cose brutte e le copiate male avete avete fatto la city car ha messo lei la city car di un fallimento chi è stato il genio che ha inventato la city car io pensavo che fosse una macchina questa city car non so card poi ho scoperto che si chiama city card perché se tu entri in qualsiasi negozio nessuno sa che esiste non c'è neanche una macchinetta e lei ha ammesso che è stato un fallimento perché evidentemente no l'ha detto prima ho preso nota anzi addirittura è stato un fallimento ed è uno strumento superato poi ha aggiunto uno strumento superato mi dica qual è lo strumento nuovo dove sta il nuovo me lo dica non l'ho capito mi dica dove sta il nuovo poi entriamo nei bilanci a questo punto nella notte integrativa dei bilanci e lì veramente potremo divertirci però ho detto questo non vuole essere il mio intervento contro colui che gestisce e che ci mette passione e coraggio nel farlo perché glielo riconosco aveva passione nell'esprimere le cose io le persone che hanno passione in quello che fanno mi piacciono le sostengo anche se fanno cose che non mi piacciono come questa società non mi piace sbagliata l'impostazione caro del ben se nel 2009 abbiamo partecipato a questa roba abbiamo sbagliato nel 2009 perché era una puttanata grande come una casa era il principio dei vasi comunicanti prendo dalla destra do alla sinistra prima ripeto c'era un certo tipo di società che governava ne è arrivata un'altra però non si sporcava le mani direttamente con la politica mettendo la propria faccia davanti ai cittadini però occupava le istituzioni incominciando dalla camera di commercio questo è il sistema Pordenone caro assessore Zilde lei ha fatto un errore gravissimo ha citato il fare sistema che è una cosa che mi imbestialisce mi irrita ogni volta che sento parlare del fare sistema e chi parla del fare sistema? coloro i quali hanno distrutto Pordenone hanno fatto il loro porci comodi in questa città e non certo lei ripeto una brava persona non certo lei parlo di ben altre cose cominciando dalle banche di questa città e allora sono coloro i quali sono stati gli inventori gli ideatori del fare sistema che per loro è ic manebibus optime basta chiuso basta allora vede inutile che perdiamo tempo a disquisire in ordine ai 13.000 euro della collaborazione continuata continuativa che sta dentro la nota di dettaglio inoltre sui compensi assolutamente irrisori per chi fa questo lavoro lo fa gratis 15.000 euro all'anno lo fa gratis allora se credete in questo dovete investire denaro toglierlo dove non va e investire su qualcosa che serva che produca dei risultati allora sull'attività che ha fatto sinora e ci avete spiegato è un'attività evidentemente da sagra di paese nulla di più un po' più raffinata perché comunque siamo una città capoluogo perché comunque potevate inserire qualche attività all'interno di Pordenone Legge perché comunque avete dimostrato di avere particolare sensibilità attenzione nei confronti dei bambini ci sono molte cose iniziative che sono legate a questo perché mi sono guardato il sito e da lì il resto è fuffa niente allora non mi venga a dire che questo è uno strumento attraverso il quale noi possiamo rinunciare il commercio assolutamente no non mi venga a dire che qui c'è l'investimento privato non c'è traccia ripeto e chiudo è come se io dicessi che conosco il diritto come Calamandrei punto e con questo chiudo bene grazie consigliere Dalmas consigliere Franchin prego grazie signor Presidente allora insomma il dibattito è estremamente interessante anche se è lungo per cui non è che ci sia molto da dire però io vorrei ricordare come è nata questa cosa perché noi in questa aula abbiamo partecipato alla nascita di questo progetto ed era un progetto che aveva una forte una forte valenza politica per il territorio cioè c'era un piano del commercio di struttura regionale e non comunale che metteva a Pordenone una serie di possibilità di aprire centri commerciali che si sarebbero sicuramente aperti nella cintura del Pordenonese quindi quello che è successo è che Pordenone ha fatto una scelta di non avere centri commerciali di fatto c'è solo il centro Meduna ma il comune vicino più grande Fiume Veneto ha fatto la scelta di fare centri commerciali che vanno dal ponte di Meduna fino a Decathlon questo era il problema in quel momento lì questo consiglio comunale si era accorto aveva coscienza del fatto che c'era necessità che la città si muovesse formando un gruppo di peso di capacità di svolgere azione di promozione dentro la città perché il piano di commercio regionale in cui il comune non poteva fare altro se non accettare quello che si odiava al di fuori del ponte del Meduna per capirci ci aveva in qualche modo costretto a far sì che la città muovesse dei passi per salvarsi era un passaggio necessario allora in questa sala io mi ricordo perfettamente chi c'era penso che si ricorderà c'erano i commercianti di Pordenone che erano dato origine a questa associazione e c'erano le forze politiche che dicevano dobbiamo fare il sistema perché se no restiamo isolati cioè di fatto il commercio ci espropria della città oppure viene espropriata la città del commercio ma non per una scelta del comune era una scelta del piano commerciale regionale cioè altri erano i momenti di ragionamento giusto o sbaglio no colloquiamo beh questo era il fatto questo era il fatto tengo a precisare che non è stata la scelta di questo comune questo comune si è spesso in questa aula almeno per quello che ne so io sempre in maniera contraria alla nostra di grandi centri commerciali perché abbiamo sempre pensato che questo era il centro commerciale all'aperto erano i nostri corsi il nostro centro storico le nostre capacità di sviluppare attrazione dentro una realtà che era di grande attrazione invece dal punto di vista dell'abitabilità della vivibilità in quella serata io me ne ricordo una ma sicuramente ce n'è una di più addirittura si era pensato di fare un sistema unico del commercio appunto diversificando gli stessi operatori che occupavano aree del centro commerciale Meduna con un tipo di prodotto e aree in centro con un tipo di prodotto perché questo ci sembrava una possibilità per sopravvivere dentro questo concetto che era secondo me era complesso era un progetto piuttosto di gestione della complessità del commercio che si stava sviluppando le cose sono andate come sono andate si è sviluppato un centro commerciale enorme dopo il ponte Meduna uno più su verso l'overedo cioè di fatto però è stato circondato da questa cosa qua ma non certo per una scelta di questa amministrazione della precedente insomma tanto per chiarire per cui a noi sembrava che questo progetto fosse di grande qualità in termini almeno di progettualità iniziale che mettere insieme i commercianti del centro città la grande distribuzione e una volontà di creare nel territorio un'omogeneità di offerta per cui io sono rimasto a questa cosa qua lo sviluppo l'affermazione di come il commercio in città si è evoluto ha avuto dei momenti di crescita di fermo delle critiche delle criticità eccetera già è emersa stasera ma tutto questo non ci fa perdere di vista qual era il progetto iniziale che era un progetto a grande valenza politica secondo me per la città e quindi ci vede favorevoli grazie grazie consigliere Franchin consigliere Ribetti prego grazie grazie presidente assessore Zille devo per una volta seguire quello che ha detto il collega Dalmas che mi ha preceduto perché se la passione messa dal dottor Malacart nell'illustrarci nel diciamo difendere l'operato dell'associazione per quanto ce ne potesse essere bisogno di uso difendere insomma in termini abbastanza generici e nell'illustrarci quelli che sono stati i risultati gli va dato atto anche di alcuni dati che escono dal bilancio sui quali si potrebbe discutere io ho visto un aumento molto alto dei debiti a breve ho visto che i fornitori sono aumentati insomma ci sono dei dati su cui si potrebbe discutere però se qualcosa diciamo porta il risultato ben venga anche un aumento di costi perché significa che vengono profuse determinate attività invece il suo intervento francamente ma infastidito ne sono ne sono uso questo termine apposta perché io non ce l'ho con lei per carità mancherebbe altro niente nei suoi confronti però torniamo a battere sempre sul solito punto perché se è vero che l'associazione può fare qualcosa è altrettanto vero che deve esserci una guida politica l'ha detto qualcun altro prima che va a dare delle indicazioni allora quando io prima sentivo parlare delle casette mi sembra che avesse le casette natalizie ci avesse detto proprio il dottor Maracarta all'inizio francamente mi è tornato alla mente quello che era successo qualche tempo fa con la musica o mi sembra sia anche arrivata una sanzione a un bar in piazza perché metteva la musica troppo alta allora e torniamo alla nostra questione che forse il collega Giannelli conosce benissimo una città deve essere viva o una città deve essere morta il commercio in centro la politica cerca di aiutarlo o gli va a remare contro le casette a corde nonce c'era anche qualche consigliere c'era anche io ma c'era anche qualche consigliere della vostra maggioranza ad esempio sono molto più piene pur essendo a corde nonce in età più piccola c'era musica di sottofondo Pasiano o Iden noi continuiamo a avere un'amministrazione che dà delle indicazioni che spesso ripeto una parte le ho già dette prima però vanno contro quelli che sono gli interessi dei nostri commercianti dei nostri esercenti che poi però va a tartassare quando si tratta di imposizione allora vede quando lei prima parlava assessore di fare sistema sfondava una porta aperta nessuno ha mai detto che non dobbiamo fare sistema perché una città che è viva una città che che è viva porta soldi che portano ricadute a vantaggio di tutta la comunità però viva Dio cerchiamo di essere coerenti qualche tempo fa io le ho fatto un'interrogazione io ricordo sugli stalli sullo stallo della coppia dietro quello che era l'ex boranga lei ha avuto coraggio di rispondermi che finalmente finalmente avete fatto qualcosa dopo che erano degli anni che era stato richiesto un parcheggio lì da prima da boranga non era stato fatto niente poi arriva la copp sempre loro e casualmente la città si accorge che la servono gli stalli quando di fronte c'era un'altra attività che faceva la stessa cosa della coppia il supermercato allora gli altri dovevano scaricare parcheggiando in seconda fila andando a rampicarsi arriva la coppia e sopprimiamo sei stalli allora vede assessore non prendiamoci in giro lei può prendere in giro ma deve avere la decenza non prendere in giro i cittadini pordenonesi avete avete un modo di gestire che va proprio contro quelli che sono gli interessi lo stesso sindaco e voglio chiudere con questo prima quando ha dato la risposta sulla interrogazione di Bonazza del collega Bonazza faceva riferimento al documento della procura di Udine dicendo la procura di Udine tutto sommato ha detto ma io posso dire quello che voglio stiamo parlando di come si amministra la città e della correttezza nei rapporti istituzionali potrò dire quello che voglio ci è venuto ci è venuto ci è venuto raccontare che la procura di Udine ha dato ragione la procura di Udine ha semplicemente archiviato un procedimento limitandosi ripeto limitandosi semplicemente a dire che cosa che a proprio modo di vedere quel pubblico ministero ha detto che cosa forse la strada a fare era un'altra comunque io archivio il procedimento fatto il procedimento l'esposto querela presentato dall'associazione è stato archiviato quindi anche lì bisogna saperle dare le notizie non è chi ha detto hanno ragione no ha detto avete fatto un esposto io ve lo archivio l'ho letto perciò io lo dico forse lei che non l'ha letto ecco perché ha detto ho già letto guardi sindaco perché lei deve leggerlo tutto non può dire quello che le interessa non può leggere quello che le interessa lei questo è un esposto querela fatta da quell'associazione che è stato archiviato il pubblico ministero nelle motivazioni dice che poi era dottor Tito che prima era Pordenone la strada scelta è sbagliata concludo non ce ne voglia dottor Malacarte il voto del nostro gruppo sarà un voto di astensione ma dovrebbe essere negativo visto il comportamento dell'amministrazione grazie grazie consigliere Ribetti scusate consigliere Tomasello prego voto di astensione benevolo del consigliere Ribetti io appunto parlo per il gruppo del partito democratico no no sto scherzando vorrei un attimo sdrammatizzare ecco i toni niente è chiaro che il nostro voto anzi ringrazio assessore Zille per l'esposizione della delibera è un voto il nostro voto è un voto favorevole dal dibattito appunto volevo un po' tirare un po' le somme e quelle che sono state si può dire ciò che è stato chiesto dal mio gruppo ciò che chiediamo all'amministrazione con riferimento a sviluppo e territorio è chiaro che è emerso come ha rilevato bene il consigliere il consigliere Manzon è emerso appunto che ha ribadito questa esigenza appunto di trasparenza perché la trasparenza ricordiamoci che è una peculiarità di questa amministrazione e quindi deve essere trasferita anche a questa associazione è vero quello che ha detto anche il consigliere Dalmas perché anche io ho avuto delle difficoltà a reperire il bilancio non è stato non è molto semplice quindi il consiglio che vi do è quello anche di rivedere di far rivedere anche il sito il sito internet poi per quanto mi sembra che sia emerso quello che abbiamo anche noi ribadito è necessario che ci sia questa sinergia noi riteniamo che in questo momento di grave crisi per il commercio bisogna mettere in comune tutte le buone idee e cercare vie creative e fare anche fare anche rete bisogna ogni volta cercare di portare le proposte che vengono portate perché mi viene mi è stato ribadito più volte che le proposte che vengono portate a sviluppo territorio devono essere discusse e quindi devono essere anche ascoltate e non devono essere scartate a priori perché è importante che ci sia la sinergia di tutti che sia una struttura aperta poi per quanto riguarda le iniziative di sviluppo territorio dovranno riguardare abbiamo detto una cosa molto importante il mio gruppo ha detto che deve riguardare l'intero tessuto urbano della città della città per centro cittadino non intendiamo soltanto il centro storico centro cittadino ci sono tutta una serie di strade abbiamo detto ricordava prima il consigliere Manzon e lo ribadisco Viale Marconi Piazza Ità Costantini Via Roveretto Viale Trento tutta una serie di zone che insomma devono essere queste qua devono essere eventualmente anche queste investite in interventi da parte dell'associazione per il Pisus volevo dire soltanto due cose velocemente il Pisus sì certamente siamo serviti anche di sviluppo e territorio ma certamente per il Pisus se oggi abbiamo tenuto il Pisus e questi finanziamenti europei per merito dell'amministrazione in particolare vorrei ricordare per merito dell'assessore Zille cioè i finanziamenti comunque voglio fare questo i finanziamenti mi sembra che siano ormai disponibili è giusto adesso concretizzare questi progetti ecco vogliamo un attimino capire che si vada vogliamo e auspichiamo che si vada avanti il più presto ha fatto bene un'altra cosa cosa concretamente ha fatto questa amministrazione per il commercio insomma non si è solo servita di sviluppo e territorio ma concretamente come ha ricordato bene il consigliere Manzon abbiamo in particolare abbiamo agito sulla leva fiscale per quanto riguarda l'attari ricordiamo che le attività commerciali che erano state tartassate lo scorso anno quest'anno grazie per merito anche dell'assessore al bilancio dell'assessore all'ambiente e di tutta quanta l'amministrazione siamo venuti incontro ai commercianti in difficoltà ricordiamo la realizzazione per l'anno 2013 dell'attari ricordiamo il fondo di solidarietà di 250 mila euro sono queste state misure importanti per il commercio di Pordenone e non è vero che per il commercio di Pordenone questa amministrazione non ha fatto nulla lo voglio ribadire in questa sede perché non è vero ha fatto moltissimo per il commercio va bene va bene va bene va bene va bene lo dici tu lo dici tu va bene dai ti prendi dei meriti ti prendi tu i meriti i meriti degli altri ok e spero che anzi che queste misure che queste misure vengano ribadite anche nel bilancio 2015 su questo e questo l'ho detto anche la volta scorsa in sede di assestamento l'assessore Conficcone è presente qui l'assessore anche l'assessore Mazza gli ho detto noi vogliamo che venga ricostituito di nuovo questo fondo di solidarietà in aiuto ai commercianti in difficoltà questa è una cosa che noi chiediamo che lo chiedo per l'ennesima volta di nuovo anche questa sera noi quindi concludo il mio breve intervento ribadiamo appunto il voto il voto favorevole un ringraziamento particolare ad Andrea Malacarta insomma che ci ha chiarito alcune cose quindi grazie anche all'assessore e a tutti quanti grazie consigliere Tomasello nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiuso le dichiarazioni di voto e comuni chiedere avvio alle procedure di votazione proposta numero 44 2014 modificazione dello statuto dell'associazione denominata sviluppo e territorio dichiaro aperte le operazioni di voto dichiaro chiuso l'operazione di voto l'esito della votazione è seguente presenti 34 votanti 33 maggioranza 17 favorevoli 23 contrari nessuno astenuti 10 la deliberazione è stata approvata pongo ora i voti la sua immediata eseguibilità dichiaro aperte le votazioni dichiaro chiuso le votazioni l'esito della votazione è seguente presenti 33 votanti 32 maggioranza 21 favorevoli 23 contrari nessuno astenuti 9 la deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile bene passiamo ora alla proposta numero 45 2014 adozione variante urbanistica numero 131 piano regolatore generale comunale integrazioni grafiche o normative finalizzate agli interventi di difesa del territorio delle acque prego sessore toffolo grazie presidente la variante che andiamo a presentare è come dice il titolo una variante di integrazione grafica della normativa che ha la finalità di accogliere all'interno dello strumento urbanistico un prezioso lavoro fatto dall'unità operativa complessa difesa del suolo verde e parchi e settore protezione civile che ha mappato il territorio andando a rilevare tutto il reticolo minuto idrografico presente soprattutto nella zona sud di Pordenone per il quale le operazioni di manutenzione diventano fondamentali per garantire la difesa del territorio sia nelle situazioni ordinarie che in quelle straordinarie la variante non fa altro che riconoscere questo reticolo mettervi quindi un vincolo che permetterà in futuro di una servitù soprattutto di manutenere a carico dell'amministrazione stessa il reticolo con operazioni in primis straordinarie e poi ordinarie a prescindere dalla zonizzazione nella quale ricadono partendo dal presupposto che le acque sono e risultano sempre essere un bene pubblico la variante oltre a analizzare questa parte che descriverà poi l'assessore Conficconi a cui passo subito la parola modifica anche dal punto di vista della normativa la possibilità di intervento yuhu scusate signori per cortesia un elemento di modifica anche la normativa relativa alla modalità di intervento lungo l'asta del meduna permettendo nei territori nei terreni agricoli che confinano con la sponda di poter intervenire anche con manutenzioni che prevedano l'eliminazione di piante incongrue con il sistema di diflusso delle acque e quindi amplia quello che oggi invece è un capitolo molto rigido della normativa stessa che non ci garantisce di poter intervenire nella straordinaria manutenzione e nella messa in sicurezza delle sponde per una descrizione più precisa passo la parola all'assessore Conficconi Sì buonasera l'impegno dell'amministrazione comunale unitamente al contributo erogato dalla protezione civile regionale e ai fondi messi a disposizione dell'accordo di programma stato-regione il prossimo anno ci consentiranno di sbloccare ingenti investimenti di fare importanti interventi per la messa in sicurezza il territorio del rischio idraulico in particolare a Valenoncello e nella frazione di Villanova Storica quello che si chiede al Consiglio Comunale questa sera con l'approvazione di questa delibera è quello di consentirci di fare un ulteriore salto di qualità in una corretta gestione del territorio dove oggi ci sono dei canali dei fossi che impropriamente vengono chiamati reticolo ideografico minore ma che in realtà svolgono un'importante funzione di collettamento e di recapito e di drenaggio diciamo delle acque meteoriche che interessano dei bacini molto ampi è un reticolo ideografico di cui nel corso degli anni si è trascurata la manutenzione ed è una manutenzione di cui vogliamo farci carico direttamente proprio perché questo tipo di interventi ha un interesse pubblico perché ci consentirà di prevenire l'allagamento di abitazioni private e anche della viabilità comunale quindi con questa normativa noi proprio rendiamo possibile l'attuazione di progetti finalizzati a garantire la manutenzione di questo reticolo ideografico attraverso l'intervento diretto dell'amministrazione comunale con l'asservimento delle piste di accesso a questi canali e questi fossi che sono stati individuati dal nostro ufficio idrico sia attraverso una ricognizione del territorio sia attraverso gli studi idraulici che sono stati commissionati in questi anni dall'amministrazione e sono ricadenti nel territorio di Villanova di Valenoncello e uno anche a Torre grazie richieste di chiarimenti richiesti di chiarimenti nessuno bene dichiaro aperta la discussione dichiaro chiuso il primo intervento passiamo al secondo nessuno iscritto dichiaro chiusa la discussione passiamo alla dichiarazione di voto nessuno iscritto dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto passiamo pertanto alle votazioni allora dichiaro chiusa la dichiarazione di voto e comunico di dare avvio alle operazioni di voto di voto Grazie. 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 Dichiaro chiuso le votazioni. Legito la votazione seguente. Presenti 32, votanti 29, maggioranza 15, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti 4. La delibera viene approvata. Pongo ora i voti e la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le votazioni. Dichiaro chiuse le votazioni. Legito la votazione seguente. Presenti 32, votanti 29, maggioranza 21, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti 4. L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Bene, passiamo ora alla proposta di deliberazione numero 46 2014. Eventi alluvionali nelle giornate dal 5 al 13 novembre 2014. Riconoscimento delle spese di prima urgenza sostenute per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Procedure ex articolo 191, decreto legislativo 267, 2000 e successive modifiche. Parola all'assessore Moro. Prego, Assessore. Grazie. Grazie Presidente. Stiamo parlando del prelievo del fondo riserva a seguito delle spese non previste, conseguenti all'esondazione o comunque alle intense piogge dei primi giorni del mese di novembre, dal 5 al 13. Noi abbiamo una struttura di presidio che è alquanto complessa e che prevede anche un intervento presso le zone arginali di Valenoncello in particolare. Questa serie di interventi che ha previsto anche un presidio per nove giorni presso gli argini ha conseguito una spesa che ammonta a 102.379 euro. Non essendo una spesa prevista abbiamo dovuto deliberare in giunta e di conseguenza adesso dobbiamo ratificare entro la fine di questo mese in Consiglio Comunale un prelievo dal fondo riserva su due capitoli, uno per un totale di 98.881 euro per prestazione di servizi e per un totale di 3.498 euro per acquisto di beni e materiali di consumo. Ovviamente si tratta comunque di coperture garantite dal fondo di riserva. Pare che ho detto tutto. Grazie Assessore. Richiesti e dichiarimenti? Nessuna. Dichiero aperta la discussione. Nessun iscritto. Passiamo al secondo intervento. Nessun iscritto. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego. Consigliere Piccini. Grazie Presidente. Per qualche minuto per ribadire ciò che ho detto in Commissione Assessore. E perché non era una battuta quella che avevamo fatto in merito ad una situazione di stanziamento. Siccome questi soldi poi arrivano per le calamità naturali gran parte dalla regione. Allora, ripeto, memore del fatto, perché l'avevo detto in Commissione, di ciò che era accaduto con quella di febbraio. Vero Assessore Mazze. Dove ci siamo visti riconoscere su per giù la metà di quello che avevamo speso. E ci siamo sentiti dire dall'Assessore regionale alla protezione civile che è espressione di questo territorio, della provincia di Pordenone. Che non intende stanziare null'altro. Dico anche che a seguito della cosiddetta alluvione di San Martino, come l'ho chiamata io, ci ha detto a microfono che gli stanziamenti li avrebbe messi sugli interventi di tipo strutturale, in conto capitale, non nella spesa corrente. E facendo riferimento a ciò che è stato detto, e a ciò che era stato detto poi fuori microfono, ma provvederemo, vi comunico affinché si faccia sistema a Pordenone, non solo per la delibera dopo, anche per questa, non solo per la cittadella della salute, anche per questa, che io l'ho depositato l'emendamento. E sapete perché l'ho depositato? Perché rispetto di fronte alle emergenze che ci sono e che continuano ad esserci, purtroppo dipendono dal territorio, dal tempo, dalla meteorologia, non lo so da che cosa dipendono. Sta di fatto che rispetto allo stanziato di 4 milioni e 700 mila euro per il 2014, 4 milioni e 7, e ad un assestato, cioè pagato alla fine, se non è pagato è impegnato, verrà pagato, di 9 milioni e mezzo a fine 2014, abbiamo uno stanziamento per il 2015, per le cannabità, di 3 milioni e 8, quindi anziché 4 e 7, 3 e 8, un milione in meno, 900 mila euro in meno. Allora, è il caso di, come dire, agitarsi e fare squadra, anche perché relativamente alle spese di investimento, non è che abbiamo messo 20 milioni di euro, abbiamo messo un milione di euro in più, che se lo spalmiamo in tutta la regione mi viene da ridere. No? Lo dico io che non sono un'esperta, ma insomma l'ho compreso. Allora, sono intervenuta nel dire questa cosa perché? Perché è importante che la nostra città faccia squadra intorno a queste richieste e non solo, come dicevo, rispetto all'argomento che verrà. Per quanto ci riguarda ci sarà un voto di astensione. Grazie. Grazie, Consiglio del PC. Nessun altro iscritto? Dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Proposta numero 46 2014, eventi alluvionali nelle giornate dal 5 al 13 novembre 2014, riconoscimento delle spese di prima urgenza sostenute per la rimozione dello Stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Procedura ex articolo 191, decreto legislativo 267-2000 e successive modifiche. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 31, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 26, contrari nessuno, astenuti 5. La deliberazione è stata approvata. Pongo ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente. Presenti 31, votanti 30, maggioranza 21, favorevoli 25, contrari nessuno, astenuti 5. La deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. Bene, passiamo ora alla proposta numero 47 2014, cessione di aree per la realizzazione della cittadella della salute e contestuale costituzione e diritto di uso a favore del Comune attraverso la posizione di donne o vincolo di destinazione. Prego. Grazie Presidente. Io devo presentare una mozione d'ordine per chiedere che questo argomento non venga discusso nel Consiglio di questa sera. perché a mio modo di vedere non è stata correttamente illustrata la delibera o meglio non è stata illustrata con rispetto dei regolamenti nella commissione competente. Io ho già manifestato in commissione la mia contrarietà e ho abbandonato i lavori per rimostranza. C'è il segretario, quindi adesso chiedo al segretario, che si esprima sulla legittimità della convocazione della commissione consigliare seconda che si doveva occupare del problema. Riassumo brevemente i fatti. È stata mandata la convocazione per la commissione con un ordine del giorno che non comprendeva la delibera che questa sera ci viene portata. La delibera di cui dovremmo trattare è stata inserita in un'integrazione all'ordine del giorno della commissione consigliare seconda fissata per il giorno 10 corrente mese con vocazione inviata ai commissari in data 9 corrente mese. Allora, visto che nella stessa delibera viene, nello stesso deliberato viene, vengono riportate le, tra l'altro anche le parole del dottor Bianchette credo, chiedo scusa che adesso trovo dove ci si rende dove viene riportato che la necessità di questa di inserire questo argomento all'ordine del giorno a prescindere che non si parla di una necessità perché lo stesso assessore Mazzer ha detto che non abbiamo né decadenze né nient'altro ma sarebbe una cosa che piacerebbe all'amministrazione concluderla prima del nuovo anno prima che ci sia la fusione ha detto così l'incommissione ecco quindi dico a prescindere da questo però l'amministrazione era ben consapevole a quanto meno da qualche giorno prima e si è ridotta l'ultimo giorno al giorno prima con ciò impedendo ai commissari di avere una piena conoscenza del documento e tutto giusto per chiudere stiamo parlando di documenti che fanno riferimento a parecchi parecchi anni fa che sono stati visti e sviscerati quindi a mio modo di vedere non è assolutamente non è assolutamente scusabile che una delibera di tale importanza di cui tutti sappiamo tutto e lo dico apposta tutti sappiamo tutto perché dobbiamo vederla in tutti i suoi risvolti venga portata sebbene sebbene ci sia resi conto del problema venga portata con un'integrazione all'ultimo giorno allora io ai sensi di regolamento chiedo visto che il nostro regolamento delle commissioni e lo ripeto perché questo l'abbiamo già affrontato che le commissioni sono convocate di norma con un previso di tre giorni liberi di norma dove di norma non significa se mi va o non mi va di norma secondo la norma quindi sono convocate con tre giorni di ad eccezione della conferenza chiedo scusa ad eccezione della conferenza dei presidenti e gruppi consigliari per la quale è sufficiente un solo giorno libero e questa non è la conferenza dei presidenti e gruppi consigliari quindi io chiedo di non discutere questo argomento all'ordine del giorno grazie chiedo al segretario come sono andate le cose la domanda che pone il consigliere Ribetti è una domanda che si ripete spesso nei consigli comunali le chiedo c'è una violazione esplicita perché sul di norma si discute in tutti i consessi resta poi il tema sostanziale della effettività questo argomento ha due elementi uno è l'urgenza e l'altro è la conoscibilità degli atti quindi al di là della quindi delle dichiarazioni quindi il nostro regolamento non ha un'esplicita dice sono vietati cioè non possono essere ammesse alla commissione argomenti che non sono stati notificati tre giorni dice che è una di norma quindi vuol dire che la regola è sono i tre giorni e in caso di urgenza o di come in questo caso che la commissione era già convocata quindi non c'è il problema che uno non può essere presente può essere presente o non può essere presente possono essere introdotti ulteriori documenti poi resta da capire se questo per lo scopo delle commissioni normalmente è uno scopo conoscitivo poi ci sono le altre giornate per cedere comunque gli atti dico questo è quindi io dico dal mio punto di vista cioè se la ponete in votazione non è illegittima per questo aspetto sui rapporti fra giunta consiglio comunale e commissioni sono competenti capigruppo e consiglio stesso che valuta il funzionamento del suo operato io quello che posso dire è che non è cioè che nel caso delle esaminate non è illegittima dato il fatto che comunque è stata portata in commissione con 24 ore prima e c'erano comunque una settimana di tempo per esaminare il sì cosa lei fa il lei fa il preferimento l'onore del l'onore 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 Allora, se lei mi dice che ci sono motivi di rigenza, contrariamente a quanto vi dice l'assessore, aiuta a riconoscerli per decidere, con di un'altra mente, se le tirare o meglio queste cose. Se i motivi di rigenza non ci sono, l'assessore non ne ha parlato, allora venitevi d'accordo. Perché se ci dovete prendere i cittadini, c'è un'altra cosa che non è necessaria. Allora, non è sicuramente mia abitudine prendere in giro i consiglieri. Le comunicazioni che ho io e il motivo per cui ho avvallato questo inserimento di questo argomento in Commissione e in Consiglio è perché c'è un fatto, diciamo, ancorché non di ieri, ma di un mese. No, c'è un tema di un mese, di un mese e mezzo, cioè la riforma del sistema sanitario regionale è di un mese e mezzo. E quindi questo in realtà avremmo potuto anche accorgersi prima che si andava a fusioni di aziende e che quindi rispetto ai tempi per l'appalto di questa opera, di cui il Comune per convenzione ha solo il compito di rupe esterno e progettazione esterna rispetto all'azienda sanitaria, perché poi l'opera è incardinata nell'azienda sanitaria. E quindi per rispettare quei tempi, che se non ci fosse stata la fusione, ma avremmo potuto andare anche a gennaio, non c'era problema, l'azienda sanitaria può avere dei tempi di avvio alla nuova azienda, nuovo codice fiscale, cioè nuova azienda, che può rallentare quel litter. Quindi questo è il motivo di urgenza, che è uno di motivi che non dipende da noi, perché se dipendesse un ritardo solo da noi, quindi sotto questo aspetto di tempi, non solo, è una nuova azienda, è una nuova azienda a tutti gli effetti. È una nuova azienda? No, io non ho altro da aggiungere, adesso sono valutazioni del Consiglio. Il Presidente, ricapitolando, ha detto che comunque la deliberazione sarebbe legittima, a questo punto chiedo un intervento a favore e un intervento contro. Chi vuole prendere la parola? Ha presentato la mozione? Non va via, è qui il Consigliere Ribetti. Chi vuole prendere la parola contro la mozione? Uno a favore e uno contro. A favore, va bene. Prego, Consigliere del Ben. Io penso che sia un argomento estremamente importante quello della Cittadella della Salute, perché dentro vanno a inserirsi dei servizi che fino a ieri erano di un'azienda sanitaria territoriale. domani sono di un'azienda territoriale sia ospedaliera che territoriale. Quindi questo vuol dire che in un contesto di prossimità sanitaria andranno fatti servizi sanitari e ambulatoriali, servizi sociosanitari e anche altri. Allora è importante, per sapere che la nostra cessione del terreno vada dalla parte giusta, uno, avere una contezza che la nuova amministrazione sanitaria condivide questi percorsi, atteso che nelle schede questa precisazione non c'è. Secondo, che dovendo fare una cittadella che era territoriale insieme a un ospedale, sarebbe opportuno, ribetti, che la direzione dell'unica azienda si prenda degli impegni precisi, che al momento non ci sono, per realizzare servizi integrati che interessano anche il comune. Dopodiché potremmo anche dirci che la superficie ospedaliera potrebbe avere anche volumi sufficienti per mettere i servizi che si pensava di mettere lì. Abbiamo cambiato destinazione finalmente dell'ospedale e quindi abbiamo creato una modifica, secondo me, positiva sugli aspetti urbanistici del comune. Allora, ribetti questo, non è solamente la necessità di conoscere se va via o non va via un direttore generale, ma significa che noi comune cambiamo interlocutore in un contesto radicalmente cambiato. Non cambia il direttore sanitario generale dell'ospedale o il direttore generale dell'azienda territoriale. La sanità nostra è riformata, si pensa in un modo nuovo, per cui mi pare giusto che ci sia tutto il tempo di riflessione, atteso che quell'area è un bene immobile, non un bene mobile, la troveremo sempre lì e fra poco la troveremo anche in un posto dove l'utilizzo dell'insieme di quel contesto urbanistico è fatto nel modo giusto per la sanità pordenonese, senza sovrapposizioni, senza doppioni, in un ambito anche di una riprogettazione che potrebbe consentire anche di integrare quei servizi che oggi sono essenziali, per cui non solo sull'aspetto formale di cui sono assolutamente allineato, ma anche sul piano contenutistico a quello che è fatto. Tant'è che avevo scritto i miei appunti dell'intervento che dicevo che siamo ancora in tempo non per far bene, ma per fare meglio. Quindi per me è giusto che si porti domani mattina la discussione prossima, ma però con quelli che saranno gli interlocutori del Comune di Pordenone sugli aspetti sanitari. No, chi fa l'intervento contro alla mozione? Desiderete, uno solo. Prego, il Consiglio del Santo. Anche a titolo di Presidente della Commissione Urbanistica che ha mercoledì scorso affrontato l'argomento e per dare, se vogliamo, da un certo punto di vista anche una ragione ad alcuni aspetti sollevati da Ribetti, quando mi è stato chiesto di fermare la convocazione ho sollevato preventivamente queste obiezioni perché coglievo anch'io degli aspetti di ritualità in tal senso. Alla fine ho ricevuto una serie di rassicurazioni, ho parlato con il Segretario, ho parlato con il Vice Sindaco che, benché non titolare della questione, ma come Assessore al bilancio, evidentemente è il patrimonio in tal senso coinvolto e ricevute le rassicurazioni ho firmato la convocazione. Il Segretario questa sera ci dice che noi dobbiamo semplicemente decidere se vogliamo o non vogliamo votare visto che la legittimità del voto non è messa in discussione. Io vorrei soltanto cogliere l'occasione per ribadire una questione che mi sembra ovvia. Mi sembra di essere penelope qui dentro, che di giorno facciamo la tela e di notte la disfiamo. La delibera non affronta il tema della cittadella della salute in quanto progetto. Affronta semplicemente un aspetto di carattere, chiamiamolo burocratico, dell'accessione dei terreni che comunque sarebbe avvenuta in ogni caso un mese fa, due mesi fa, cinque mesi fa o lo faremo fra sei mesi. Quando il Vicesidaco Mazzer mercoledì e anche in questo dò ragione a Ribetti ha detto ma non c'è ragione di urgenza credo di interpretare le parole di Mazzer nel senso che, come tra l'altro l'ha detto, non è un'interpretazione. Possiamo tranquillamente fare a meno di farla oggi, la rifaremo fra sei mesi. Abbiamo buttato via, stavo usando l'espressione volgare, sei mesi di tempo. Abbiamo aspettato otto anni, potremmo aspettare altri sei mesi. In questo senso non c'è urgenza. Secondo me l'urgenza è di fatto, è nei termini. L'azienda sanitaria, le aziende stanno per essere trasformate. Dobbiamo semplicemente attendere che venga ricostituito l'organo direttivo all'interno della nuova società che si costituirà per poi rifare tutta la parte burocratica. E la prossima volta, all'interno di questo Consiglio, non andrà in discussione la cittadella della salute. Andrà in discussione di nuovo l'accessione del fondo. E quindi, francamente, non riesco a capire questa obiezione nel contenuto, se non valutandola come pretestuosa, semplicemente per fermare i lavori. Pertanto, noi siamo assolutamente contrari a questa mozione, e quindi chiediamo di proseguire nella votazione. Va bene. Bene, passiamo adesso alle votazioni. Allora, chi è ovviamente a favore della mozione d'ordine del Consiglio di Ribetti dovrà votare favorevolmente, chi è contrario. Bene, dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiusa l'operazione di voto. Lecce la votazione seguente. Presenti 32, votanti 32, maggioranza 17, farò il risetto, contrario 24, astenuti 1. la mozione viene respinta. Va bene. Assessore Moro può illustrare la proposta del 47 così come è emendata. Prego. Allora, ripercorro velocemente le tempistiche anche per chiarire alcuni aspetti. Allora, nel 2007 il Comune di Pordenone riceve dalla Regione che l'aveva ricevuto dal demanio dello Stato l'area che attualmente noi conosciamo come che era conosciuta come l'area dell'ex Casalba Martelli ricevuta a titolo gratuito. successivamente il Consiglio Comunale con una delibera stabiliva che oltre che ad accettare la cessione di quest'area stabiliva che in quell'area sarebbe stata edificata la cittadella della salute. Stiamo parlando del 2007. Io vi risparmio poi eventualmente se serve, se necessita le ripercorriamo o le ripercorrerà l'assessore Romor tutte le vicende che sono susseguite nel tempo dal 2007 ad oggi non sono sicuramente questi tempi dovuti alla non aver proceduto all'atto formale del Consiglio Comunale di cessione dell'area anche perché sarebbe stato impossibile farlo perché la chiarezza di come sarà realizzata la città della salute è stata solo nel 2013 dico solo che appunto a seguito di questa decisione del Consiglio Comunale tra il Consiglio tra il Comune di Pordenone l'azienda sanitaria e l'azienda ospedaliera si stipulò una convenzione in quella convenzione si stabilivano sostanzialmente tutto quello che riguarda la cessione e la realizzazione di quell'area si stabilivano le condizioni le modalità con cui quest'area si sarebbe ceduta in cambio anche si citava già allora di spazi adeguati per poter realizzare i servizi sociali veniamo a tempi più recenti nel ottobre del 2013 viene redatto viene terminato il progetto preliminare con decreto dirigenziale dell'azienda sanitaria il progetto viene approvato il 30 dicembre del 2013 per cui diciamo il 30 dicembre del 2013 viene approvato il progetto preliminare l'approvazione del progetto preliminare ripartiva anche in ottemperanza quanto si era deciso ancora con la convenzione del 2007 gli spazi che sarebbero stati ceduti in cambio della cessione dell'area da parte dell'azienda sanitaria che vi ricordo è la lente che edifica la cittadella della salute per cui è il destinatario del contributo da parte della regione e le percentuali sono le seguenti il 76,29% rimarrà dell'azienda sanitaria il 23,71% dell'area complessiva edificata sarà del comune di Pordenone dove il comune di Pordenone intende collocare i servizi socioassistenziali e la farmacia comunale questo è sostanzialmente il percorso noi oggi cosa andiamo a fare sostanzialmente andiamo con un atto che obbligatoriamente deve essere del consiglio comunale perché stiamo parlando di cessione di un'area a ratificare definitivamente quello che era stato stabilito ancora e poi con tutte le successive modifiche nel 2007 con la convenzione tra l'azienda sanitaria e il comune di Pordenone lo andiamo a ratificare stabilendo anche quali parti diciamo o meglio o per meglio definire non definendo con esattezza l'area che sarà occupata all'interno del progetto perché questo sarà oggetto di successiva di successivo provvedimento e di integrazione del contratto come previsto poi dal codice civile l'articolo 1349 in quell'area che oggi vede anche realizzato il monumento a Martelli l'area verrà edificata sulla parte diciamo più verso il parcheggio quella parte che verrà edificata il resto rimarrà ancora libero l'oggetto del trasferimento sarà tutta l'area cioè tutta quell'area che era stata ceduta a suo tempo al comune di Pordenone poi cosa ci sarà da dire beh nulla di più la concessione allora c'è un impegno per la durata di 50 anni per la tutela del monumento rinnovabile è un impegno che il comune di Pordenone ha preso con l'AMPI nel 2009 cioè anzi nel 2010 con un contratto stipulato con l'AMPI che ha ceduto incomodato d'uso per 50 anni con eventuali rinnovi la porzione di terreno dove poi è stato edificato e realizzato dall'AMPI che è proprietaria il monumento e questa e diciamo che la convenzione che prevede anche lo scambio cioè in cambio dell'area la superficie utile per i servizi socioassistenziali e la farmacia comunale sarà una cessione incomodato gratuito per 90 anni la convenzione durerà 90 anni io direi che non ho molto altro da dire c'è un emendamento che comunque è stato legato ma era un emendamento semplicemente per integrare dei refusi nella redazione della delibera vorrei chiarire anche solo velocemente un aspetto che riguarda la scusandomi anche ovviamente come avevamo fatto in commissione per le tempistiche il tutto nasce dall'esigenza l'urgenza nasce dal fatto appunto che nel dal 1 gennaio 2015 l'azienda sanitaria si fonderà con l'azienda ospedaliera per cui ci sarà un'altra azienda l'azienda unica che sostanzialmente prevede un cambiamento dell'interlocutore con il quale noi dovremo redigere l'atto di gestione questo introdurrebbe un probabile ritardo nell'atto di gestione di 2-3 mesi noi l'unica cosa che vogliamo evitare proprio perché ormai siamo arrivati al punto entro fine mese sarà redatto il progetto definitivo e poi si tratta di una gara con appalto integrato per cui l'esecutivo sarà realizzato all'interno della gara vorremmo evitare di introdurre ulteriori tempi ed è questo l'unico motivo di urgenza che è un vero motivo di urgenza dovuto a questo cambiamento che è recente dell'azienda sanitaria se non ci fosse stato questo problema avremmo potuto tranquillamente portare la delibera nel mese di gennaio alla prima consiglio comunale utile e successivamente stipulare l'atto perché sarebbe stato conseguente in questo modo invece rischiamo di fare la delibera a gennaio e poi magari riuscire a fare l'atto solo nei mesi successivi introducendo un periodo di ritardo che è banale di qualche mese ma che comunque non vorremmo assolutamente introdurre tutto qua per cui anche i tempi i tempi che noi stiamo cercando di restringere sono questi non è assolutamente corrispondente al vero che il ritardo di 8 anni cioè dal 2007 ad oggi è causato da questa delibera che andiamo a fare oggi perché assolutamente non sarebbe stato possibile avremmo forse potuto farla qualche mese fa ma sicuramente non negli anni passati grazie assessore ci sono richieste di chiarimenti consigliere Piccin prego grazie presidente no solo per chiedere mi scuso con l'assessore perché non sono riuscita a seguire con l'assessore Moro a seguire tutta l'illustrazione e non ho ben sentito se ha dato quelle richieste di delucidazione che aveva chiesto il collega consigliere Pedicini in commissione le ha già date non le ho sentite io le può dare per cortesia grazie dia la parola all'assessore sì mi scuso io avevo detto appunto al consigliere Pedicini che nel caso in cui non fosse stato chiarito l'aspetto che lui aveva sollevato sì parlava dell'ipotesi di inquinamento del terreno non avrei ovviamente nemmeno portato la delibera i chiarimenti ci sono adesso lascio la parola al dottor Bianchetti che è il RUP dell'opera per cui ha seguito anche questa fase che vi darà chiarimenti rispetto a quel pesito che era stato posto in commissione va bene chiarimenti prego così dopo facciamo diamo un'unica risposta tempi della cittadella della salute perché francamente l'urgenza mi sfugge insomma il termine andrò a vedermi di nuovo sul dizionario che cosa significa urgenza perché dal 2007 al 2014 doveva nascere ancora all'inizio di quest'anno siamo alla fine e stiamo riparlando di urgenza di nuovo per la cittadella della salute vorrei sapere semplicemente se qualcuno sa quali sono i tempi allora in sede di commissione mi era stato chiesto posto la domanda dal consigliere Pedicini se avevamo fatto le indagini geologiche e se avevamo fatto anche le verifiche per quanto riguarda il ritrovamento di materiali inquinanti allora probabilmente non sono stato molto esplicito in commissione e volevo riassumere un po' anche quello che è stato fatto in quel cantiere quindi in quel cantiere sono state condotte indagini geognostiche sul sito dove sarà realizzata la città della salute al fine di valutare le caratteristiche geologiche geotecniche e idrogeologiche del terreno su cui si insideranno le relative strutture le indagini sono state eseguite secondo quanto previsto al DM il 14 gennaio 2008 approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni nel circolare 617 del 2009 consistono in numero tre trincee quattro sondaggi a carattaggio continuo fino alla profondità dei 30 metri dal piano di campagna una indagine geofisica a Don Hall e numero 12 prove penetrometriche dinamiche pesanti quindi l'oggetto era proprio l'intera area per capire esattamente cosa c'era la qualità del sottosuolo a seguito di tale indagine è stata verificata la non liquefacibilità del terreno in caso di evento sismico è stata fornita la categoria del sottosuolo per la valutazione dell'azione sismica e del modello geologico geotecnico rappresentativo dell'area oltre all'indicazione del livello della falda nel tempo a seguito della messa in opera di un pozzo piezometrico dopodiché per quanto riguarda la risposta per la per la presenza di materiali inquinanti sono state eseguite numero 5 trincee nell'area in questione per la raccolta di campioni da sottoporre l'analisi di un'eventuale presenza di inquinanti per il riutilizzo delle terre in rocce da scavo relativo alle seguenti sostanze metalli idrocorburi IPA e PCP le analisi sono ad oggi in fase di esecuzione nel frattempo possono essere fatte le seguenti considerazioni e che sono molto importanti l'intera area è pavimentata su una massicciata per uno spessore variabile dai 0,40 a 0,8 metri a cui segue alcune trincee uno strato di terreno vegetale la tipologia del riporto non fa desumere che si possono essere sostanze inquinanti la stratigrafia del terreno naturale individuata nell'area fino a meno 30 metri dal piano di campagna è rappresentata prevalentemente e con uniformità reale da terreno ghiaioso sabbioso lo strato finale rivenuto nel carotaggio 1 e 4 è costituito da argilla da un esame visivo dei carotaggi e delle trincee non sono state viste colorazioni anomale o olfattive rilevanti odori di solventi gasolio o sostanze similari da sopra luogo non sono stati visti pozzetti che possono far pensare alla presenza di cisterne sotterane comunque siamo in attesa dei risultati dei laboratori per quanto riguarda gli ultimi prelievi che io penso che fra fra sette giorni l'avremo ecco quindi la risposta alla domanda è il quesito che è stato fatto dal consigliere Pedicini e che comunque i terreni quando si fanno le vendite dei terreni non è obbligatorio la presenza degli atti di certificazioni di inquinamento o meno se ci sono dei materi inquinanti all'interno di un terreno se poi è stato compravenduto oppure invece venduto oppure ceduto in questo caso la cessione è stata una cessione gratuita che passa dal demanio della regione e poi della regione al comune e comunque è in essere un cantiere una progettazione che stiamo portando avanti e al termine il progetto definitivo la presenza così i primi sondaggi che abbiamo visto con ghaie pulitissime e comunque era programmato anche questa ulteriore verifica perché abbiamo fatto tutte le verifiche possibili su quel terreno saranno poi valutate proprio alla fine adesso stiamo nella ultimazione del progetto definitivo se ci sono delle sostanze inquinanti e poi bisogna tenere in considerazione che le sostanze interessano a quelle zone dove andiamo a scavare quindi se il fabbricato dell'edificio della cittadella per una piccola parte è un seminterato poi non ci sono altri piani interati e quindi lo scavo è un scavo limitato ecco ripeto che fra un massimo settimana avremo gli esiti del laboratorio che comunque la certezza al 100% non l'abbiamo ma comunque abbiamo visto come sono i terreni e l'esito nella speranza che sia positivo e siamo in attesa di questo di questo esito ecco sì prego Assessore allora colgo l'occasione sempre chiarimenti beh allora sì ma facciamo terminare i chiarimenti e poi facciamo altre richieste no no termina Assessore per la risposta dal consigliere Daniello colgo l'occasione per rispondere sui ritardi ciò che questa sera consigliere Daniello ha chiesto con correttezza mentre molto meno corretta è stata sulla sensitività espressa nel gazzettino di oggi indicando persone e modi scorrettissimi e dopo le dirò anche la fase finale ma la ringrazio per potermi dare l'occasione di dire qualcosa in merito visto che lei non si è mai preoccupata di darmi un colpo di telefono o chiedermi spiegazioni sull'andamento della cittadella della salute ora mi preoccupo perché lei si preoccupa tanto della cittadella della salute e quasi volesse forse una garanzia alla sua persona come antefatto di collegio balduzzi novembre 2012 andiamo nell'8 gennaio 2013 e qua comincia la storia prima c'era preistoria la storia comincia l'8 gennaio 2013 con la richiesta alla regione di modificare lo stato dell'allocazione della cittadella della salute e il 4 febbraio 2013 la direzione regionale ci dà nulla osta ad assumere le opportune decisioni nell'ambito della propria autonomia e responsabilità il 19 aprile abbiamo la firma dello schema d'accordo attuativo del progetto preliminare tra comune e azienda 19 aprile in 4 mesi anzi scusatemi in 5 mesi compreso agosto quindi 4 mesi di lavoro perfettamente coerenti con il crono programma viene redatto il piano di preliminare e arriviamo al 4 ottobre quando in giunta comunale viene attuata l'adozione del piano del progetto preliminare tempi perfetti a questo punto si rallenta un po' perché nel contempo c'è il ricambio della direzione generale dell'azienda sanitaria in novembre subentra il dottor Samani al dottor Tonutti il 26 novembre poi ci risponde da ottobre ci risponde il 26 novembre il nucleo di valutazione regionale e ci dà il parere positivo un mese dopo l'azienda sanitaria ci dà approva praticamente il progetto preliminare il 30 2012 2013 noi in giunta l'abbiamo provato il 4 ottobre tanto per dirle dopo di chi faccio gli interessi io consigliere Daniella se quelli del medico o quella della giunta comunale dell'amministrazione tenga bene in conti no no le darò dopo tutto quello che vuole le darò dopo e in questa situazione siamo in una fase di stallo perché interviene con la regione per l'applicazione delle nuove normative della Balduzzi e il medico che assume questo ruolo di assessore si interessa a Baggiù a Udine e a Trieste più volte per far ingranare la legge Balduzzi con i progetti della cittadella della salute e si riesce a risolverli abbastanza in fretta se non ci fossero ancora ritardi non voluti da noi il 4 aprile il sindaco incontra il direttore dell'azienda sanitaria 6 per puntualizzare lo stato dell'arte e chiedere a che punto siamo arrivati come dobbiamo procedere il giorno dopo il 10 aprile 2014 c'è un incontro in regione tra comune e azienda sanitaria compreso sottoscritto dove viene formalizzato che possiamo procedere con il progetto definitivo il 7 maggio Pordenone il comune di Pordenone che viene incaricato per la progettazione definitiva forma il gruppo dei progettisti e in giugno del 2014 viene fatta la firma per la convenzione tra la S6 e il comune di Pordenone in crono programma sono previsti 9 mesi per il progetto definitivo 9 mesi si parte dalla firma in giugno del 2014 e luglio agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio febbraio marzo avremmo dovuto finire in marzo abbiamo finito in dicembre fra pochi giorni il progetto definitivo abbiamo guadagnato tre mesi su ritardi degli altri quindi da un cronogramma di nove mesi noi siamo riusciti a portarlo a casa grazie ai progettisti in sette mesi in dicembre quindi 2014 viene concluso il progetto definitivo e adesso si decide se fare o non fare il passaggio di proprietà da il comune all'azienda sanitaria vi ricordo è stato accennato prima che a causa di un passaggio involontario io penso che il dottor Samani quando è diventato direttore generale della S6 abbia voluto giustamente prendere atto e coscienza di tutto ciò che doveva firmare e quindi il tempo è stato necessario per studiare le carte io penso che il direttore generale Bordon dell'azienda 5 perché lo abbiamo saputo due giorni fa consigliere Daniele due giorni fa che il nuovo direttore della 5 sarà Bordon prima non sapevamo niente poteva succedere anche che fosse Samani ma in funzione in previsione di ciò tutto lo staff ha pensato di arrivare in questa condizione di corsa ecco dove è la premura perché entro il 31 dicembre ultimo giorno di reggenza alla direzione del dottor Samani noi dovremmo in teoria fare il passaggio di proprietà altrimenti potremmo accumulare dei ritardi stratosferici e quindi i nostri cronoprogrammi se vuole glieli do anche quelli successivi tanto per dirle la precisione che saranno visto che 30 dicembre progetto definitivo fatto poi andremo appalto integrato 270 giorni stipula contratto 60 giorni progettazione esecutivo 90 giorni esecuzione lavori 600 giorni collaudo tecnico amministrativo idraulico 180 giorni questo è quanto grazie consigli consigli e ribetti prego ci siamo passati alla storia non sono partiti da presto abbiamo 8 anni di storia allora faccio no io volevo chiedere una cosa relativamente alle note che ci sono state lette prima e mi scuso se forse ha già detto ma non ero impegnato a guardare una cosa col segretario le note geologiche di cui ho preso copia sono qualcosa che serve o che non serve ai fini cioè vanno allegate al progetto chiedo scusa se uso dei termini tecnici non corretti o meno no ok no allora sono importantissime anzi gli studi che abbiamo fatto su quel terreno sono molto approfonditi non è un'analisi geologica lo chiamo di primo livello lì abbiamo fatto di tutto e di più perché la maggior parte dei casi quando si costruisce un fabbricato quando c'è una diciamo una non approfondita analisi del terreno spesse volte si legge anche sui giornali che ci sono state delle varianti per imprevisti geologici questo perché non si sono stati fatti tutti gli studi e addirittura lì parliamo anche della liquefazione del terreno che comunque ci permette di fare di realizzare i calcoli specialmente i calcoli di cemento termati con un grado di precisione molto alta quindi già con il progetto infinito il progetto preliminare o gli sgocci del progetto preliminare abbiamo fatto fare questa analisi poi ovviamente la parte diciamo la seconda parte quella relativa al riutilizzo degli scavi da terra da roccia e anche quelli sono importanti perché ovviamente se è un sito per esempio se prendiamo un distributore di benzina che ha il 99% quasi tutelare in cui è contaminata e lì ci sono operazioni ovviamente se dovrà essere costruito un edificio con degli piani interati Pordenone ci insegna anche c'è qualche condominio che è stato realizzato da poco hanno avuto dei grossi problemi per quanto riguarda sia anche il sottoprofilo economico perché perché c'è l'incidenza abbastanza alta in questo caso ripeto gli scavi sono abbastanza limitati purtroppo non ho i metri cubi con me però ripeto andremo a fare per una piccola per un'ala un seminterato e lo scavo sarà massimo di due metri di profondità comunque sono allora obbligatori quelli geologici per poter per poter calcolare indispensabili indispensabili quelle per quanto riguarda no sono indispensabili e obbligatori perché altrimenti sì sì no sì sì questo lo prevede lo prevede la la 163 anche prego altre richieste chiarimenti cancellate i nomi per questo no non si riesce a cancellare bene allora nessun'altra richiesta dichiaro aperta la discussione non capisco chi è iscritto per primo Daniele no sì prego vuoi parlare tu? hai parlato fino adesso? sì infatti allora devo dire assessore Romor che dovrei prendere esempio da lei nel senso che io riesco difficilmente a fare tutte le cose bene e nei tempi ristretti lei invece ha anticipato di sei mesi quello che doveva essere da quello che ho capito ma mi correga perché per l'amor di Dio cioè anticipato di sei mesi quello che dovrebbe essere l'attuazione della della città cioè il progetto l'avvio del progetto giusto? cioè no come no ha detto adesso che ha anticipato di sei mesi l'ha detto adesso cosa ha detto allora che cosa ha detto di sei mesi che ha anticipato ha anticipato sei mesi che cosa? andremo a vedere come prima la si vado a ascoltare si comunque si io ho capito che lei ha anticipato i tempi e convengo di nuovo riaffermo che lei è veramente bravissima nel senso che se stiamo dentro a tutti i tempi fra sette giorni avremmo anche le indicazioni che ha detto l'ingegnere ingegnere? eh? no? boh vabbè bianchette e quindi potevamo aspettare sette giorni per fare questa cosa lei intanto diceva al nuovo eh al nuovo dirigente il dottor Bordon che fra l'altro guarda caso è il dirigente dell'ospedale fino adesso eh? e quindi sa bene dove doveva nascere la la cittadella della salute eccetera ma mi ricordo che lei è venuto quando io sedevo ancora bravissimo al PD bravissimo a rappresentare no? le date il cronoprogramma il progetto e tutto della cittadella della salute giusto? bene e ci aveva assicurato che nel 2014 si dava abbio 2014 dopo domani è il 31 quindi parleremo del 2015 come mini spero al progetto alla progettualità della cittadella della salute si si eh aspetta guardi eh se 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 lei è così bravo eh con il dottor Bordon di portare a termine entro i tempi che lei mi ha detto che dopo mi farà avere per cortesia no? senza uscire sul giornale come sono uscita io perché veramente eh a me sta a cuore non l'interesse eh del del progettista l'interesse del dei cittadini di Pordenone ad avere la cittadella della salute ok? hm? ok? ed effettivamente in un posto dove siano accessibili eh tutte le persone gli servizi e ci sia effettivamente il servizio da erogare in una cittadella della salute che doveva essere esempio per tutto il Friuli Venezia Giulia queste sono le sue parole eh al in sede PD ok? e siccome lei siccome lei siede di nuovo ridico siede al tavolo dell'azienda sanitaria con più con più vesti perché lei è assessore come no? dove è andato a sedersi per progettare e stipulare i contratti gli accordi in regione? cioè sì o no? in azienda sanitaria cioè dove è andato a fare eh? lei si presenta come assessore Vincenzo Romoro giusto? in azienda è andato in azienda sanitaria a fare queste cose o no? o dove è andato? in azienda ospedaliera? sì stipulare i contratti sì li ha fatti in piedi cioè velocissimo benissimo li ha fatti in piedi allora eh cioè mi sembra di parlare con eh con con uno che non non ci capiamo giusto? no allora eh credo che lei abbia eh la delega le nuove edificazioni giusto? non ce l'ha chi ce l'ha? eh Moro? non ce l'ha eh sì ma il 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 Vincenzo Romoro il tuo assessore eh vice sindaco va in azienda sanitaria a firmare queste cose o no? no non è andato lui a a a guardate guardate allora per la trasparenza che effettivamente c'è e ci sarà sugli atti vedremo vedremo chi fa quale firma lei lei non è presente da nessuna parte come assessore non ha mai e non è mai seduto a nessun tavolo sempre in piedi vabbè benissimo ma non è andato a firmare il progetto ma è andato a contrattare la cittadella della salute chi è andato a contrattare per la per il comune il sindaco o o o Renzo Mazzer cioè eh prendiamoci eh o il dai su eh adesso se comunque lei con quel le dico eh le faccio i miei migliori auguri perché la cittadella della salute abbia questi cronoprogramma poi lo spiegherete ai cittadini ok grazie consigliere Daniello consigliere Ribetti prego per fortuna perché l'argomento mi aveva stimolato quindi allora e la piccina sa cosa mi riferisco allora scherzi a parte perché c'è poco su cui scherzare sarò breve mi sono reso conto che praticamente tre giorni vale con uno uno vale tre ma abbiamo superato questo problema mi ha superato questo problema perché tanto qualsiasi cosa eh venga fuori qua tutto tra luce e vino allora tra luce e vino giusto due appunti ma giusto così una chiacchierata tra amici quasi davanti a uno spritz tanto il vostro modo di amministrare la città mi sembra che sia a questi livelli tanto regolamenti non regolamenti allora io prima ho fatto una domanda mi oppongo mi consenta sto parlando io passoni lei parla quando avrà la parola allora volete che terminiamo questo consiglio in modo adeguato o volete che rimaniamo qua ancora qualche oretta a discutere e a perdere un po' di tempo allora il consigliere Ribetti ovviamente sta un po' trasceso i toni ma d'altra parte è anche capibile è anche capibile per il fatto che la mozione d'ordine è stata gettata e lui si sente defraudato di un suo diritto di poter essere di non essere stato convocato regolarmente chiedo però al consigliere Ribetti di contenere perché sta sempre parlando il consiglio comunale non siamo al bar non stiamo prendendo lo spritz prego consigliere Ribetti la ringrazio presidente ho avuto un tono di voce alto perché sa ultimamente vado increscendo e lei vedo che ha colto il motivo perché sa chi fa la nostra professione è abituato forse in maniera troppo rigorosa a quello che per qualcuno può sembrare semplicemente un insieme di norme che si chiama regolamento e io più di una volta l'ho detto se dovete stampare sta cosa a inizio di ogni tornata amministrativa per poi non rispettarlo risparmiamo i soldi perché se no andiamo in corte dei conti tanto vale fare altre cose allora ci ho detto ma non volevo tornare sul discorso di prima presidente quindi che il consigliere Passoni al posto di dire abbiamo i numeri e chi se ne frega del rispetto delle norme come hanno fatto tutti gli altri che con il massimo della decenza abbassando gli occhi hanno votato verde Passoni è inutile che fai finito di sconvolgerti te ne rendi conto anche tu che avete fatto una cosa che è veramente triste ma comunque andiamo avanti e lo ripeto lo ribadisco perché lo sapete tutti voi infatti l'unico che ha parlato sei stato tu che devi difendere che cosa un'immagine che è veramente triste comunque chiusa questa parola parentesi e vi dico anche i motivi per cui non è una questione vi dico anche i motivi per cui non è una questione che si rifà al dato di un giorno o due giorni o tre giorni quando io dico che di una cosa che ne parliamo sei, sette, otto anni non lo so quant'è prima ho detto otto no non è otto sono sette perché siamo da 2007 a 2014 benissimo sono sette anni e dopo sette anni che abbiamo in ballo questa cosa voi ci portate in fretta e furia a fare una delibera dal contenuto astruso perché neanche allora io leggo io leggo il deliberato che ci sottoponete perché qua dobbiamo capire una cosa allora o questo è un atto che ha una certa importanza e lo facciamo e cerchiamo di farlo al meglio altrimenti se come ha detto qualcuno mi sembra non vorrei poi attribuire qualche parola all'assessore Moro e me ne scuso se ho sbagliato o se sto per sbagliare se è una cosa puramente formale che si potrebbe fare a meno di fare allora evitiamo di farla perché se va fatta va fatta bene io non posso essere chiamato a votare una delibera dove mi vengono a dire volevo citare il passaggio giusto eccolo qua allo Stato non è possibile definire con esattezza l'area su cui costituire un diritto di uso già che potranno intervenire modifiche della distribuzione per esigenza di servizio e le parti hanno concordato di rendere possibile in futuro l'esatta identificazione in futuro non oggi che mi chiedete il voto delle aree oggetto di tale diritto attraverso il procedimento di integrazione del contratto ex articolo 1349 quindi già adesso non sapete che cosa dovrete andare a fare ma ci chiedete il voto bene prima ho fatto una domanda da povero ignorante della materia ho detto scusate chiedo scusa perché prima nell'inpeto si è un po' stropicciata è ancora intatta la relazioncina le note sulle indagini geognostiche per analisi terre e rocce di scavo ho chiesto questa è una cosa che serve o che non serve mi è stato risposto mi corregga dottor Biachetti se sbaglio indispensabile e anche obbligatoria credo bene allora sempre da bravo studentello che apre questa paginetta cerco di capire perché mi hanno insegnato prima di firmare guarda cosa ti fanno firmare prima di votare ascolta cosa ti fanno votare allora nel mese di agosto 2013 e ci racconta tutta la storia il geologo qua a seguito di indagini e poi la mia attenzione viene catturata da una frase in data 13 dicembre 2014 sono state eseguite 5 trincee nell'aria in questione per la raccolta dei campioni da sottoporre ad analisi ho detto 13 dicembre 2014 oggi siamo il 15 la commissione è stata fatta il 10 ma scusate ma questa cosa indispensabile e obbligatoria se in commissione non la tirava fuori i pedicini chi la faceva fare ma poi vado avanti nella lettura dico benissimo meglio tardi che mai non l'abbiamo vista in commissione io me ne sono andato per per la mentela me ne leggo la leggo oggi l'intera area è pavimentata sulla massicciata la stratigrafia non mi interessa da un esame visivo visivo dei carottaggi e delle trincee non sono state viste colorazioni anomale o olfattivamente rilevati odori dissolventi gasolio e sostanze similari un esame visivo posso farlo anch'io annuso guardo da un sopralluogo non sono stati visti pozzetti ci vuole un genio capirlo che possono far pensare alla presenza di cisterne sotterranee ma veniamo alla fine di questa relazione che ci viene a dire si rimane in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio per confermare ed approfondire quanto sopresposto e si rimanda alla relazione geoglogica e geoglienistica per la consultazione delle fotografie quindi il tecnico che avete chiamato dopo le nostre lamentelle in commissione ci viene a dire che non ci sa dire nulla perché visivamente visivamente le colorazioni non ce ne sono olfattivamente non si sente puzza di gasolio ci dice guarda che prima di darti una relazione voglio aspettare il risultato dell'analisi e voi oggi ci chiedete vieni a votare sta cosa benissimo vai in sistema facciamo il sistema a Pordenone tutti assieme ma poi vi rendete conto non vi prendete però devo farvi però i complimenti perché almeno una volta siete stati corretti nel senso che non vi volete assumere responsabilità prima di buttare la carta dell'altra delibera l'ho conservata perché volevo leggere allora nell'altra delibera avete dato atto che la presente deliberazione come fate sempre quando si fa quando si analizza qualcosa in commissione prima del tre udito richiamato visto si scrive qua cosa è successo infatti dato atto che la presente deliberazione è stata esaminata almeno in bozza dalla competente commissione consigliare questa era quella la frase grossomodo frattica perché in effetti un esame c'è invece da questa delibera che ci chiedete sommariamente di votare viene dato a sentita in merito la commissione consigliare competente neanche esaminata certo siete stati corretti cosa esaminiamo niente non c'era niente Moro l'assessore Moro l'altra volta ha detto dopo le scuse dell'assessore Mazzer che ha detto non c'è nulla di urgente non c'è nulla di relazione geologica che è arrivata tre giorni dopo è stata richiesta geognostica non sei termini tecnici allora io ritengo che si possa fare tutto in questo mondo buon senso cattivo senso quello che volete però se si fa qualcosa facciamolo almeno relativamente bene ci chiedete di votare qualcosa di cui non si sa nulla dobbiamo farlo di fretta senza motivo di fretta perché fretta non ce n'è come ha detto giustamente il dottor Delben avremo un altro interlocutore con cui andremo a parlare ed è giusto che questa persona chiedo scusa che questa persona andrà a esprimere ci assumerà le sue responsabilità come noi ci dovremo assumere le nostre però io ritengo che ci debba essere un minimo di decenza e credo che la decenza questa sera sia stata oltrepassata in maniera veramente ai limiti ai limiti ai limiti del ridicolo ecco e concludo riferendomi all'assessore riferendomi all'assessore Mazzer perché l'altra sera in commissione voleva forse nel suo modo di chiedere tra virgolette scusa degli errori chi fa sbaglia l'assessore quindi è già stato però quando lei ha detto dobbiamo superarlo forse un po' riprendendo quello che ha detto stasera Zille per fare sistema perché non perdere tempo sei mesi abbiamo già persi tanti ecco io francamente non credo che e non voglio e non mi sento per niente in colpa se noi questa delibera con una mano sul cuore e con l'onestà intellettuale la rimandiamo indietro e la rivadiamo quando avremo tutte le carte perché se si è perso del tempo non è certo imputabile la minoranza che fa notare qualcosa che è sotto gli occhi di tutti se invece volete andare avanti a capofitto a fare delle corse contro delle corse che corse non ce ne sono no sindaco non mi fa sì perché lei il 10 marzo doveva andare a firmare un accordo di programma poteva essere partito è stata una scelta politica diversa però non mi venga a parlare di fretta perché se lei mi parla di fretta io dico che il sindaco della mia città dopo un percorso che va avanti da 7 anni non può dimenticarsi una roba simile è un'amministrazione è una maggioranza ma può supportare un errore di questo tipo grazie silenzio grazie consigliere consigliere del ben prego silenzio per cortesia prego grazie anche io sono un po' in difficoltà ad analizzare questa proposta perché perché quello che è scritto sui documenti che possono essere consultati adesso ci ha proposto anche un emendamento diciamo del quale i contenuti li vedo adesso non perché ero distratto ma perché ero qua e penso che sia importante quello che è scritto in italico che dice le capacità edificatorie permettono di ipotizzare un ulteriore sviluppo dell'aria questo primo stragio funzionale può essere ragionevolmente considerato una realizzazione intermedia verso la edificazione completa delle opere necessarie alle parti come inizialmente ipotizzate ne consegue che la convenzione del 2007 potrà essere completamente rispettata con la realizzazione di un secondo stragio funzionale quindi vuol dire che in ipotesi noi qui faremo perché forse non abbiamo visto bene il progetto della cittadella della salute ci sarà un primo progetto poi ci sarà un primo un altro progetto Maria ogni brava amministrazione l'avrebbe illustrato in apertura ci sarà una prima parte una prima parte seconda parte e da quel che capire sembrerebbe che il comune potrebbe avere a disposizione per realizzare l'intesa solo nella seconda parte lo spazio per i servizi socio assistenziali e per la parte della farmacia la domanda è questa ipotesi di costruire in due stralci posporrà la disponibilità del comune dei locali per i propri servizi della farmacia o no no oppure quale potrà essere invece la seconda parte che si integra e che si capisce in quello che deve essere fatto punto di domanda va bene grazie consigliere del ben dopo dopo le repliche consigliere bianchini grazie presidente io ringrazio il consigliere del ben perché ogni tanto almeno gli interventi che vengono fatti in contrapposizione sono utili e necessari invece volevo rubare un minuto a questo consiglio perché io non ce la faccio più ad accettare che il dottor Ribetti e la dottoressa Daniello strumentalizzano ogni cosa e riporto il motivo di questa strumentalizzazione perché come dice ah è sparito ah ok il dottore che è andato via beh gli arriverà insomma come dice il dottor Ribetti ogni volta non voglio parlare ma mi mi è prudolore mi è venuto il prurito all'orecchio alla gamba e ho dovuto intervenire sono dovuto intervenire l'ho chiamata nel frattempo anche a Daniello Presidente glielo racconterò e non mi sei parata a sede perché visto che la cosa incredibile è che qui perdiamo tempo per delle cose e di andare decenza oltrepassata mano sul cuore e altro perché dico che strumentalizza e che hanno strumentalizzato questo momento perché non c'erano neanche in commissione in commissione il il tecnico Bianchette ha detto chiaro e tondo che aveva penso lui stesso comunque verificato quanto oggi detto attraverso questi carotaggi e che aspettava la risposta da parte delle analisi e non l'hanno e non hanno fatto questa cosa postuma ma l'hanno fatta prima della commissione l'ha spiegato in commissione ma Ribetti che è andato via perché ovviamente ogni volta gli prude l'orecchio e la consigliera Daniello che neanche c'era forse c'era ma pensava ad altro non l'ha neanche ascoltato e ogni volta sono qui a santificare a dire loro sono hanno non si può dire hanno un po' stufato quindi è ora di finirla e andiamo avanti grazie grazie consiglio Bianchini nessun altro iscritto passiamo al sec prego consiglio cantiamo ce la suoniamo ce la cantiamo non mi spiace che sia andato via Ribetti ma forse resterà resterà agli atti perché se di obbligatorio c'è un'analisi queste analisi sono state fatte cioè quello che ha chiesto Pedicini e che giustamente sono state aggiunte vale a dire sulla qualità del sottosuolo dal punto di vista inquinamento non sono obbligatorie sono solo una precauzione cioè qui stiamo confondendo il sacco con il problema qualcuno gioca e purtroppo ecco che è rientrato il caro il caro dottor Ribetti sta equivocando volutamente ovviamente ci vuole far perdere tempo e magari superare le 24 così poi potrà dire che abbiamo utilizzato due gettoni non uno solo ho finito ma per tutto quello che era obbligatorio è stato fatto evidentemente Ribetti non ha voluto assistere alla discussione in commissione quindi non è bene informato al riguardo scusami va bene grazie consigliere del santo grazie consigliere del santo bene passiamo al secondo intervento non vedo nessun altro scritto secondo intervento Piching consigliere Piching ha appena parlato grazie 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 presidente mi dispiace intervenire a quest'ora però mi sento anche no non mi prudono le orecchie non mi fanno male i piedi e neanche ho mal di testa e mi sento come corazza in consiglio regionale quando qui sedeva in consiglio comunale e la sedeva in consiglio regionale e faceva gli interventi e presentava emendamenti chilometrici alle 4 e mezza della mattina durante la finanziaria siccome non sono le 4 e mezza due minuti li possiamo perdere per dire due cose sostanzialmente che io ho partecipato alla commissione e come ben sa l'assessore Toffolo faccio sempre una fatica terribile a partecipare alla seconda commissione mi impegno molto ma mi sono impegnata in passare ma non ce la faccio però insomma lì questa era una materia un po' meno urbanistica un pochino più come dire o forse più urbanistica non lo so non voglio dire cose strane ma insomma si parlava non di varianti almeno questo l'ho capito no assessore ecco allora battute a parte volevo dire che prendiamo atto questa sera che rispetto a ciò che è successo in commissione si è cambiato completamente registro e ne prende atto anche lei assessore Mazzer vice sindaco perché rispetto a quella che è stata rispetto a quello che è stato il suo esordio ovvero guardate scusate siamo arrivati in ritardo caro presidente dal santo e io posso anche ritirare la delibera questa sera ci troviamo di fronte a sole certezze da parte dell'amministrazione va tutto bene abbiamo rispettato facciamo questa cosa perché altrimenti chissà che cosa succede non succede niente perché dal primo di gennaio c'è un direttore generale sanitario unico che fa questo mestiere da sempre e che conosce le cose probabilmente tanto quanto questo della SS se non addirittura di più perché lo fa da una vita non so se è bravo o non è bravo non lo conosco personalmente però immagino che se è stato riconfermato se faceva il direttore prima con un colore politico e lo rifà adesso con un altro colore politico questa cosa mi porta a dire che sicuramente è una persona in gamba o quantomeno in grado di fare quello che deve fare per cui la questione del tempo è un'assoluta presa in giro è legittimo da parte dell'amministrazione andare fino in fondo non è legittimo però continuare su questa partita perché non è come diceva prima il collega consigliere Bianchini le continue strumentalizzazioni semplicemente no semplicemente ripeto quello che ha detto Ribetti se c'è un regolamento lo guardiamo se non c'è facciamo a meno se no se con la forza dei numeri facciamo quello che vogliamo benissimo possiamo anche andare via sai non c'è nessun problema possiamo andare via noi invece rimaniamo qua almeno parliamo qualche minuto e diciamo la nostra fino in fondo sull'aspetto dei tempi io ho cercato di stare attenta in commissione e ho sentito quello che ha detto il tecnico comunale però Bianchetto sì non volevo confondere il nome con Bianchetto e chiedo scusa però sta di fatto che il documento che prima il collega Ribetti è andato a prendere porta delle date porta il 13 del 12 porta il 15 del 12 quello è datato oggi e non è nemmeno firmato quindi probabilmente è stato inviato via mail allora va bene tutto non ci formalizziamo su niente non strumentalizziamo niente ma non diciamo che le cose sono sempre comunque in regola o comunque le dobbiamo far apparire tali anche se non lo sono sulle legittimità mettiamo come dire la mano sul fuoco perché è evidente che la copertura che ci ha dato il segretario comunale c'è però le cose stanno in questi termini e ripeto e ribadisco il ritardo di 15 giorni o di un mese è una cosa che mi fa ridere non ritorno sulla partita dei sette anni perché probabilmente non sono i sette non mi faccio tirare per la giacca perché sulla cittadella della salute chi stava seduto in quella giunta e adesso non sta più seduto ci ha giocato abbastanza e per decenza mi fermo qua perché non è presente e non c'è più ma queste cose chi è più vecchio le sa di questo consiglio chi è un po' meno vecchio non le sa sta di fatto che c'è stata una dimenticanza o no Mazzar prendiamo atto di una dimenticanza c'è stato detto che andando dal notaio se siamo accorti che non avevamo trascritto per dirla in Pordenonese non avevamo fatto il passaggio in consiglio allora prendiamo atto di questo prendiamo atto di questo non ergiamoci a salvatori della patria perché guadagniamo un mese ok facciamo fate quello che dovete fare però senza grandi trionfalismi per quanto mi concerne il voto sarà di astensione sulla delibera e anche sull'emendamento e a favore rispetto all'emendamento del collega Ribetti grazie grazie consigliere del ben prego intervento speravo di ricevere una risposta ad ogni modo noi abbiamo oggi qui un'affermazione che dice la città della salute sarà fatta in due stralci ragionevolmente il comune ha più potere contrattuale per esigere qualcosa dalla nuova azienda sanitaria finché noi stiamo discutendo di questo cioè in fase di preparazione della convenzione con la prossima azienda sanitaria quello che mi preoccupa è che visto che il comune si aspetta come ho detto prima la sede dei servizi socio assistenziali e la farmacia sia una prima assegnazione del comune rispetto all'altro di due lotti poi sobbalzo grazie per il documento di questo dato quando dicono che tra le funzioni della cittadella della salute trovo scritto RSA e hospice è il documento che mi ha dato ok allora il consiglio comunale ha un deficit di informazione no ok che nasce che nasce tanti allora non cambia assolutamente niente che si faccia l'azione della salute è un interesse per tutti conoscere esattamente le cose è un interesse per tutti le informazioni che abbiamo oggi sono per dire non perfettamente ordinate per le comprensioni ordinarie non è assolutamente 30 giorni che cambia la vita per nessuno anzi potremmo fare gli auguri insieme a quelli che verranno dopo e a questo punto chiedo cortesemente al sindaco di usare un attimo il suo solito buonsenso per dire ne parliamo alla prossima volta perché secondo me questo deficit di informazione è un deficit che non fa bene a nessuno grazie consigliere del ben consigliere ribetti prego grazie presidente beh finalmente sono contento che il consigliere del bene sia accorto finalmente appieno che manca forse c'è un deficit informativo in questo consiglio comunale perché ogni tanto si scopre sempre qualcosa di nuovo anche a Daniello che è andata via adesso a me dispiace fare forse la figura del puntiglioso eccetera però io ritengo che veramente siano tanti ma tanti i punti di debolezza di questa delibera perché passi ripeto passi il discorso del giorno più del giorno meno assessore mazzer a cui devo a cui devo forse devo dire devo dare devo dare atto all'assessore mazzer perché tante volte ho detto che siete un'amministrazione a mio modo di vedere arrogante sbagliato e l'assessore mazzer facendo un mea culpa forse anche un po' giocando su questo in commissione ha detto sì abbiamo sbagliato chiesto scusa all'inizio e ha avuto un comportamento a mio modo di vedere a differenza di qualche altro esponente della maggioranza molto lineare e molto chiaro perché l'assessore mazza ha detto chiaramente ha riconosciuto a problema di urgenza non ce n'era b ha detto lo ritiriamo ha detto anche ha detto cosa qua lo ritiriamo lo portiamo via ed era a mio modo di vedere la cosa migliore per riuscire veramente tutti a fare quel sistema a Pordenone cui faceva riferimento prima l'assessore Zille di cui ci hanno parlato tante volte anche gli altri ma io ritengo che una città città capoluogo tra parentesi non stiamo parlando di un paesino dove la questione dell'ospedale è già stata vissuta in maniera traumatica ci siamo spaccati in quest'aula tante volte ospedale in Comina ospedale in Viale Monterreale 24 come diceva il dottor del Ben che sarà contento cioè è un argomento veramente che ha interessato e interessa abbiamo due diversi schieramenti c'è chi continua a dire abbiamo perso un'occasione come mai siamo stati noi come chi dice chi recrimina no abbiamo fatto una vittoria benissimo saranno i posteri a dire chi ha fatto bene ma se non troviamo su queste piccole cose la capacità di superare quelli che possono essere gli errori anche per portare all'esterno e far vedere alla città che lavoriamo veramente assieme per qualcosa ma secondo voi che credibilità possiamo dare chi domani e io forse è l'unica volta che dico che la scelta dell'amministrazione di levare la deregistrazione per poter rivedere i consigli è stata una scelta stavolta giusta ma non perché per qualcosa perché se domani esce sulla stampa quello che è uscito quello di cui abbiamo parlato stasera e i cittadini pordenonesi vanno a vedere questa cosa cosa vedono? vedono il sottoscritto che si arrabbia per una questione di un giorno dovevano quegli altri che dicono no perché a me sbagliamo tanto abbiamo i numeri andiamo avanti io stesso ma e allora e allora io credo io credo che non ci sia che non diamo che non diamo una bella immagine non diamo immagine di un'amministrazione di un insieme di persone che siano di maggioranza che siano di opposizione che lavorano per qualcosa perché l'ho detto mille volte il sessore lo sa la mia la mia la nostra quello che parlo anche credo a nome dei colleghi non è un'opposizione strumentale tante volte lo facciamo ma più così per ridere qualche volta puoi uscire io ho detto mille volte ma scusate scusate la biblioteca è in piazza della Motta lei se lo ricorda chi ha fatto un'interrogazione sembrava che parlasse il mezzo matto adesso non si possono più fare perché sono i vincoli dati dal patto di stabilità e non ci sono le risorse ma se quella volta faccio un esempio perché se quella volta al posto di prendere tutto quanto no 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 l'amministrazione avesse avuto la decenza di ascoltare ma perché l'ho detta io ma ci sono tante altre buone cose ma è che sono uscita qua di dire sì guarda che forse questa roba non è proprio tanto sbagliata a quest'ora avremmo lo spazio per i giudici di pace una giustizia con delle sedi serie non la giustizia l'edificio dei giudici di pace che le sa benissimo non essere la norma allora quando dico lavoriamo assieme prendete noi tanto amministrate voi è chiaro che il merito è vostro che siete voi che firmate gli atti però se al posto di bocciare voi aprioristicamente tutto quello che si dice da questa parte e noi magari prendere con maggiore spirito benevolo quello che ci viene proposto lei capisce che forse la figura che faremo all'esterno sembra una figura molto migliore e quindi allora 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 sì che lei poteva venire da me e dire ragazzi abbiamo sbagliato e sì che io potevo dire certo se sono ammazza abbiamo sbagliato ma per il bene della città andiamo avanti per il bene della città superiamo questo problema fin quando non facciamo questo passo io credo che continueremo a restare tutti in sua propria posizione e non fare il bene della città ma fare il bene di piccoli bene il bene di nessuno fare mantenere dei piccoli orticelli non si sa bene rivolti a che cosa ecco quindi io rinnovo quello che può essere concludo il consigliere quanti minuti ho chiedo scusa ah 5 finito ma scusi per presentare invece il mio ammendamento lo presento dopo no l'ha presentato se vuole avrebbe dovuto dire qualcosa ma lo presento adesso telegrafica no se no comunque lo mettiamo ai voti eh no ma devo presentarlo come facciamo mettiamo in votazione senza presentare allora se mi da un minuto lo presento in questo momento no non lo ho presentato allora il mio ammendamento il mio ammendamento allora parlo e mi rivolgo all'amministrazione ha un'unica ha un'unica funzione se siete convinti se siete convinti di aver fatto qualcosa di giusto non avrete problemi a riportare nel testo della delibera quello che è successo stasera al mio modo di vedere non è né giusto né legittimo quello che è successo però per onestà intellettuale se siete veramente convinti di quelli che hanno votato contro dovrebbero votare questo ammendamento perché non fa altro che dire quello che avete votato voi signori grazie grazie consigliere consigliere Piccinato prego grazie grazie presidente trovo la discussione di questa sera abbastanza sterile per quanto riguarda anche il contenuto però rimane il fatto che quello che è successo insomma non dia chiaramente un buon esempio di amministrazione di comportamento per quanto riguarda e trasparenza per quanto riguarda le informazioni e la fattibilità nella gestione appunto dell'interesse pubblico nel senso che già nel io credo che insomma la funzione di un consigliere comunale debba prendere debba essere appunto messa in condizione di poter lavorare quindi avere anche il materiale in oggetto per tempo e quindi non certo all'ultimo secondo o addirittura di con delle verifiche che vengono fatte dopo la commissione competente su richiesta di un consigliere comunale in tale commissione quindi un fatto di una negligenza che denota come ci si possa in un certo modo comportare che appunto non ha non giova certo all'immagine di questa di questa amministrazione io io credo che se si voglia portare e rispolverare l'immagine di città di una città come Pordenone è importante anche guardare le questioni importanti come quella dell'ospedale della cittadella della salute io credo che non sia una questione che si guarda dall'oggi al domani ma sia importante guardarla nel suo complesso già qua le idee sono poche e ben confuse ora io credo che serva serva veramente dare una rispolverata a quello che è il progetto complessivo anche per valutarlo nella sua interezza non credo che un'analisi da bar pressapochista possa garantire tutto quello che veramente serve al benessere dei cittadini di Pordenone è chiaro che è nel nostro interesse nell'interesse dei cittadini quello di approfondire una questione come questa che veramente non può essere nemmeno votata stasera dal mio punto di vista perché mancano anche le analisi cioè rendiamoci conto che anche nella delibera stessa grazie grazie presidente anche nella delibera stessa ci sono delle questioni che rimangono irrisolte e che quindi non non trovo nemmeno che cosa votiamo votiamo qualcosa che non sappiamo che forse domani ci sarà la risposta forse le analisi diranno che si bibubò no io non c'è chiarezza non c'è c'è la buona intenzione di portare di conferire a Pordenone la cittadella della salute chiaro una cosa che sicuramente serve alla cittadinanza che deve essere fatta ma deve essere anche fatto in maniera in maniera chiara e puntuale non certo con questo pressapochismo che è davvero assolutamente anche nei confronti appunto dei consiglieri comunali non adeguato adesso io al di là abbiamo qua gli avvocati che si impuntano con questi regolamenti che sembrano qualcosa di vetusto ormai il renzismo sta cancellando qualsiasi tipo di consesso elezione dopo di lui adesso non ci sono neanche più le primarie per cui sono diventate un qualcosa di inutile ma grazie presidente però ora io credo che insomma se ci sono dei regolamenti degli statuti vadano anche applicati nella maniera migliore perché come sostiene anche il presidente sempre siano fatti a tutela della minoranza quindi nel momento in cui poi vengono fatti su e raffazzonati delle questioni come queste credo che non si dia il buon esempio e giustamente diceva prima il collega Rivetti questa questione veramente lasciare il tempo che trova e forse anche meglio che la cittadinanza non sappia che c'è stato questo colpevole ritardo dopo veramente anni e anni in cui c'era stato il tempo per poterlo fare quindi adesso ribadisco insomma che quello che è stato fatto chiaramente voterò a favore l'emendamento proposto dal collega Rivetti per quanto riguarda il resto penso proprio che mi asterrò con una stensione benevola per quanto riguarda il progetto ma non certo per quanto riguarda il metodo che è stato portato avanti grazie grazie consigliere bene nessun altro iscritto pertanto dichiaro chiuso la discussione e do la parola all'amministrazione che vuole intervenire l'assessore Mazzer prego allora cerco di essere telegrafico e poi io chiedo che se responsabilmente possiamo visto tutto questo tempo rinunciare anche alle dichiarazioni di voto e votare direttamente per non sforare la mezzanotte però è sempre lasciato alla responsabilità di ognuno di noi fare queste cose la commissione la commissione è stata convocata io sono venuto in commissione soprattutto perché c'erano le circoscrizioni che sono state convocate in maniera ancora più rituale e hanno dato il loro parere la commissione quando ha deciso di andare avanti lo ha deciso anche con molti componenti di minoranza e avremmo fatto un torto a molta più gente se avessimo dato ragione a Ribetti e a Marapicini non potevamo farlo perché avremmo dato torto gno anche al dottor Charmé anche a Matteo Loro che rappresentava la Sonia Daniello anche a Francesca Cardin quindi non c'è un atto di arroganza c'è stata una richiesta una volta accettata non si gioca più si viene qua e si sceglie c'è una delibera il terreno il terreno i servizi noi il dottor Bianchetti è intervenuto non come dipendente del comune ma come responsabile unico del procedimento dell'azienda sanitaria gli diamo la possibilità di approvare questo progetto e dopo ce lo vengono a spiegare gli diamo la possibilità di prenderne atto e dire questo è il progetto che vogliamo e poi verranno a spiegarcelo questo è stato l'impegno in commissione quando lo approvano vengono a spiegarci il progetto noi il terreno se troviamo la bomba atomica sotto faremo come abbiamo fatto con il terreno del parcheggio di via Vallona quando abbiamo trovato l'inquinamento abbiamo chiamato la proprietaria precedente che aveva inquinato gli abbiamo detto adesso disinquini tu non ancora che lo facciamo noi lo fa l'azienda direttamente questa cosa qua noi l'abbiamo soltanto passato così come l'abbiamo trovato il terreno non l'abbiamo inquinato quindi il progetto ci sarà quando l'avrà approvato e ci sarà qualche parere magari su quel progetto da parte degli organi competenti poi l'azienda lo approva lo fa suo e ce lo presenterà perché dell'azienda il progetto tolti questi dubbi da quanto tempo diciamo in quel terreno noi vorremmo che l'azienda lo cediamo l'azienda sanitaria perché ci faccia ci dia gli spazi per avere dei servizi nostri quali lo vedremo nel progetto cioè se questa cosa ha bisogno di ulteriore consapevolezza altro che allora veramente il meglio è nemico del bene e in questo caso sono troppi gli anni che sono passati quel finanziamento è fermo da troppo tempo e il fatto di non doverlo discutere di nuovo con un'altra organizzazione con un'altra dirigenza credo che sia un vantaggio della comunità perché poniamo un vincolo per sempre che è un vincolo positivo per la nostra comunità allora premetto che non ho la presunzione di far cambiare idea a nessuno rispetto alle tempistiche vorrei semplicemente chiarire che ammesso e concesso e lo ammettiamo perché lo ha ammesso anche l'assessore Mazzer in commissione che probabilmente qualche errore nella procedura c'è stato e mi riferisco al fatto che questa delibera poteva essere probabilmente portata prima ma parlo di qualche mese prima questo non avrebbe assolutamente modificato alcunché rispetto alle tempistiche del cronoprogramma perché il progetto definitivo il progetto preliminare era già stato approvato a dicembre del 2013 dall'azienda sanitaria e il progetto definitivo è in fine redazione in questi giorni per cui entro la fine di questo mese sarà consegnato con qualche mese di anticipo rispetto al cronoprogramma per cui questa delibera l'urgenza sta nel fatto che se la presentiamo adesso riusciamo a mantenere a non perdere quei due mesi tre che abbiamo guadagnato altrimenti li avremo persi per cui questa è l'urgenza e noi non ci sentiamo proprio per mutuare quello che ho sentito dire poco fa avere a cuore l'interesse pubblico allora avere a cuore l'interesse pubblico a mio avviso almeno io parlo per quanto mi riguarda e credo di poter parlare anche a nome di tutta l'amministrazione avere a cuore l'interesse pubblico è quello di non porre ulteriore tempo fra mezzo alle fasi di progettazioni che hanno un iter che è slegato da quello della cessione dell'area ed è quello che noi ci stiamo impegnando a fare oggi rispetto alla definizione dell'area da occupare che ho sentito allora le aree allora l'area è stata già definita in termini di percentuale rispetto alla totale alla totalità della superficie è ovvio che finché il lavoro non è terminato e cioè finché l'edificio non sarà edificato non sarà possibile citare in questa fase quali sono le stanze che verranno occupate quali sono gli spazi perché potrebbero intervenire dei cambiamenti in fase di realizzazione dell'opera anche minimali che andrebbero ad inficiare il valore di questa delibera per cui siccome questa delibera nel contenuto non è uno scambio in termini economici ma è uno scambio in termini di di edificio non poteva essere non poteva essere spero che non mi venga attribuito la colpa di aver passato la mezzanotte no devo farmi difendere da ribetti no io non vorrei dire qualcosa che non è opportuno dire per cui volevo chiarire i due quesiti che sono stati posti all'amministrazione e io ho l'obbligo di rispondere all'amministrazione rispetto alla relazione geologica potrebbe rispondervi il dottor Bianchette vi rispondo io velocemente la relazione geologica è la parte obbligatoria in una progettazione ed è stata eseguita per tempo la verifica rispetto all'inquinamento era già prevista perché credo nessuno di voi possa pensare che dal giorno 15 dal giorno 10 o 11 di dicembre il giorno in cui abbiamo fatto la commissione abbiamo terminato la sera fosse possibile organizzare una azione del tipo che è stata organizzata cioè l'intervento il sabato di sabato tra l'altro per fare là i prelievi per fare i carottaggi per l'analisi chimica era prevista ancora nel mese di novembre dopodiché nel mese di novembre siccome l'area viene utilizzata attualmente dall'elicottero per l'atterrare si è dovuta cercare una giornata che era libera da questo uso ed era il 13 di dicembre casualmente è capitato è capitato casualmente perché voi credo penso credi a non potete credere che qualcuno viene lì a fare un'analisi del genere in due giorni di ordine per cui non è conseguente all'interrogazione che era corretta come domanda da parte del commissario e del consigliere Pedicini ma era già prevista per tempo e si è dovuta spostare all'ultimo giorno utile proprio per il problema dell'elicottero che atterra in quell'area punto bene grazie bene passiamo alla dichiarazione di voto nessuno consigliere del ben prego silenzio per cortogia diciamo che il dibattito è stato ampio e che le informazioni sulla progettualità di questo lavoro non ci sono allora tutto il tempo che è passato dal 2007 a oggi non ha neanche messo sul piatto la possibilità eventualmente di migliorare un primo un primo progetto un progetto che vedeva l'ospedale altrove rispetto a quello che adesso che prevedeva un sistema sanitario diverso da quello che è oggi dove c'è l'integrazione fra l'attività ospedaliere e l'attività territoriale allora l'inserimento la realizzazione di questa città della salute ha senso se almeno per primo dà lo spazio ai servizi comunali di mettere insieme i servizi sociosanitari e di mettere insieme la disponibilità per la farmacia comunale allora abbiamo ancora il tempo di chiedere questo dopo inaspettatamente è detto che sarà una costruzione a lotti scegliamo noi che abbiamo ancora anche se in uso temporaneo il il terreno la tempo le nostre scelte perché quello che si fa sia a interesse della collettività generale e anche a quella di Pordenone allora ancora una volta chiedo cortesemente di darci più informazioni perché questo passaggio così importante possa avere molta più condivisione di quello che magari viene stasera se ci sarà una forzatura sul voto ovviamente se votate io mi asterrò dal voto non farò un voto di astensione per carenza di informazione l'assessore Romoro dice che dopo le darà tutte le informazioni che lei desidera al microfono al proiettore no perché perché adesso non può più intervenire l'amministrazione vabbè consigliere consigliere ribetti prego no ma perché scusi io voglio io voglio essere il più pacifico possibile però io credo che ci sia un limite senza tutto che ci sia un consigliere della maggioranza che mi dico prego non dalle le spiegazioni a un assessore ma stiamo scherzando c'è un consigliere minoranza di minoranza scusateci perché lo possono amministrare tutti che chiede dei chiarimenti legittimi e sacrosanti c'è l'amministrazione stessa che ci porta un emendamento perché ha sbagliato a fare la sua cosa la sua delibera che ci chiede di votare e nell'ammendamento stesso ci dice che è passata in commissione passato a che cosa un testo sbagliato in commissione un testo errato bene il consigliere chiede e arriva un consigliere di maggioranza che dice no no a fronte dell'assessore che vuole darci chiarimenti stasera perché un consigliere di maggioranza seduto fuori dal suo posto decide che dobbiamo andare a casa perché abbiamo superato la mezzanotte può sparare fino alle due del mattino per me non è un problema perché chiarimenti li chiedevo prima e li chiedo adesso se lei sa darmeli perché ripeto e ribadisco che è un principio di civiltà quando uno mi chiede un voto mi spiega e io poi glielo do anche con piacere se invece dobbiamo attare a luce e vino sulla fiducia poi ce lo spiegherete dopo un domani faremo l'accordo nell'atto dobbiamo chiedere il posto per la farmacia quante stanze quante ce le danno lo sai tu è grande è piccolo ci danno una buona posizione o ci mettono scusate il termine in culo ai lupi non lo sappiamo però intanto abbiamo votato di fretta e furia abbiamo votato perché così tutti sono contenti per una fretta che non esiste Bianchini tu non sei mai stato dentro a sto punto quello che devo fare io sono andato a fuori ma ti ho tessito se poi mi allora io dico io credo che ci sia veramente un minimo di rispetto che è dovuto per tutti i ruoli ma veramente ma io credo che sia il minimo il minimo di tutto ma non ci dite niente venite qua ci accusate che vi veniamo a fare delle domande e poi ci dite anche votate senza neanche darci spiegazioni dite cosa volete fateci mettere nell'urna veniamo là metti alla X e ce ne andiamo io credo no ovviamente io credo che ci sia un limite a tutto allora ribadisco questa cosa non lo so non so se faccio bene a votare contro se faccio male a votare contro perché non ho ancora capito cosa devo fare io so solo che c'era l'area della cittadella della salute di cui ne parliamo da un sacco di tempo so solo che ci sono delle analisi che mi vengono a dire che potrebbe esserci che potrebbero essere buone quelle rocce però non si sa perché anche il geologo si riserva di dirmelo dopo e se quando arrivano i risultati analisi non lo so sparo X scopriamo che quell'area è tutta da bonificare quei costi a chi andranno in carico lo sappiamo tu lo sai del bene io non lo so so già quanto mi costa sta cosa non lo so perché in questo momento bisogna fare una fretta che non c'è allora se questo è il modo che pensate che sia corretto di amministrare continuate così fatelo tanto i numeri vi dà ragione potete fare quello che volete però quello che non potete fare è vietarmi di parlare se io voglio parlare 5 minuti a mezzanotte meno 1 arrivare a mezzanotte 4 io ci parlo se voglio stare qua fino a 1 di notte perché voglio che il mio assessore mi spieghi come sono le cose io ho diritto di chiederlo e quello che non consento è che sia un consigliere di maggioranza dall'esterno seduto lì a guardarsi il consiglio veniva a dire no andiamo a casa e questo nessuno ve lo può vietare quindi se l'assessore Romor è in grado vuole decide di dare la spiegazione così tagliamo la testa al tono che qua non stiamo per arrivare oltre mezzanotte ci chiedete un voto di fretta benissimo siamo qua per ascoltare e allora mi spieghi mi spieghi quello che volete fare siamo qua fino alle 2 assessore se lei sa cosa ci viene a chiedere se neanche lei lo sa come è probabile perché gli uffici non glielo hanno ancora detto non l'avete ancora capito dovete ancora fare una progettazione non lo so sto ipotizzando allora non lo dica però se lei mi chiede un voto io vorrei sapere se voto bene o voto male o se mi astengo o se non voto e non credo e non credo di chiedere la luna ma tanto a voi quello che interessa cos'è? pigiare il pulsantino verde possibilmente senza parlare bianchini docet però voto contrario va bene altre dichiarazioni di voto non vedono bianchini prego siccome la mezzanotte è superata a posto prendo la parola e perché mentre al consigliere Ribetti interessa superare la mezzanotte a noi no quindi noi stia zitto visto che io ho stato zitto quando ho parlato a lei grazie in questo momento noi votiamo ovviamente a favore e in più dichiariamo che il fiume rinuncia al secondo gestione di presenza grazie va bene nessun altro iscritto per la dichiarazione di voto prego consigliere per il partito democratico voto favorevole alla delibera voto negativo appunto l'emendamento presentato dal consigliere Ribetti anche il partito democratico il gruppo del partito democratico rinuncia al gettone di presenza in più scattato dopo la mezzanotte grazie grazie consigliere Freschi prego grazie presidente solo per ribadire che il nostro voto sarà favorevole e che anche noi rinunciamo al secondo gettone di presenza grazie bene nessun altro iscritto per la dichiarazione di voto dichiaro chiuso la dichiarazione di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione mettiamo in votazione prima l'emendamento presentato dal consigliere Ribetti che voi avete ricevuto in coppia bene stiamo votando l'emendamento dichiaro aperte le operazioni di voto no ho detto l'emendamento del consigliere Ribetti penso di averlo detto chiaramente adesso ecco bene votate grazie che ero chiuso le operazioni di voto legge la votazione seguente presenti 29 votanti 27 maggioranza 14 favorevoli 3 contrari 23 astenuti 1 l'emendamento viene respinto prego ora l'emendamento dell'amministrazione non si mette ai voti si mette ai voti la delibera così come è emendata non si vota l'emendamento allora pongo in votazione la deliberazione la prossima deliberazione 47 2014 città